Il duello Erano le otto del mattino, ossia l'ora in cui gli ufficiali, i funzionari e i forestieri, abitualmente dopo una notte calda e soffocante, facevano il bagno nel mare e poi si recavano al padiglione per sorbire il caffè o il tè. Ivan Andrievich Lajewski, un uomo giovane sui 28 anni, biondo piuttosto magro, con un berretto da funzionario del Ministero delle Finanze ed in pantofole, recandosi al bagno, incontrò sulla spiaggia molti conoscenti e fra essi il suo amico Samuilenko, medico militare. Il dottore Samuilenko con la sua grossa testa rasata, senza collo, rosso in viso, nasuto, con folte sopracciglia nere e con fedine grigie, grasso e floscio e, per giunta con una voce rauca di basso, produceva su ogni nuovo arrivato in quella cittadina una scradevole impressione di soldataccio e di urlone. Ma bastavano due o tre giorni, dopo il primo incontro, perché il suo volto cominciasse a sembrare non solo straordinariamente buono e simpatico, ma persino bello. Nonostante la sua apparenza goffa e il suo modo di fare rude e rozzo, egli era un uomo pacifico, molto cordiale e servizievole. In città egli era con tutti amico, pronto a imprestare denari, a curare tutti, a combinare matrimoni, a pacificare i litiganti e ad organizzare merende e scampagnate, durante le quali eccelleva nel preparare lo shaslik e una gustosa zuppa di cefali. Egli era perennemente preoccupato per qualcuno ed aveva sempre da chiedere favori per i suoi protetti, manifestando nel contempo una costante gioia. L'opinione generale lo riteneva per un uomo senza peccati e infatti egli non aveva che due debolezze. Si vergognava della propria bontà e cercava di mascherarla con gli sguardi severi e con la rozzezza dei modi ed amava che gli infermieri e i soldati lo chiamassero vostra eccellenza, mentre non era che consigliere di stato e quindi quel titolo non gli spettava. Rispondimi a una domanda, Alessandro Davidovich. Cominciò a dire Laievski quando tutti e due furono entrati nell'acqua fino alle spalle. Ammettiamo che tu abbia amato una donna e tu ti sia unito a lei per vivere insieme. Diciamo due anni e poi, come accade, tu ti sia disamorato e abbia cominciato a sentire che essa è divenuta per te un'estranea. Come ti comporteresti in un caso simile? Assai semplicemente e dirai vattene cara in qualcuna delle quattro parti del mondo. Ecco tutto quello che ci sarebbe da dire. È facile dirlo. E se lei non sapesse dove andare? Se fosse una donna sola, senza parenti, senza un soldo e non sapesse lavorare. Ebbene, le chiuderei la bocca una volta per sempre con un biglietto da 500 oppure le assegnerai 25 rubli al mese e null'altro. Vedi com'è semplice. Ammettiamo che tu disponga tanto del biglietto da 500 come dei 25 rubli al mese, ma la donna di cui io ti parlo è intelligente ed orgogliosa. Oseresti lo stesso offrirle del denaro? E in quale forma? Samoilenko intendeva rispondere qualche cosa, ma proprio in quel momento una grossa ondata li ricoprì entrambi per infrangersi poi contro la sponda e rotolare con grande sciabordio sopra la ghiaia. Gli amici uscirono sulla riva e cominciarono a vestirsi. Certo bisogna essere saggi per vivere con una donna quando non la si ama, disse Samoilenko scuotendo la sabbia che era penetrata nel suo stivale. Però Carovania bisogna ragionare con umanità. Se toccasse a me un caso simile non le farai neanche intravedere di aver cessato di amarla e vivrai con lei sino alla morte. Un tratto egli si vergognò delle proprie parole, si riprese e disse, e per me si può stare anche senza donne, le manderei tutte al diavolo. Gli amici finirono di vestirsi e andarono al padiglione dove Samoilenko era come se fosse di casa e per lui avevano stoviglie particolari. Ogni mattina gli servivano una tazza di caffè, un alto bicchiere con acqua e ghiaccio e un bicchierino di cognac. Samoilenko beveva prima il cognac, poi il caffè bollente e quindi l'acqua ghiacciata. E tutto questo doveva essere veramente buono perché dopo aver bevuto i suoi occhi esprimevano una beatitudine intensa ed egli, lisciandosi le fedine con le mani, diceva guardando il mare, è una veduta veramente incantevole. Dopo una notte interminabile, perduta in tristi ed inutili pensieri che impedivano di dormire e sembravano accrescere l'afa ed il buio della notte, Laievski si sentiva fiacco e abbattuto. Il bagno e il caffè non mutarono questo stato di malessere. Continuiamo con il nostro discorso, Aleksandro Davidovich, egli disse, io non voglio nascondere nulla e ti dirò sinceramente come ad un amico. Ecco, le mie relazioni con Nadieska Fiodrovna vanno male, assai male. Scusa se ti parlo dei miei intimi segreti, ma ho bisogno di sfogarmi. Samuilenko, presentendo di cosa egli avrebbe parlato, abbassò gli occhi e si mise a picchiettare con le dita sulla tavola. Dopo aver vissuto con lei due anni, mi sono disammorato, continuava Laievski, anzi, per essere esatti, ho compreso di non averla mai amata. Questi due anni sono stati un continuo inganno. Laievski, parlando, aveva l'abitudine di occuparsi, con grande attenzione, delle rose e palme delle sue mani, di rosicchiarsi le unghie e di squalcire con le dita ai polsini. Anche allora continuava a fare le stesse cose. Io riconosco benissimo che tu non puoi aiutarmi, disse, ma ti parlo solo perché per un uomo sfortunato ed inutile come me tutta la salvezza sta nel discorrere. Io devo generalizzare ogni mia azione, devo trovare una spiegazione e una giustificazione di questa mia inutile vita nelle teorie di qualcuno, nei tipi della letteratura, oppure per esempio, nel fatto che noi nobili siamo soggetti alla degenerazione, eccetera. Durante la notte scorsa io mi sono consolato, pensando per tutto il tempo, ah, com'è giusto, com'è a ragione Tolstoi, pur essendo crudele nella sua ragione, e mi sono sentito sollevato. In verità, fratello, è un grande scrittore. Qualunque cosa si voglia dire, Samuilenko, che non aveva mai letto le opere di Tolstoi, pure accingendosi ogni giorno a leggerle, si confuse e disse, sì, tutti gli scrittori lavorano di fantasia, egli solo riproduce la vita e la natura. Dio mio, sospirò Lajewski, fino a che punto noi siamo minorati dalla civiltà? Mi sono innamorato di una donna maritata, anche lei era innamorata di me. Da prima furono baci, incantevoli serate, giuramenti, speranze, ideali, interessi comuni. Che menzogna! Noi fuggivamo in verità dal marito, ma tacevamo noi stessi che volevamo fuggire il vuoto della nostra vita intellettuale. Immaginavamo così il nostro avvenire. Da prima nel caucaso avrei fatto il funzionario, ma poi, col tempo, conoscendo bene luoghi e persone, avremmo acquistato un pezzo di terra per poter coltivare col sudore della nostra fronte una vigna, un campo, eccetera. Ed io sono convinto che, se tu fossi stato al mio posto, oppure anche quel tuo zoologo von Koren, avresti potuto vivere tranquillamente a fianco di Nadieska Fyodorovna per trent'anni e avresti lasciato ai tuoi eredi almeno una ricca vigna e molti campi di gran turco. Ma io, sin dal primo giorno, compresi di non essere tagliato per una tale vita. Per resto, chi non lo avrebbe compreso, avendo un carattere come il mio e trovando in città un'afa insopportabile, la noia e la solitudine, è in campagna nulla di meglio, perché sotto ogni arbusto e sotto ogni sasso non c'erano che scolopendre, scorpioni e bisce in agguato, mentre oltre i campi non si vedevano che i monti ed il deserto. Tutto mi era estraneo, la gente, la natura e la civiltà. Insomma, caro mio, vedere una simile realtà è una cosa ben diversa dal prendere a braccetto la tua amata, ben coperto dalla pelliccia e passeggiare attraverso le gelide vie di Pietroburgo sognando ai paesi caldi. Là, nei paesi caldi, bisogna lottare con la vita e con la morte e che razza di lottatore sono io. Non sono che un misero nevrastenico, un fannullone. E quindi, di fronte alla realtà, faticai poco a comprendere quali castelli in aria avessi costruito prima. Quanto poi all'amore mi sono persuaso, e te lo posso assicurare, che vivere insieme con una donna che ha letto lo Spencer ed è andata per te in capo al mondo, non differenzia niente dal vivere con una qualunque anfissa o da culina. Non senti che il medesimo odore di ferro da stirare, di cipria e di medicine, non vedi che il medesimo modo di farsi ricci e continui allo stesso modo a crearti delle illusioni. Ma come si fa in una famiglia senza il ferro da stirare? Osservò Samoilenko diventando rosso dal piacere di sentire Lajewski parlare così sinceramente di una signora che conosceva. Tu, Vania, oggi sei un poco strambo, me ne sono accorto. Nadieska Piotrovna è una signora bellissima e molto bene educata, e tu sei un uomo molto saggio. Certo voi non siete sposati, continuò a dire Samoilenko, scrutando attentamente i tavoli vicini. Ma questo non è colpa vostra. Del resto bisogna abbandonare i pregiudizi ed essere all'altezza delle idee moderne. Io personalmente sono sostenitore del matrimonio civile, sì. Però, secondo me, una volta uniti, con o senza il matrimonio, bisogna vivere insieme, fino alla morte. Senza amore? Io te lo spiegherò subito, disse Samoilenko. Circa otto anni fa ho conosciuto qui un vecchietto, un uomo saggio e di grande spirito. E sai che cosa diceva abitualmente? Diceva questo. Nella vita familiare, la cosa essenziale è la pazienza. Hai capito, Vania? Non l'amore, ma la pazienza. Perché l'amore non può durare sempre. Vedi, tu, per esempio, hai vissuto per un paio d'anni la vita d'amore, ed ora le tue relazioni familiari sono entrate in un periodo nel quale, per conservare un certo equilibrio, tu devi, diciamo così, servirti di tutta la tua pazienza. Tu credi alle parole di quel vecchietto, ma per me il suo consiglio è semplicemente stupido. Ecco, tu non hai mai pensato che quel tuo vecchio poteva essere uno dei soliti ipocriti, capace di fare certi esercizi di pazienza, considerando la persona che non amava più come un oggetto indispensabile per quegli stupidi esercizi. Ci sono degli uomini simili, ma io non sono ancora caduto così in basso. Se mi venisse voglia di esercitare la mia pazienza, mi comprerei dei manubri, oppure un cavallo caparbio, ma non ricorrerei mai ad un essere umano. Samoilenko fece portare del vino bianco e del ghiaccio. Bevettero e subito dopo Lajewski chiese improvvisamente. Dimmi, per cortesia, che cosa significa il termine scientifico rammollimento cerebrale? Come te lo devo spiegare? Sai, è una malattia che fa diventare il cervello sempre più molle, come se si disfacesse. E si può guarire? Certo, se la malattia non è stata trascurata. In genere si usano delle docce fredde, dei vescicanti ed anche qualche medicina per bocca. Ah sì, allora vedi qual è la mia situazione. Non posso vivere con lei, perché questo oltrepassa le mie forze. Stando con te io discuto, mi animo, filosofeggio e sorrido. Ma basta che torni a casa, questa mia animazione sparisce del tutto. Ti confesso che sono talmente abilito da cacciarmi una palla nel cervello, se qualcuno mi dicesse che io devo vivere ancora un mese con Adieszka Fiodorovna. Ma nello stesso tempo mi è impossibile lasciarla, perché essa è sola e non sa lavorare. Non abbiamo denari né io né lei. E se io la lascio, dove andrà? A chi si rivolgerà? Come trovare una soluzione? Dimmi, che cosa potrei fare? Ma, disse fredenti Samoilenco non trovando una risposta, lei ti ama? Sì, mi amerà anche, come può amare una donna della sua età e del suo temperamento, che sente il bisogno del maschio. Ma in sostanza, io credo che per lei, fra me e i suoi oggetti di toletta, non ci sia una grande differenza, perché qualche volta mi pare di essere considerato allo stesso modo. Samoilenco rimase imbarazzato. Tu oggi sei di cattivo umore, disse. Probabilmente non hai dormito. Sì, ho dormito male. In genere, fratello mio, mi sento malissimo. Nella testa ho un vuoto assoluto. Il cuore ogni tanto s'arresta. Che sarà? Una malattia? Bisogna scappare. Dove? Là, caro mio. Dove sono i pini, i funghi, gli uomini e le idee? Ti confesso che sarei disposto a dare metà della mia vita, se potessi proprio in questo stesso momento trovarmi nel governatorato di Mosca o di Tula per fare il bagno nel fiume e sentire le punture del freddo, per girare ore ed ore intiere con qualche studente anche poco interessante e parlare, parlare, parlare. Ricordi com'è profumato il fieno lassù? Ti ricordi? Si esce la sera nel giardino e dalla casa giungono i suoni di un pianoforte e si sente passare il treno. Dicendo così, Lajewski rise dalla contentezza e gli occhi gli si riempirono di lacrime, ma per nasconderle finse di cercare i fiammiferi su una tavola vicina. Io invece, da ben diciotto anni non vado in Russia, disse Samoilenko, ho già dimenticato come si può vivere. Secondo me, dove vuoi trovare un paese così meraviglioso come il Caucaso? Il pittore Vereshaghin ha dipinto una volta un quadro nel quale in un pozzo profondissimo langono dei condannati a morte. Ed ecco, per me, il tuo splendido Caucaso, non è che un simile pozzo. Anzi, ti dirò di più. Se qualcuno mi offrisse di essere spazzacamino a Pietroburgo o principe qui, io acciterai senz'altro il posto di spazzacamino, disse Lajewski restando pensieroso. Samoilenko guardò attentamente i suoi occhi fissi in un punto. Il suo volto pallido e sudato, le tempie incavate, le unghie rossicce e la pantofola, che gli era scivolata dal tallone scoprendo una calza mal rammendata. E fu preso dalla compassione, perché forse l'atteggiamento di Lajewski gli ricordava lo smarrimento di un bambino abbandonato. «Tua madre è viva?» chiese. «Sì, ma ci siamo separati da tanto tempo. Mia madre era contraria a questo mio legame». Samoilenko voleva bene al suo amico, nel quale vedeva un eccellente ragazzo, un compagno con cui si poteva scherzare, bere e chiacchierare a cuore aperto. Tutto quello che gli riusciva a comprendere in Lajewski decisamente non gli piaceva, perché quest'ultimo beveva troppo e a qualunque ora, giocava alle carte, disprezzava il proprio impiego, viveva senza tener alcun conto dei propri mezzi, adoperava spesso delle espressioni sconvenienti nella conversazione, andava per la strada in pantofole e litigava in presenza di estranei con la Diezka Fiodorovna. Insomma, faceva in modo da urtare la sensibilità di Samoilenko, che non si sarebbe mai potuto comportare così. Però egli non dimenticava che Lajewski era stato un tempo alla facoltà di filologia, che era abbonato a due voluminose riviste, che parlava spesso così saggiamente da essere compreso solo dalle persone molto istruite, e infine coabitava con una donna intelligente e ben educata. Tutte cose queste che Samoilenko non comprendeva, ma che gli piacevano e gli facevano giudicare Lajewski di gran lunga superiore a se stesso e degno della massima stima. — Ecco, ti devo comunicare un altro particolare, disse Lajewski d'un tratto, però resti fra noi. Io per ora ho creduto opportuno di nasconderlo a Nadieska Fiodorovna, perciò attento alla tua chiacchiera quando parli con lei. Tre giorni fa sono stato informato per lettera della morte del marito di lei causata dal rammollimento cerebrale. — Dio lo abbia in gloria, sospirò Samoilenko, ma tu perché glielo nascondi? E che domanda? Se le mostro la lettera vuol dire che io sono disposto a portarla all'altare, e noi dobbiamo chiarire prima le nostre relazioni. Quando lei sarà perfettamente convinta dell'impossibilità di continuare a vivere con me, soltanto allora le mostrerò la lettera, perché solo allora non esisterà più quel pericolo. — Senti, caro, disse Samoilenko, mentre il suo volto prendeva ad un tratto l'espressione estremamente triste di uno che sta per chiedere una cosa molto desiderata e teme un rifiuto. — Ecco, io ti vorrei dire... si interruppe e poi aggiunse... — Sposala, caro. — Perché? Capirai. È il tuo dovere verso quella bellissima donna. La provvedenza stessa ti indica quel che devi fare, ora che suo marito è morto. Ma vuoi comprendere, nella tua testardaggine, che ciò è impossibile. Sposare una donna senza amarla è vile ed è indegno per un uomo, allo stesso modo che servire messa senza credere. — Tu sei obbligato, invece, insistete Samoilenko. — E per quale ragione ti hai irritato Leievski? Perché tu l'hai portata via al marito, e quindi ti sei presa tutta la responsabilità. Ma in che lingua ti devo spiegare che io non l'amo? — Se non la puoi amare, stimala, sii premuroso con lei. — Stimala, sii premuroso, ripete Leievski contraffacendo l'amico. Onorala come se fosse la superiore di un convento. Tu sei un cattivo psicologo e peggiore fisiologo, se credi che io possa convivere con una donna basandosi solo sulla stima e sul rispetto. Non conosci le donne, e se prima di tutto sentono il bisogno di non andare a letto sole. — Ma Vania, Vania, ripete confuso Samoilenko. Sta zitto, vecchio fanciullo. Tu non vedi che teorie. Io, invece, sono un giovane vecchio, e non conosco che le cose pratiche. Per questa ragione non riusciremo ad intenderci mai. Preferisco abbandonare la discussione. Disse e si rivolse al cameriere. — Mustafà, quanto è? — No, no, protesta Samoilenko, afferrando Leievski per il braccio. — Tocca a me pagare, perché ho ordinato io. Metti tutto sul mio conto, gridò Mustafà. Si alzarono e andarono in silenzio lungo la spiaggia. All'imbocco del corso si fermarono e si salutarono con una stretta di mano. — Caro mio, sei troppo viziato, disse sospirando Samoilenko. — La sorte ti ha dato una giovane donna, bella e istruita, e tu la vuoi lasciare. Ed io, invece, sarei contento se Dio avesse messo sulla mia strada, magari una vecchia sbilenca, ma affettuosa e buona. Vivrei con essa nella mia vigna e, riprendendo, si aggiunse, se non per altro, almeno perché mi preparasse il Samovar. Lasciato a Leievski, il dottore si incamminò per il corso. Tutte le volte che a Samoilenko accadeva di passare per il corso, egli si compiaceva di se stesso. Diventava maestoso, severo in volto, e gli sembrava che tutto il mondo lo guardasse con ammirazione, per la sua giacca immacolata, per gli stivali lucidissimi, per il suo busto eretto, su cui faceva bella mostra la croce di Sambla di Miro. E in quei momenti il dottore, senza volgere la testa, guardava a destra e a sinistra, e trovava che il corso era molto ben tenuto, che i giovani cipressi, le palme brutte e striminzite, e gli eucalipti erano molto belli, gli dovrebbero dato col tempo una piacevole ombra, mentre era pronto a giurare che i circassi erano gente onesta e ospitale. Cosa strana, pensava. Il Caucasus non piace a Lajewski. Incontrò cinque soldati armati di fucile che gli resero gli onori militari. Sul marciapiede destro del corso passò la moglie di un funzionario accompagnata dal figlio, studente di ginnasio. «Maria Kostantinovna, buongiorno!» le gridò Samoilenko sorridendo piacevolmente. «Siete state a fare il bagno?» «Ah, i miei rispetti a Nicodemo Aleksandrovich!» disse e continuò la strada sorridendo con piacere. Ma dopo pochi passi vide un infermiere militare che gli andava incontro e si fece serio ad un tratto interrogandolo. «C'è qualcuno all'ospedale?» «Nessuno, eccellenza!» «Proprio nessuno!» «Bene, va pure», ordinò Samoilenko e dondolandosi maestosamente sui fianchi si diresse verso un chiosco di bibite dove dietro al banco stava seduta una vecchia e grassa ebrea che si spacciava per Georgiana e le disse con una voce così forte come se comandasse una manovra ad un reggimento le seguenti parole. «Abbiate la compiacenza di darmi dell'acqua di Sels!» Lo stato d'animo di Laievski nei riguardi di Nadiazna Fyodorovna si manifestava essenzialmente nell'interpretazione degli atti di lei. Tutto quello che ella diceva o faceva appariva a lui falso e menzognero o poco dissimile dalla falsità e dalla menzogna. Leggendo le filippiche di certi autori contro le donne e contro l'amore, mi sembrava che tutto ciò corrispondesse con precisione matematica a lui, a Nadiazna Fyodorovna e al di lei marito. Quando Laievski tornò a casa, la donna già vestita e pettinata stava seduta presso la finestra e con aria preoccupata e seria assorbiva il caffè, sfogliando i fascicoli di una voluminosa rivista. Lo colpì la sua espressione e pensò che bevendo il caffè lei non aveva alcuna ragione per assumere un aspetto così solenne e serio come pure inutilmente aveva sprecato il suo tempo pettinandosi alla moda mentre non c'era nessuno a cui piacere e non c'era quindi alcuno scopo plausibile. Anche nello sfogliare la rivista egli vide un'azione menzognera. Pensò in sostanza che ella si vestiva e si pettinava per parere più bella e leggeva o fingeva di leggere per parere intelligente. «Non avrai nulla in contrario se io oggi andrò a fare il bagno», gli chiese Nadiecka Chiodorovna. «Ma sì, andrai e non andrai, è lo stesso. Suppongo che questa tua azione non provocherà il terremoto». «No, te lo chiedo, perché non vorrei che il dottore si inquietasse». «Tu sai che io non sono un dottore. Chiedilo a lui». Questa volta, tra le altre impressioni sfavorevoli, Leievski sentì soprattutto un'avversione contro il collo bianco e scoperto e i riccioli sulla nuca di Nadiecka Chiodorovna. E pensando a questo, si ricordò che quando Anna Karenina cessò di amare il marito, ebbe innanzitutto una spiccata antipatia per gli orecchi del suo consorte. «Com'è esatto! Com'è giusto!» pensava Leievski e sentendo una spossatezza e un vuoto assoluto nella testa, si rinchiuse nel suo studio, si straiò sul divano coprendosi il volto con un fazzoletto per ripararsi dalla molestia delle mosche. Nel suo cervello si susseguirono pensieri fiacchi, sempre intorno allo stesso soggetto, simile ad un lungo convoglio di carri, in una sera autunnale e piovosa. Fu vinto da uno stato di sonnolenza opprimente. Mi pareva di essere colpevole nei riguardi di Nadiecka Chiodorovna e del marito di lei, e che la morte di quest'ultimo fosse dipesa da questa colpa. Mi pareva di essere colpevole della rovina della propria vita, colpevole dinnanzi al mondo delle idee pure ed elevate, al mondo della scienza e del lavoro che era situato, secondo le sue fantasticherie, non sulla spiaggia dove vagavano i turchi affamati e gli indigeni oziosi, ma là, nel nord, dove esistevano i teatri, l'opera e i giornali e tutte le altre manifestazioni del lavoro intellettuale. Soltanto lassù si poteva essere onesti e intelligenti, elevati e puri. Egli si incolpava di non avere ideali né un programma direttivo nella vita, pur comprendendo il valore effettivo e il significato di essi. Ecco, due anni prima, quando sarei innamorato di Nadiecka Chiodorovna, egli era persuaso che sarebbe bastato di unirsi a lei ed andare nel Caucaso per salvarsi dalla banalità e dal vuoto della vita. Allo stesso modo, ora, credeva che bastasse abbandonare Nadiecka Chiodorovna e partire per Pietroburgo per raggiungere tutto ciò che abbisognava al suo spirito. Fuggire, mormorò sedendosi e rosicchiandosi le unghie. Fuggire. Immaginava il suo imbarco sul piroscafo, si vedeva all'ora della colazione, poi a bere la birra fresca, a conversare sul ponte con delle signore ed infine a Sebastopoli, mentre saliva sul treno e partiva. Salve, oh libertà! Le fantasticherie continuavano. Ecco, passavano le stazioni una dietro l'altra. L'aria diveniva sempre più fredda e più cruda. Apparivano le betulle, gli abeti, poi Kursk, Mosca. Nei ristoranti delle stazioni trovava le caratteristiche minestre russe, il montone, lo storione, la birra, in una parola non tutto ciò che caratterizza l'Asia, ma la Russia, la Russia vera. Immaginava i passeggeri nel treno, mentre parlavano del commercio, dei nuovi cantanti, delle simpatie franco-russe, e gli pareva di sentire dappertutto una vita viva, civile, intellettuale e laboriosa. Più presto, più presto, pensava, e vedeva finalmente le vie di Pietroburgo, Nevsi Prospect, Bolshaia Morskaya e il vicolo Kovensky, dove aveva vissuto un tempo con gli studenti, e rivedeva il caro cielo grigio, la pioggiarella minuta e i cocchieri bagnati. Ivan Andrievich, chiamò qualcuno dalla stanza vicina, siete in casa? Sono qui, rispose Lajewski, che volete? Ci sono delle carte da firmare. Lajewski si alzò pigramente e fu preso da un capogiro, poi sbadigliò e, trascicando i piedi, andò nella stanza vicina. Là, attraverso la finestra aperta, vide sulla strada un suo giovane collega, che aveva disteso sul davanzale delle carte d'ufficio. Subito, caro, disse dolcemente recandosi a cercare il calamaio. Tornato alla finestra, firmò le carte senza leggerle ed osservò. Fa caldo. Sì, verrete oggi? È difficile, non mi sento bene. Dite, mio caro Aschewski, che dopo pranzo passerò da lui. L'impiegato se ne andò e Lajewski si straiò di nuovo sul divano e cominciò a pensare. Devo esaminare tutte le circostanze, riflettere. Prima di partire dovrò pur regolare i miei debiti che ammontano a circa duemila rubli. Ma non ho soldi. Questo non ha nessuna importanza. Posso pagare una parte ed il resto lo manderò a De Petroburgo. Quello che importa invece è la donna. Prima di tutto bisogna chiarire i nostri rapporti. Sì. E dopo una piccola pausa concluse che forse sarebbe stato bene andare da Samoilenko per consigliarsi. Posso andare, pensava. Ma che vantaggio ne avrò? Se ci vado ripeterò immancabilmente i discorsi spropositati di stamani e che valgono i discorsi intorno a ciò che è onesto oppure disonesto quando occorre salvare al più presto la mia vita. Perché io soffogo e mi consumo in questa maledetta schiavitù. Bisogna pur capire che continuare una vita come la mia è una infamia, una crudeltà, di fronte alla quale tutto il resto è meschino ed è perfettamente inutile. Fuggire, mormorò mettendosi a sedere. Fuggire. La riva deserta del mare, l'afa implacabile alla monotonia dei monti sfumati e violacei, eternamente uguali e silenziosi ed eternamente solitari, non solo lo rendevano malinconico, ma a quanto gli sembrava, lo addormentavano e lo illanguidivano. Poteva darsi che egli fosse intelligente, pieno di ingegno ed esemplarmente onesto. Poteva darsi che se il mare e i monti non lo avessero imprigionato da tutte le parti e gli divenisse un uomo politico, un oratore, un pubblicista, un agitatore. Chi lo sa? Ma che pro, dunque, discutere sull'onestà o meno dei suoi progetti? Se, per esempio, un uomo d'ingegno utile all'umanità mettiamo un musicista o un pittore per fuggire dalla prigione perforasse un muro ed ingannasse i suoi carcerieri, questo atto sarebbe un'azione onesta o disonesta. Non c'è alcun dubbio che per un uomo simile tutto sarebbe onesto nelle sue condizioni. Alle due dopo mezzogiorno, Laievski e Nadiazna Fiodorovna si misero a tavola e quando la cuoca servì la minestra di riso con pomodori, gli disse, tutti i giorni la stessa cosa, perché non preparate la minestra di cavoli e barbabietole? Non ci sono cavoli. Strano, da Samuelenko riescono a fare questa minestra, anche da Maria Costantinovna la fanno. Soltanto io sono costretto a mangiare questa brodaglia dolciastra. Non è possibile così, cara. Come succede generalmente presso la grande maggioranza degli sposi nei primi tempi, nella casa di Laievski non passava un solo pranzo senza scene e capricci, ma da quando aveva deciso di abbandonarla e gli si sforzava di cedere in tutto a Nadiazca Fiodorovna. Le parlava con dolcezza, le sorrideva immancabilmente e la chiamava cara. Questa minestra ha un gusto simile a quello della licuorizia, disse egli sorridendo e facendosi forza per parere affabile, ma non pote contenersi ed aggiunse, nessuno ha cura della casa. Se tu sei così malata oppure occupata dalla lettura, permettimi di attendere alla nostra cucina. Qualche mese prima ella avrebbe risposto occupatene, oppure vedo che vuoi fare di me una cuoca. Ora invece si limitava a guardarlo timidamente e ad arrossire. Come ti senti oggi? chiese egli carezzevolmente. Oggi non c'è male, così, mi sento solo un poco debole. Bisogna curarsi cara, io temo per te. Il male di Nadiazca Fiodorovna non era ben definito. Samoilenko affermava che ella soffriva di una febbre intermittente e la rimpinzava di chinino, mentre il dottor Ustimovic, un uomo alto, magro, misantropo, che stava rinchiuso in casa tutto il giorno e soltanto a sera si concedeva una passeggiata lungo la spiaggia, tenendo le mani dietro e il bastone dritto lungo la schiena, trovava che ella aveva una malattia femminile e le ordinava delle comprasse calde. Quando Leievski amava ancora Nadiazca Fiodorovna, la sua malattia suscitava in lui la compassione ed un certo timore. Ora invece, abituato a considerare tutto in quella donna come una menzogna, pensava in tale modo anche della malattia. Qualche volta, quasi per giustificare questo suo atteggiamento, egli ricordava il volto livido ed assonnato, lo sguardo stanco e lo sbadiglio che perseguitavano la donna dopo ciascun attacco febbrile. Ricordava il fatto che durante gli attacchi stessi Nadiazca Fiodorovna stava sdraiata sotto una pesante coperta, somigliando più ad un fanciullo che ad una donna. Ricordava che nella camera da letto di lei c'era afa e cattivo odore, ossia tutto ciò che, secondo la sua opinione, stava distruggendo le illusioni e costituiva un perenne ostacolo per l'amore e per il matrimonio. Per secondo piatto portarono a Leievski degli spinaci con uova sode, mentre Nadiazca Fiodorovna, siccome era malata, la cuoca aveva preparato una speciale gelatina, composta di fecola di patate e di latte. Bastava ormai un semplice non nulla per irritarlo. Quando la donna con aria preoccupata toccò la vivanda col cucchiaio e si mise a mangiare pigramente bevendo ogni tanto del latte, Leievski, sentendola inghiottire, fu preso da una vampata di odio. Egli era persuaso che tale sentimento lo diminuiva e sarebbe stato umiliante anche nei confronti di un cane, ma non accusava se stesso, bensì Nadiazca Fiodorovna che, secondo lui, era la causa di un tale avvilimento. In questo stato d'animo, egli riusciva a comprendere per quale ragione talvolta gli uomini uccidono le loro amanti. Egli non si sentiva capace di uccidere. Certamente non avrebbe ucciso Nadiazca Fiodorovna, ma se, per esempio, gli fosse capitato di essere giurato in una causa simile, avrebbe assolto l'assassino. — Grazie, cara! — dissalzandosi alla fine del pranzo e baciando la donna sulla fronte. Si rintanò nel suo studio e passeggiò da un angolo all'altro per cinque minuti, guardando di sbieco i propri stivali. Poi si sedette sul divano e mormorò. — Fuggire, fuggire! Chiarire i rapporti e fuggire! Giacque sopra il divano e di nuovo si ricordò che il marito di Nadiazca Fiodorovna era morto. Forse per colpa sua. — Accusare un uomo perché si è innamorato oppure disamorato è una stupidaggine, pensava per persuadere se stesso. L'amore e l'odio non dipendono dalla nostra volontà. Quanto all'affare del marito, forse incidentalmente sono stato una delle cause della sua morte. Ma pensandoci bene, posso essere colpevole io per aver amato sua moglie ed esserne stato riamato. Infine si decise ad alzarsi e dopo aver cercato il suo berretto da funzionario si avviò verso la casa del collega d'ufficio, Shavskowski, presso il quale gli impiegati si radoravano ogni giorno per giocare al vinte e bere la birra. — Per questa mia indecisione, io somiglio ad Amleto, pensava Lajewski per la strada. Come ha saputo osservare giusto il grande Shakespeare. — Ah, come giusto! Per evitare la noia della solitudine e per offrire ai nuovi arrivati e da quelli senza famiglia, messi in imbarazzo per la mancanza di un albergo in città, la possibilità di mangiare, il dottore Samoilenko teneva a casa sua una specie di pensione. Nell'epoca in cui parliamo, venivano per i pasti due soli pensionati. Un giovane zoologo, giunto là per il periodo dell'estate per studiare l'embriologia delle meduse del Mar Nero, di nome von Koren, è il diacono Pobiedoff, licenziato da poco dal seminario e inviato nella cittadina per sostituire il vecchio diacono partito per curarsi. Samoilenko prendeva da ciascuno di essi dodici rubli al mese per il pranzo e per la cena, ma sarebbe fatto dare la parola d'onore che avrebbero pranzato puntualmente alle due pomeridiane. Di solito per primo giungeva von Koren, si metteva a sedere in silenzio nel salotto e prendendo dalla tavola un album cominciava a contemplare con attenzione le fotografie già sbiadite di certi uomini sconosciuti in pantaloni larghi e cappello a cilindro e di signore non meno sconosciute in crinolina e cuffia. Samoilenko riusciva a ricordarsi il nome solo di poche persone ivi rappresentate, limitandosi a dire con profondo sospiro di quelli che aveva dimenticati, un uomo straordinario di grande intelligenza. Dopo aver finito di dilettarsi con l'album, von Koren prendeva da uno scaffalino una pistola e socchiudendo l'occhio sinistro, a lungo mirava il ritratto del principe Foronzoff oppure si fermava dinnanzi allo specchio esaminando il suo volto bruno, la fronte alta e i capelli neri e crespi come quelli di un negro, la sua camicia di indiana scura a grandi fiori che assomigliava ad un tappeto persiano e la sua cintura larga di cuoio che faceva le veci del panciotto. Contemplando se stesso, provava un piacere assai più intenso di quello che gli poteva procurare l'esame delle fotografie o della pistola dall'impugnatura preziosa. In ultima analisi, egli era molto soddisfatto del suo volto, della sua barbetta ben tagliata e delle sue forti spalle che dimostravano tangibilmente la sua eccellente salute e la sua buona costituzione. Ed era altrettanto soddisfatto del suo costume, che aveva pretese di grande eleganza, incominciando dalla cravatta intonata al colore della camicia per finire alle scarpe gialle. E mentre Von Coren esaminava l'album, oppure si ammirava nello specchio, Samoilenco senza giubba e senza panciotto, a petto nudo, affannato e grondante di sudore, si dava un grande affare girando attraverso la cucina e nel vestibolo attiguo, rimetteva a posto la roba sulla tavola, preparava l'insalata oppure delle salse e infine tagliava la carne, i cetrioli e la cipolla per una speciale minestra. Mentre faceva tutto questo, egli guardava in cagnesco, sgranando gli occhi l'attendente che lo stava aiutando, ed ogni tanto alzava contro di lui il coltello o il cucchiaio tenuto in mano. «Dammi dell'aceto!» ordinava. «No, no, non l'aceto, ma l'olio!» gridava pestando i piedi. «Ma dove sei andato, animale?» «A prendere l'olio, vostra grazia», rispondeva l'attendente impaurito con la sua vocina di tenore alquanto fessa. «Più presto troverai l'olio nella credenza e di addaria di aggiungere del finocchio nel vaso dei cetrioli. Hai capito? Del finocchio! Copri la panna, buona nulla, se no le mosche ci vanno dentro!» E tutta la casa sembrava rimbombare delle sue grida. Non appena mancavano quindici o dal massimo dieci minuti alle due, arrivava il diacono, un giovane ventiduenne, magrolino, con i capelli lunghi, senza barba e con due baffetti appena spuntati. Entrando nel salotto, il diacono si segnava davanti all'icona, sorrideva e tendeva la mano a von Koren. «Vi saluto!» diceva frettamente lo zoologo. «Dove siete stato!» «Al porto, a pescare!» «Sì, certo!» «Evidentemente non lavorate mai!» «Perché? Il lavoro non è un orso e non fuggirà nel bosco!» rispondeva il diacono sorridendo e ficcando le mani nelle tasche profondissime della sua sottana bianca. «E pensare che bisognerebbe frustarvi!» sospirava lo zoologo. Così passavano altri quindici o venti minuti e intanto il pranzo non era pronto. Si sentiva solo come l'attendente, correndo dalla cucina al vestibolo e viceversa, battesse i tacchi sul pavimento e come Samoilenko urlasse «Metti sulla tavola! Dove lo porti? Lava! Prima!» Come gli spettatori del loggione di un teatro, anche von Koren ed il diacono, per manifestare la loro impazienza, battevano i tacchi sull'impiantito. Finalmente la porta si apriva e l'attendente stanchissimo annunziava «Il pranzo è pronto!» Nella sala da pranzo essi si imbattevano in Samoilenko, rosso in volto e irritato. Egli li guardava male e con un'espressione di spavento sollevava il coperchio della zuppiera e riempiva le scodelle dei pensionanti e soltanto quando si accorgeva che essi mangiavano con gusto e che la vivanda piaceva, sospirando leggermente, si sprofondava nella sua poltrona. Il suo viso diventava languido e lustro e senza fretta si versava un bicchierino di vodka e diceva «Alla salute della nuova generazione!». Dopo la sua conversazione con la Jevski, per tutta quella mattina fino all'ora di pranzo Samoilenko aveva sentito, nonostante il suo ottimo umore, un certo peso nel profondo dell'anima, poiché l'amico gli faceva pena ed egli avrebbe voluto aiutarlo. Dopo aver bevuto il solito bicchierino di vodka prima della minestra e gli sospirò e disse «Ho veduto stamani Vania Lajevski. La sua vita non è facile. Dal lato materiale ha poche consolazioni e dal lato morale è oppresso addirittura. Mi fa pena quel ragazzo». «E a me non fa pena», disse Von Koren. «Vi dico che se questo signore stesse per annegare, io lo spingerai sott'acqua con un bastone». «Annegati, fratello, annegati!» «Non è vero, non lo faresti». «E perché lo pensi?» chiese l'ottologo stringendosi nelle spalle. «Anch'io sono capace di fare una buona azione, come te del resto. E ti pare che annegare un uomo sia una buona azione?» chiese il diacono e rise. «Se si tratta di Lajevski, posso dire di sì. Mi pare che a questa minestra manchi qualche cosa», disse Samoilenko cercando di sviare il discorso. «Lajevski è un essere indiscutibilmente nocivo ed è tanto pericoloso per la società quanto il microbo del colera», continuò Von Koren. «Dunque, annegarlo è un merito». «Le tue espressioni sul conto del tuo prossimo non ti fanno onore. Perché lo odi?» chiese Samoilenko. «Ma, dottore, dici delle sciocchezze. Sarebbe veramente stupido disprezzare ed odiare un microbo. E poi, se si tratta di considerare per tuo prossimo, un individuo qualsiasi, senza alcuna distinzione, secondo me, questo significa non ragionare, rinunziare ad un giusto rapporto verso gli uomini. Insomma, lavarsene le mani. Io considero quel tuo Lajevski come un mascalzone. Non cielo questo mio giudizio e lo tratto come tale con la coscienza tranquilla. E invece tu lo consideri come il tuo prossimo. E allora baciatelo. Guarda però, e se lo consideri tale, il tuo rapporto verso di lui non differenzia da quello che hai verso di me, e verso il diacono. Perciò tu sei ugualmente indifferente verso tutti». «Chiamare un uomo mascalzone», borbottò Samoilenko con una smorfia di disgusto. «Questa è una cattiveria tale che io non me la posso spiegare». «Gli uomini devono essere giudicati dalle loro azioni», continuò Fonkoren e rivolgendosi al diacono disse. «Voglio sentire il vostro giudizio. Cercherò di illustrarvi l'attività del signor Lajewski, e voi la vedrete come se distendessi dinanzi a voi una lunga scrittura cinese per farvela leggere dal principio alla fine». «Sarò sincero ed obiettivo. Che cosa ha fatto questo signore nei due anni trascorsi qui? Le sue azioni si possono contare sulla punta delle dita. Primo, egli ha insegnato agli abitanti di questa cittadina a giocare al Wint, e prima del suo arrivo questo gioco era quasi sconosciuto. Ora invece tutti, comprese le donne e gli adolescenti, giocano al Wint dalla mattina alla sera. Secondo, ha insegnato ai cittadini a bere la birra, che qui pure era sconosciuta. Inoltre questi cittadini gli sono molto obbligati per le nozioni insegnate circa la distinzione delle varie qualità di vodka, così che ciascuno di essi è capace di riconoscere, ad occhi bendati, la vodka di Koshelev da quella di Smirnoff numero 21». «Terzo, prima qui si conviveva con le mogli e degli altri, salvando tutte le apparenze, per le stesse ragioni per le quali i ladri rubano di nascosto e non palesemente. L'adulterio era considerato come una cosa vergognosa e si sentiva il dovere di non farne mostra, in pubblico. Lajewski invece è divenuto un pioniere, vivendo apertamente con la moglie di un altro. Quarto!» Concore infini in fretta la minestra e diede la scodella all'attendente. «Io ho capito Lajewski sin dal primo mese della nostra conoscenza», continuò il so dire, volgendosi sempre al diacono. «Entrambi siamo arrivati qui nello stesso tempo. Gli uomini come lui hanno una predilezione speciale per l'amicizia, per l'intimità e per la solidarietà, perché occorre loro sempre la compagnia per il Vint, per le sbornie, per gli spuntini, e in più essi sono generalmente dei chiacchieroni ed hanno bisogno di ascoltatori. Facemmo amicizia, o per meglio dire, egli veniva ogni giorno da me senza uno scopo preciso, mi impediva di lavorare e mi faceva delle confidenze sul conto della sua mantenuta. Sin dai primi tempi rimasi colpito dalla sua non comune capacità di mentire, che mi nauseava. In qualità di amico io gli rimproveravo i suoi difetti, lo sgridavo perché beveva, perché spendeva oltre le sue possibilità facendo dei debiti, perché non lavorava e non leggeva, perché era poco colto e non si interessava di nulla. In risposta a tutti i miei rimproveri, egli sorrideva amaramente, sospirava e diceva, io sono un disgraziato, un uomo inutile, oppure, carissimo, che cosa potete pretendere da noi miseri detriti della servitù della gleba, oppure, noi degeneriamo. E infine incominciava a fare una lunga chiacchierata senza conclusione intorno a Doniegin, Pecholin, Caino di Byron, Bazarov e altri eroi dei romanzieri, per affermare, ecco i nostri padri carnali e spirituali. Da tutto questo ragionamento non risultava altro che questo. Dajewski non è per nulla colpevole del fatto che i plichi ufficiali rimangono per delle settimane senza essere dissigillato, non è per nulla colpevole ubriacandosi e facendo ubriacare gli altri, perché la colpa risale a Doniegin e a Pecholin e a tutti gli autori che hanno inventato l'uomo disgraziato ed inutile. In tal modo la stessa causa della sua dissolutezza e della sua vita immorale non sta in lui ma nello spazio. E con tutto questo, siccome Dajewski è furbo, vi rigira in modo da farvi comprendere che non è lui solo un unico dissoluto, mentitore e vile, ma noi, noi uomini dell'ottanta, noi molle, nervosa generazione dell'epoca della servitù della gleba, noi che siamo minorati della civiltà. In poche parole, le sue frasi non servono ad altro che persuaderci che Dajewski, uomo grande, rimane tale anche nella sua bassezza. In altri termini, che la sua ignoranza, la sua immoralità e il suo sudiciume materiale costituiscono un fenomeno storico naturale, santificato dal bisogno di cui le cause sono universali. E in più ancora, che dinnanzi a lui, Dajewski, bisognerebbe accendere una lampada votiva, come davanti a un martire, perché egli è una vittima fatale delle influenze dell'epoca, dell'ereditarietà, eccetera. Naturalmente tutti questi ragionamenti producevano la meraviglia e l'ammirazione dei funzionari e delle signore che lo ascoltavano, ma io per lungo tempo non sono riuscito a capire se avessi da fare con un cinico oppure con un poveretto truffatore. Del resto non è cosa facile poter giudicare a volo dei soggetti come Dajewski, perché essi, apparentemente intelligenti, limitatamente educati, sapendo vantare la propria elevatezza morale, riescono facilmente ad apparire come nature eccezionali e complicate. Ma taci, forse Samuelenko, io non permetterò mai che in mia presenza si parli così male di un uomo molto perbene. Non mi interrompere, Alessandro Davidovich, disse freddamente von Koren. Io finirò subito. Dajewski invece è di natura assai semplice. Posso spiegare in poche parole il suo contenuto morale. La mattina, pantofole, bagno e caffè. Poi fino all'ora di pranzo. Pantofole, ginnastica e conversazione. Alle due, pantofole, pranzo e vino. Alle cinque, bagno, tè e vino. Quindi, wint e menzogne. Alle dieci, cena e vino. E dopo mezzanotte, letto e la famma. La sua esistenza è racchiusa in questo ristretto programma come l'uovo nel suo guscio. I comuni denominatori delle sue azioni sono sempre identici. Se cammina, se si siede, se si inquieta, se scrive o se gioisce, tutto si riconduce sostanzialmente al vino, alle carte, alle pantofole e alla donna. A quest'ultima poi spetta nella vita di Dajewski una parte fatale e predominante. Egli stesso confessa di essersi innamorato da tredici anni. Quando era studente al primo anno dell'università, già conviveva con una signora che ebbe su di lui una benefica influenza e ad essa egli deve la sua cultura musicale. Studente del secondo anno, tolse, mediante una certa somma, una prostituta da una casa pubblica, prendendola con sé come mantenuta. Ma la donna rimase con lui soltanto per sei mesi e ritornò di nuovo presso la sua padrona. Questa fuga fu causa per Dajewski di non poche sofferenze morali. Ahimè, queste sofferenze determinarono l'abbandono degli studi e due anni di vita da fannullone. Ma questo fu la sua salvezza, perché a casa conobbe una vedova, con la quale si unì, ed essa gli consigliò di abbandonare la facoltà giuridica per passare a quella filologica. Così fece. Ultimati gli studi, Dajewski si innamorò appassionatamente di questa sua odierna, come chiamarla, insomma donna maritata, e fuggì con lei, qui nel Caucaso, come dice lui, in cerca di ideali. Se non è oggi sarà domani, ma egli cesserà di amare anche questa e fuggirà di nuovo a Pietroburgo, sempre in cerca di ideali. E tu come lo sai? Rontolò Samuelenko, guardando male lo zoologo. Faresti meglio a mangiare. Servirono cefali bolliti con una salsa polacca. Samuelenko mise davanti a ciascuno dei suoi pensionanti un intiero cefalo dopo averlo cosparso di salsa. Passarono due minuti in silenzio. La donna ha una parte essenziale nella vita di ciascun uomo, osservò il diacono. Non si può far niente. Sì, ma in quale misura? Lo interruppe von Koren. Per ciascuno di noi la donna è una madre, una sorella, una moglie, un'amica. Per la Jevski invece è sempre ed esclusivamente un amante. La donna, o meglio, la convivenza con essa rappresenta per quell'uomo la felicità e lo scopo della sua vita. La donna è la causa prima della sua allegria, della sua tristezza, della sua annoia e delle sue disillusioni. Se la vita lo disgusta è per colpa della donna, se gli sorride è per causa della donna. Lui non può gustare ed apprezzare che i quadri e le opere dove la donna ha una parte preponderante. E secondo lui la nostra epoca è peggiore di quelle precedenti solo perché non sappiamo abbandonarci all'estasi amorosa e dalla lussuria fino all'oblio di noi stessi. Secondo me questi lussuriosi devono avere nel cervello un neoplasma speciale che comprime la massa cerebrale e governa tutta la loro psiche. Se osservate più a lungo la Jevski, specialmente quando si trova in qualche posto in società, potrete osservare il fatto che quando qualcuno agita una questione generale, mettiamo quella della cellula oppure dell'istinto, egli se ne sta in disparte, tace e non ascolta. Egli sembra disilluso ed annoiato. Il tema per lui è poco interessante, meschino e banale, ma appena qualcuno si mette a parlare di femmine e di maschi, del fatto per esempio che presso certi ragni la femmina divora il maschio dopo la fecondazione, gli occhi di la Jevski brillano di curiosità e il volto si illumina, in una parola l'uomo dimostra di trovarsi a proprio agio. Ripeto, tutti i suoi pensieri, nobili o delevati, oppure indifferenti che siano, hanno sempre la stessa meta comune di confluenza. Insomma, finiscono allo stesso punto. Potete camminare con lui per la strada ed incontrare per esempio un asino. Ditemi per piacere, dirà lui, che cosa potrebbe succedere se si accoppiasse un asina con un cammello? Continuò a dire Von Koren. E i suoi sogni ve li ha raccontati? È una cosa stupenda. Egli sogna di essersi sposato con la luna, oppure sogna di essere stato chiamato dalla polizia che gli ha ordinato di convivere con una chitarra. Il diacono si contorse dalle risa, mentre Samoilenco si accigliò e corrugò rabbiosamente il viso per non ridere, ma non potete attenersi. È tutta una menzogna, disse egli asciugandosi le lacrime. Per Dio se sa mentire! Il diacono era di carattere ridanciano e rideva di ogni piccola cosa a dismisura, sino a sentire delle fitte al fianco, tanto che sembrava frequentare gli uomini solo perché hanno dei lati buffi e quindi si prestano ad avere dei soprannomi ridicoli. Per esempio aveva dato il soprannome di Tarantola a Samoilenco e quello di Anitra al suo attendente. Ed un giorno, quando Von Koren chiamò Laievski e Nadiezza Fyodorovna Makakhi andò in sollucchero. Trovandosi in compagnia, il diacono avidamente contemplava i volti degli astanti, ascoltava senza batter ciglio e si poteva vedere come i suoi occhi si riempissero di allegria, mentre il volto pareva gonfiarsi di riso in attesa di poter ridere senza alcun ritegno. Laievski è un soggetto pervertito ed anormale, continuò i suoi apprezzamenti Von Koren, mentre il diacono in attesa di poter ridere fissava intensamente il suo viso. «Una simile nullità si incontra di rado. In sostanza quel caro vostro Laievski è fisicamente fiacco, malandato e vecchio, mentre intellettualmente non differisce da un'obesa mercantessa che sa soltanto divorare i cibi, bere, dormire, sopra un materasso di piume e tenere per amante il suo cameriere». Il diacono sghignazzò di nuovo. «Non ridete, diacono», disse Von Koren. «È una cosa stupida, infine, e continuò. Io non mi sarei accorto di questa sua nullità e sarei passato oltre se Laievski non fosse così nocivo e pericoloso. Mi spiegherò. Egli è nocivo innanzitutto perché ha fortuna con le donne e quindi un giorno o l'altro minaccia di avere dei discendenti e cioè può regalare all'umanità parecchi Laievski, malandati e pervertiti come il padre, ed infine perché i suoi difetti sono contagiosi al massimo grado. Vi ho già parlato della diffusione del vint e del gusto per la birra e se Laievski rimarrà ancora qui per un anno o due diffonderà i suoi vizi su tutta la costa caucasica. Voi sapete fino a che punto la massa, e specialmente il ceto medio, creda alla superiorità di coloro che hanno fatto gli studi universitari, alla nobiltà delle maniere e alla ricercatezza del linguaggio. Ecco, per esempio, Laievski è un intellettuale, è un liberale, è un uomo dalla cultura universitaria e per queste ragioni qualunque viltà possa commettere tutti sono pronti a giurare che ha fatto bene e che così deve essere. Inoltre egli è un disgraziato, un uomo che si stima è inutile, un neprastenico, una vittima dei tempi, perciò tutto gli è lecito. Tutti dicono, egli è un caro ragazzo, una perla d'uomo, egli è indulgente verso tutte le debolezze umane, è compiacente, arrendevole, accomodante, non è superbo, con lui si può bere, parlare male del prossimo e dire delle cose oscene. La massa, inclina verso l'antropomorfismo religioso e morale, ama soprattutto gli idoli che hanno le sue stesse debolezze. Dato questo potrete comprendere facilmente su quale base vastissima possa operare il suo contagio. D'altra parte, bisogna aggiungere che Lajewski è un discreto attore ed un abile ipocrita che sa dove il diavolo tiene la coda. Considerate un po' le sue trovate e i suoi giochi di parole, per esempio, in rispetto al suo rapporto verso la civiltà, della quale non ha mai sentito nemmeno il puzzo, ma intanto sa dire, ah, come siamo minorati dalla civiltà, o come invidio i selvaggi, i primitivi figli della natura che non conoscono la civiltà. Tutto questo in sostanza vorrebbe dire che il povero Lajewski, una volta, in tempi assai lontani, si è dato con tutta l'anima alla civiltà, l'ha servita, l'ha conosciuta a fondo, ma essa l'ha stancato, disilluso e ingannato. Perciò egli è divenuto come Faust, oppure come un secondo Tolstoi. Avete notato che gli tratta Schopenhauer e Spencer come due ragazzini e sembra batter loro le spalle paternamente, sembra quasi che dica, è bene fratello Spencer. Naturalmente Lajewski non ha mai letto una sola pagina di Spencer, però l'avete visto quando dice, con un tono leggermente negligentemente ironico, parlando della sua signora. Lei ha letto Spencer e tutti lo ascoltano e nessuno vuol comprendere che questo ciarlatano non solo non ha il diritto di esprimersi in questo modo, ma non è nemmeno degno di baciare le suole delle scarpe del cerebre filosofo. Solo un animale egoista, vile e ignobile, può tentare di demolire la civiltà, le idealità altrui, le autorità intellettuali, spruzzare il proprio fango su tutto e ridere buffonescamente di ogni cosa per giustificare e nascondere la propria meschinità e la propria nullità morale. Non riesco a capire che cosa vuoi da lui, disse Samoylenko, guardando Fonkoren con più ira, ma con l'alia di un colpevole. Lajewski è un uomo come tutti noi. Certo non è privo di debolezze, ma egli è a livello delle idee moderne, presta servizio ed è utile alla patria. Dieci anni fa era impiegato qui un vecchietto, un uomo di grande intelligenza, e gli diceva abitualmente, basta, basta, interruppe lo zoologo, tu dici, Lajewski presta servizio. Ma come lo presta? Forse da quando è venuto qui le cose sono migliorate e gli impiegati sono più precisi, più onesti e più educati. Al contrario, egli ha sanzionato la loro dissolutezza e la loro poca diligenza con la sua autorità di uomo colto. Egli sa essere diligente solo il giorno venti di ciascun mese, cioè quando deve prendere il suo stipendio. Gli altri giorni invece strascica le pantofole a casa sua e si dà l'aria di colui al quale il governo deve essere obbligato, perché egli si è degnato di vivere nel Caucaso. No, Alessandro Davidovich, non lo difendere. Tu non lo fai con sincerità. Se tu lo amassi e lo considerassi tuo prossimo, non potresti essere indifferente dinanzi ai suoi vizi, non saresti indulgente e per il suo stesso bene cercheresti di correggerlo, oppure di renderlo innocuo. Sarebbe a dire renderlo innocuo. Siccome la Ievski è incorreggibile, si può raggiungere lo scopo in una sola maniera. Dicendo questo, Fonkoren passò le dita intorno al collo e aggiunse, oppure a negarlo. Che so io, certi individui debbono essere immancabilmente soppressi nel loro stesso interesse e in quello dell'umanità. Ma che dici, borbottò Samoilenko, alzandosi e guardando con meraviglia il volto freddo e calmo dello zoologo. Ma sentite, Diacono, che cosa dice? Ma ti sei impazzito? Io non insisto sulla necessità della pena di morte, rispose Fonkoren. Se voi ritenete che essa sia dannosa, escogitate un mezzo diverso. Dite che sopprimere la Ievski non è possibile, va bene. Ma allora lo si può isolare, togliergli i diritti di cittadino, mandarlo ai lavori forzati. Che stai dicendo? Chiese in orridito Samoilenko. Col pepe, col pepe, urlò ad un tratto, vedendo che il Diacono mangiava gli zucchini ripieni senza pepe. Tu, Fonkoren, che sei una persona intelligente e distruita, puoi dire una cosa simile, mandare ai lavori forzati un nostro amico, un uomo fiero, intellettuale. Se è fiero, si rivolterà e allora non restano che i ferri. Samoilenko indignato non era in grado di parlare ed agitava soltanto le dita. Il Diacono guardò attentamente il volto del dottore. In verità ridicolo e scoppiò in una risata. Non ne parliamo più, disse lo zoologo. Ricordati soltanto questo, caro Alessandro Davidovich. L'umanità primitiva sapeva salvaguardarsi dagli esseri come la Ievski, mediante la lotta per l'esistenza e la selezione naturale. Ora invece la cultura ha notevolmente diminuito questa lotta e indebolito questa selezione. Noi oggi dobbiamo cercare di sopprimere i deboli e gli indegni, perché altrimenti tutti i simili di la Ievski si moltiplicheranno e la civiltà dovrà perire, mentre l'umanità degenererà completamente e noi saremo colpevoli di tutto ciò. Se si debbono impiccare ed annegare gli uomini, disse Samoilenko, è molto meglio lasciare andare al diavolo la tua civiltà e la tua umanità. Sì, al diavolo. Senti, ti devo dire questo. Tu sei un uomo coltissimo, hai una grande intelligenza, sei un vanto della patria, ma i tedeschi ti hanno guastato. Sì, sì, proprio i tedeschi. Samoilenko, dai lontani giorni dello studio a Dorpart, dove si era laureato in medicina, non aveva avuto alcun contatto con i tedeschi, ma secondo la sua intima convinzione tutto il male nella scienza e nella politica aveva la sua origine negli intrighi dei tedeschi. Egli stesso non sapeva spiegare il perché di questa sua convinzione, ma non l'abbandonava. Sì, i tedeschi, ripete ancora, andiamo a prendere il tè. Tutti e tre si alzarono e coprendosi il capo con i berretti passarono nel giardino per assidersi all'ombra degli aceri, dei peri e di un castagno. Lo zoologo e il diacono si sedettero su una panca presso il tavolino, mentre Samoilenko si sprofondava in una poltrona di vimini dalla larga spalliera inclinata. La tendente portò loro il tè, una marmellata e una bottiglia di sciroppo. Faceva caldo, all'ombra si registravano all'incirca trenta gradi, l'aria era ardente ed immobile, ed una lunga ragnatela che scendeva da un ramo del castagno fino a terra, benché appesa debolmente, non si muoveva. Il diacono prese la chitarra che stava sempre appoggiata al panchetto, l'accordò e cominciò a cantare piano, con una voce sottile. I giovani seminaristi stan presso un'osteria, ma il caldo lo fece tacere, si asciugò il sudore dalla fronte e cettò uno sguardo sul cielo azzurro. Samoilenko si assopì invece per un attimo, poi si risvegliò, ma il caldo, il silenzio e il dolce torpore del dopo pranzo, lo avevano indebolito e reso quasi ubriaco. Le sue braccia pendevano, i suoi occhi saranno fatti piccini e la testa gli cadeva sul petto. Con uno sguardo intenerito e lacrimoso egli guardò il diacono e Foncoren e mormorò, la giovane generazione, un astro della scienza ed un luminare della chiesa. Guarda, forse da questo canta alleluia con le falde lunghe, salterà fuori un metropolita e mi toccherà ancora a baciargli la manina. Ma che fare? Dio lo voglia. Presto lo dirono russare. Foncoren e il diacono appena finito il tè uscirono sulla strada. Andate di nuovo al porto a pescare le triglie? chiese lo zoologo. No, fa troppo caldo. Andiamo a casa mia. Potete prepararmi un pacco e copiarmi alcuni scritti. Intanto discuteremo sul modo di occupare il vostro tempo. Bisogna lavorare, diacono. Così non è possibile. Le vostre parole sono giuste e logiche, disse il diacono, ma la mia pigrizia è dovuta innanzitutto alle circostanze della vita che devo vivere qui. Voi capite che l'indeterminatezza della situazione acuisce lo stato di apatia negli uomini. Dio lo sa. Se mi hanno mandato qui per sempre oppure per un po' di tempo, io devo vivere qui senza mettere su casa, mentre mia moglie deve rimanere dal suo padre e deve annoiarsi. D'altra parte, lo confesso, il calore mi liquefà il cervello. Sono stupidaggini, disse lo zoologo. Ci si può abituare al calore come ci si può abituare alla vita senza moglie. Non bisogna viziarsi. Bisogna sapersi controllare. Nadiesda Fyodorovna si recava quella mattina a fare il bagno, seguita dalla sua cuoca, Olga, che portava una brocca, una catinella di rame, le lenzuole e una spugna. Due vapori sconosciuti, evidentemente navi da calico straniere, drizzavano le loro ciminiere ad un bianco sporco in mezzo alla rada. Sulla banchina si vedevano degli sconosciuti, vestiti di bianco e con le scarpe bianche. Essi gridavano qualche cosa in francese e qualcuno rispondeva loro dalle navi. Le campane della piccola chiesa cittadina suonavano a distesa. Oggi è domenica, pensò con piacere Nadiesda Fyodorovna. Ella si sentiva bene in salute ed era in una disposizione d'animo festosa ed allegra. Mi pareva di essere molto graziosa col suo ampio vestito nuovo di tussor grosso, da uomo, e col suo grande cappello di paglia, la cui largatesa era piegata accuratamente sugli orecchi. Ella pensava che in tutta quella cittadina c'era soltanto una donna giovane, bella e colta, che sapeva vestirsi con poca spesa, con eleganza e con gusto. Ed era lei, proprio lei sola. Per esempio, il suo vestito non costava che 22 rubli, eppure era così grazioso. Secondo il suo pensiero, in tutta quella cittadina, lei sola poteva piacere e poiché c'erano molti uomini, essi dovevano, volendo o no, invidiare la Jevski. Era quasi contenta che il suo vania da un po' di tempo fosse freddo, riservato e cortese, ed alle volte persino brutale e insolente verso di lei. Prima ancora ella, a tutte le sue uscite dai suoi sguardi sprezzanti, strani e qualche volta addirittura incomprensibili, avrebbe risposto con pianti, rimproveri e minacce di andarsene o di lasciarsi morire di fame. Ora invece si limitava ad arrossire, a gettagli delle occhiate con aria piena di comprensione della sua colpa, ed era lieta che egli non la accarezzasse. Anzi, avrebbe preferito di essere insultata o minacciata, dato che si sentiva colpevole dinnanzi a lui. Ella si sentiva colpevole per non aver condiviso i sogni della Jevski sulla vita laboriosa, per la quale egli aveva abbandonato Pietroburgo e si era trasferito nel Caucaso, e credeva fermamente che il contegno di lui derivasse dal suo scontento per questo fatto. Partendo per il Caucaso, Nadiesda Fiodorovna si immaginava che sin dal primo giorno avrebbe potuto trovare un silente angoletto sulla riva del mare, un piccolo giardino ombroso in mezzo al quale scorrerebbe un ruscello, molti uccelli, la possibilità di allevare il pollame, di ricevere i vicini, di piantare fiori e frutta, di curare i poveri contadini e distribuire loro dei libri. Invece al suo arrivo, ella poté constatare che nel Caucaso non c'erano che monti alti e brulli, grandi foreste immense e doline, che non solo non si trovavano angoletti romantici, ma per avere un pezzo di terra bisognava scegliere, ricercare e lavorare molto prima di sistemarsi, che non si poteva parlare di relazioni di società perché sarebbero mancati i vicini, che faceva molto caldo e che si correva il rischio di essere spogliati di ogni avere. Ejewski da parte sua non aveva eccessiva fretta di comprare un pezzo di terra ed ella era felice di questa trascuratezza. Tra loro due quasi si fossero mentalmente messi d'accordo, non parlavano mai dei loro sogni precedenti. Egli tace, pensava lei, vuol dire che è adirato con me, perché taccio. Infine ella, l'insaputa di lui, in quei due anni del loro soggiorno nella cittadina, aveva preso nel magazzino di Acimianov diverse piccole cose a credito, per un valore di circa 300 rubli. Aveva accumulato quel debito senza accorgersene, ora per un po' di tela, ora per un po' di seta, oppure per un ombrellino. Oggi glielo dirò, decise, ma subito dopo si ricredette, pensando che dato l'umore di Lajewski era poco opportuno parlargli di debiti. Oltre tutto questo, ella già due volte in assenza di Lajewski aveva ricevuto in casa Kirillin, il commissario di polizia. Una volta di mattina, mentre Lajewski era al bagno, e la seconda volta a mezzanotte, mentre egli giocava a carte. Nadiesta Fiodorovna a questo ricordo si sentì avvampare il volto e guardò la cuoca quasi temendo che quella indovinasse i suoi pensieri. La donna sentiva l'opprimente influenza delle lunghe giornate calde e noiose, delle belle sere languide, delle notti affose e di tutta quella vita inoperosa, nella quale dalla mattina fino alla sera bisognava pensare come riempire il tempo infinitamente lungo. E quella noia e quella solitudine facevano nascere nella sua mente pensieri assillanti, e a poco a poco ella si convinceva di essere la donna più bella e più giovane della cittadina, sperduta tra i monti del Caucaso, e si persuadeva che la sua giovinezza sfioriva in vano, e che Lajewski, benché uomo onesto e pieno di idee, era uniforme e poco attraente per la sua abitudine di strascicare le pantofole e di rosicchiarsi le unghie, e che infine le rendeva impossibile la vita con i suoi capricci. Così poco a poco ella si sentiva invasa da una folla di desideri, e come una pazza di giorno e di notte pensava alla stessa cosa, all'amore. Del resto di questo sentimento erano saturi il suo respiro, i suoi sguardi, il tono della sua voce e il suo stesso modo di camminare. Tutto le diceva che bisognava amare, il mormorio del mare, come il crepuscolo della sera o i monti, e quando Chirilin aveva cominciato a farle la corte, ella non aveva avuto la forza, non aveva voluto né potuto resistere, e gli si era data. Ed ora le navi straniere di uomini vestiti di bianco le ricordavano chissà perché una immensa sala. Insieme con lo scambio di parole francesi le risuonarono all'orecchio le note di un waltzer, e il petto le sussultò, di una gioia nata improvvisamente senza alcuna ragione, ed ebbe voglia di parlare in francese e di danzare. Ella era contenta, pensando che nel suo tradimento non c'era nulla di spaventevole, poiché in esso l'anima non aveva preso parte. Ella continuava ad amare Lajewski, e ciò era tangibilmente confermato dalla gelosia che la tormentava per lui e dal dispiacere e dalla noia che provava quando egli non era in casa. Kirillin del resto, per quanto bello, si era dimostrato così volgare, che ormai tutto era finito tra di loro e più nulla ci poteva essere. Quel che era stato era stato, e nessuno aveva il diritto di immischiarsene, e se Lajewski fosse venuto a saperlo, non ci avrebbe creduto. Sulla spiaggia c'era un solo recinto chiuso per le signore, mentre gli uomini prendevano i loro bagni dove volevano. Entrando nel recinto, Nadiesda Fiodorovna trovò Maria Costantinovna Bityugova, una signora anziana, moglie di un funzionario, accompagnata da sua figlia Katia, quindicenne, studentessa di ginnasio. Esse stavano sedute entrambe su una panca e si spogliavano. Maria Costantinovna era un essere molto buono, sempre pronto ad entusiasmarsi e delicato. Parlava lentamente e con enfasi. Fino a 32 anni era stata governante, poi ebbe la fortuna di sposare il funzionario Bityugov, uomo molto pacifico, calvo, che cercava di nascondere la sua calvizie coprendola con i capelli rimastigli sulle tempie. Ella era ancora innamorata e gelosa di lui, arrossiva alle frasi che contenevano la parola amore e assicurava a tutti di essere molto felice. Mia cara, disse con entusiasmo, vedendo Nadiesda Fiodorovna, mentre dava al suo volto un'espressione speciale che tutti i suoi conoscenti chiamavano alla mandorla. Cara, che piacere che siete venuta, faremo il bagno insieme, è incantevole. La cuoca Olga si spogliò rapidamente e incominciò a svestire la sua padrona. Oggi non fa tanto caldo come ieri, non è vero? disse Nadiesda Fiodorovna, infastidita dal contatto delle mani della cuoca nuda. Ieri mi sembrava di morire dall'afa. Sì, mia cara, anch'io quasi soffocavo. Credetemi, ieri ho fatto il bagno tre volte, persino Nicodemo Aleksandrovich era inquieto. Ma si può essere così brutte? pensò Nadiesda Fiodorovna, guardando Olga e la moglie del funzionario. Gettò poi uno sguardo su Katia e pensò, la piccola non è fatta male. Poi disse a voce alta, il vostro Nicodemo Aleksandrovich è molto ma molto gentile. Ne sono semplicemente innamorata. Rise forzatamente Maria Costantinovna e poi aggiunse, è incantevole quello che dite. Dopo essersi spogliata, Nadiesda Fiodorovna sentì il desiderio di volare, ed anzi le parve che se avesse agitato le braccia avrebbe senza dubbio potuto volare. Intanto osservava Olga, che guardava quasi con disprezzo il suo corpo bianchissimo. Olga, giovane moglie di un soldato, era regolarmente sposata e per questa ragione si considerava migliore di lei ed anzi superiore. Nadiesda Fiodorovna si rendeva pure conto che Maria Costantinovna e Katia non la stimavano, ma la temevano. Questo non le piaceva e per innalzarsi nella loro considerazione disse, da noi a Pietroburgo la villeggiatura è ora al suo massimo splendore. Io e mio marito abbiamo tanti conoscenti, bisognerebbe andare a trovarli. Vostro marito a quanto mi pare è ingegnere, chiese timidamente Maria Costantinovna. Io parlo di Laievski, egli ha moltissimi conoscenti, ma purtroppo sua madre è un'aristocratica orgogliosa dalle idee limitate. Si interruppe e si gettò in acqua. Maria Costantinovna e Katia la seguirono. Nel nostro mondo ci sono troppi pregiudizi, continuò Nadiesda Fiodorovna, e vivere non è così facile come sembra. Maria Costantinovna, che conosceva le abitudini del mondo perché aveva fatto la governante in famiglie aristocratiche, disse, oh sì, potete credermi cara, se vi dico che dai cari a Timbski si pretendeva un abito diverso per il pranzo e per la cena, così che io, come se fossi stata un'attrice, ricevevo oltre il mensile un assegno per il mio abbigliamento. Ella si teneva fra Nadiesda Fiodorovna e Katia, quasi come se volesse isolare sua figlia persino dal contatto dell'acqua che bagnava l'amante di Laievski. Da un accesso verso l'alto mare, aperto nel recinto, si vedeva qualcuno che nuotava nelle vicinanze. Mamma, è il nostro Costia, disse Katia. Aha, mugolò per lo spavento Maria Costantinovna, e si mise a gridare, Costia, Costia, torna indietro. Costia, ragazzo quattordicenne, per mostrare la sua bravura alla madre e alla sorella, si tuffò e seguitò a notare allontanandosi, ma si stancò presto e si affrettò a tornare verso Riva. Dal suo volto serio e contratto si vedeva che egli non si fidava eccessivamente delle proprie forze. È un guaio con questi ragazzi, cara, disse Maria Costantinovna, ormai rassicurata. Quel monello lì un giorno o l'altro si romperà il collo. Voi, mia cara, forse non potete comprendere com'è piacevole e nello stesso tempo penoso essere madre. Si ha paura di tutto. Nadiazda Fyodorovna si mise il suo cappello di paglia e si avviò verso il mare aperto. Dopo aver percorso nuotando otto o nove metri, rimase immobile nell'acqua facendo il morto. Ella contemplava il mare fino all'orizzonte, vedeva le navi, la gente sulla spiaggia, la cittadina e tutto questo unito all'afa della giornata, al tenero mormorio delle onde chiare trasparenti, la eccitava e le sussurrava, vivi, vivi. Un canotto a vela passò rapido accanto a lei, fendendo energicamente le onde e l'aria. Un uomo che stava al timone la guardò ed ella ebbe piacere di essere guardata. Ogni secondo giorno mi viene la febbre, eppure non di magro, disse Nadiazda Fyodorovna, leccandosi le labbra secche per la salsedine marina, mentre rispondeva con un sorriso ai saluti dei conoscenti. Sono sempre stata grassa, ma ora mi pare di essere ingrassata ancora di più. Questo dipende dalla costituzione fisica, mia cara. Se uno non è predisposto ad ingrassare, come me per esempio, può nutrirsi abbondantemente senza aumentare il proprio peso. Avete bagnato il vostro cappello? Non fa niente, si asciugherà. Nadiazda Fyodorovna di nuovo vide sulla banchina gli uomini vestiti di bianco che passeggiavano e parlavano in francese, e il suono delle voci straniere, nuovamente, per una ragione misteriosa, la fece sussultare di gioia, e ad un tratto ella ricordò una grande sala, dove le sembrava di aver ballato un tempo, una sala forse soltanto vista nel sogno. Intanto una voce le sussurrava, nel più recondito tra i recessi dell'anima, che ella era la donna più meschina, volgare e spregievole del mondo. Maria Costantinovna si fermò alla porta della sua casa e invitò cortesemente Nadiazda Fyodorovna a farle una visita. «Entrate, mia cara», disse con voce supplichevole, ma nello stesso tempo guardava l'amica con l'ansia e la speranza nel suo rifiuto. «Con piacere», acconsentì Nadiazda Fyodorovna, «voi sapete come mi piace di stare a casa vostra». Così dicendo, entrò. La padrona di casa la fece sedere, le offrì il caffè con dei panini al burro, poi le fece vedere la fotografia delle sue antiche allieve, le signorine Gariatinsky, che erano già sposate, e le mostrò anche le pagelle di Katia e di Costia. I voti erano molto buoni, ma la madre, per dar loro maggiore importanza, ritenne opportuno lamentarsi con un sospiro per la difficoltà degli studi al ginnasio. Maria Costantinovna non cessava di dimostrarsi premurosa e piena di cortesie verso la sua ospite, ma nel contempo la compiangeva e tremava al pensiero che ella, con la sua presenza, potesse avere un'influenza cattiva sulla moralità di Costia e di Katia, ma si rallegrava che il suo Nicodemo Aleksandrovich non fosse a casa, perché secondo il suo parere tutti gli uomini si innamoravano delle donne simili all'amante di Laievski e quindi quella visita avrebbe potuto influire male anche sul suo marito. Parlando con l'ospite, la padrona di casa non cessava di ricordare che l'indomani sera si sarebbe stata una merenda e che von Koren l'aveva insistentemente pregata di non farne parola con i macacchi, ossia con Laievski e Nadia Zdafiodorovna. Però in un determinato momento, senza accorgersene, si tradì ed arrossendo per la confusione disse, spero che ci sarete anche voi. Era stato stabilito di andare verso il sud e di fermarsi a circa sette verste dalla cittadina, presso un'osteria situata alla confluenza di due fiumicelli, la Ciornaia e la Zoltia, per cuocervi il caciucco. Partirono poco dopo le cinque del pomeriggio. Prima di tutti in un charabank andavano Samoilenko e Laievski. Dietro a loro in una carrozza a tre cavalli erano Maria Costantinovna, Nadia Zdafiodorovna, Katia e Costia, che avevano seco la cesta delle provvigioni e le stoviglie. Nella vettura seguente stavano il commissario Kirilin e il giovane Acimianov, figlio del mercante, al quale Nadia Zdafiodorovna doveva ben 300 rubli. Di fronte a loro, tutto reggomitolato, stava sopra un piccolo sedile Nicodemo Aleksandrovich, basso di statura, azzimato e ben pettinato. Dietro a tutti viaggiavano Von Koren e il diacono che aveva tra i piedi la cesta col pesce. A destra gridava scorciavola Samoilenko appena scorgeva un carro o un indigiano sulla groppa di un asino dirigersi verso la comitiva. Fra due anni, appena potrò aprontare i mezzi e gli uomini, partirò per una spedizione, diceva Von Koren al diacono. Cercherò di passare lungo la riva del mare da Vladivostok allo stretto di Bering e poi di là alla foce dello Gen 6. Il compito della spedizione consisterà nel tracciare la carta delle regioni traversate, studiarne la fauna e la flora e compiere delle esplorazioni geologiche, antropologiche ed etnografiche. Voi stesso potrete decidere se volete partecipare o no alla mia spedizione. Questo è impossibile, rispose il diacono, e perché? Io non sono libero, ho una famiglia. La diaconessa vi lascerà partire, le assicureremo il necessario per la vita e sarebbe ancora meglio se la poteste convincere di farsi monaca, così avreste la possibilità di farvi frate e prendere parte alla spedizione in qualità di missionario. Io posso facilitarvi molte cose, il diacono taceva. Conoscete bene la teologia? chiese Von Koren. Maluccio. Io non posso aiutarvi in questa materia, perché le mie nozioni teologiche sono assai scarse, però se mi date una noticina di libri che vi occorrono ve li potrò mandare quest'inverno da Pietroburgo. Credo che dovreste leggere anche le memorie dei missionari, tra i quali spesso ci sono dei buoni etnologi ed eccellenti conoscitori delle lingue orientali. Quando vi sarete familiarizzato con l'andamento dei viaggi in genere e con le mansioni del missionario, vi sarà più facile di rendervi utile. Intanto, finché non arriveranno i libri, non dovete perdere inutilmente il tempo. Cercate di venire da me con assività e io vi insegnerò il funzionamento della bussola e studieremo insieme la meteorologia, perché tutto questo è indispensabile. Già, già, mormorò il diacono ridendo, ma vedete, io ho chiesto un posto nella Russia centrale e mio zio, che è arciprete, sta adoperandosi per me. Pensate dunque che figura farei nei riguardi di lui venendo con voi. Non capisco la vostra titubanza. Resonate un poco, continuando ad essere un semplice diacono, ossia dovendo ufficiare soltanto nelle feste, mentre tutti gli altri giorni non farete niente. Quale avvenire potete attendere, per esempio, fra dieci anni? Rimarrete tale e quale, come siete oggi. Unica cosa che può cambiare nella vostra carriera è la lunghezza dei vostri baffi e della vostra barbetta. Invece, tornando da una spedizione scientifica, dopo gli stessi dieci anni, sarete un altro uomo ed avrete la coscienza di aver compiuto qualche cosa. Dalla carrozza nella quale viaggiavano le signore giunsero ad un tratto gridi di spavento e di meraviglia. La strada attraverso la quale passavano le vetture era scavata nel fianco di una montagna rocciosa, a picco, e a tutti pareva di correre sopra una passerella appena aderente ad un'altissima parete di pietra e di vedere i cavalli precipitare da un momento all'altro nell'abisso. A destra si stendeva il mare e da sinistra si innalzava una parete frastagliata, bruna, chiazzata di nero, venata di rosso e coperta qua e là di radici rampicanti. In cima ad essa le conifere ricciute si chinavano sopra la strada, piegandosi leggermente, come delle persone che con paura e curiosità gettano lo sguardo in fondo ad un precipizio. Dopo un minuto eccheggiarono altri strigli ed altre lisa. Sopra la strada stava sospesa paurosamente un'enorme roccia. Non capisco quale diavolo mi porta con voi, disse Lajewski. Che cosa stupida e banale. Dovrai partire per il settentrione, fuggire a salvarmi e invece non sapere che partecipo a questa vostra merenda. Ma guarda che panorama, gli disse Samoilenko, quando ad una svolta della strada verso sinistra si aprì dinanzi ai loro occhi la vallata della zoltaia, in fondo alla quale brillava il fiumicello giallo, torbido e roso. Caro Sasha, io non ci vedo nulla di bello, rispose Lajewski. Entusiasmarsi continuamente della natura significa mostrare la povertà della propria immaginazione. Queste rocce e questi ruscelli sono delle semplici porcherie in paragone a quello che può darmi la mia fantasia. La vettura correva già lungo la riva del fiumicello la cui vallata si restringeva fra le montagne, che poco a poco si riunivano, presentando agli occhi dei viaggiatori una profonda gola paurosa. La montagna presso la quale passava la strada era composta da un ammasso in forme di enormi blocchi di pietra, sovrapposti l'uno all'altro e compressi con tale forza da far paura. Infatti Samoilenko, gettando lo sguardo verso il monte, non riusciva a trattenere un gemito involontario. Il monte cupo e bello era tagliato qua e là da fenditure strettissime e da gole profonde, dalle quali soffiava l'aria pregna d'umidità e pareva sprigionarsi il mistero. Attraverso le gole si vedevano altri monti grigi, scuri, rosei, violacei, ammantati di caligine oppure inondati di luce viva. Qualche volta presso le gole giungeva alla comitiva il rumore dell'acqua, che cadeva dall'alto e si infrangeva gorgogliando sulle pietre. Ah, maledette montagne, sospirò Lajewski, che noia mi danno. Nel punto dove i due fiumi si riunivano e l'acqua nerissima come l'inchiostro della ciornaia fendeva quella gialla della zoltaia formando delle chiazze di colore indeciso, a poca distanza dalla strada si innalzava l'osteria del tartolo Kerbalai. Il piccolo edificio aveva sul tetto la bandiera russa e sopra la porta d'ingresso un'insegna sulla quale era scritto col gesso «Piacevole osteria». Tutti intorno c'era un piccolo giardino circondato da una siepe, nell'interno del quale si trovavano tavole e panche distribuite fra la misera sterpaglia spinosa, sopra la quale si innalzava un unico cipresso, fosco e maestoso. Kerbalai, un piccolo e vivace tartaro in camicia azzurra e grembiule bianco, stava sulla strada e con le mani sul ventre si inchinava profondamente salutando gli ospiti con un sorriso e scopriva i suoi denti bianchi e lucidi. «Salute Kerbalaica!» gli gridò Samoilenko. «Noi proseguiremo ancora per un poco e tu portaci il samovar e delle sedie, ma sbrigati!» Kerbalai dondolò la testa rasa e borbottò qualche cosa che soltanto Fonkoren e il diacolo che andavano per ultimi riuscirono a sentire. «Ci sono delle trote, eccellenza!» «Buone le trote, portale!» gli rispose Fonkoren. Le carrozze si fermarono a circa 500 passi dall'osteria presso un piccolo prato scelto da Samoilenko. In mezzo all'erba giaceva un grande tronco di un albero abbattuto dalla tempesta, mostrando le radici villose di velte e i rami gialli e disseccati. Quai là c'erano delle pietruzze, mezzo interrate, che potevano servire da comodi sedili. Attraverso il fiume era stato gettato un malfermo ponte di travi e sull'altra riva, proprio di rimpetto, stava una piccola tettoia, sopra quattro pali bassi, destinata a deposito di glenturco e non dissimile da quella casupola che camminava sulle zampe di gallina, delle quali racconta una vecchia favola russa. Tutti i presenti ebbero l'impressione di non poter mai più uscire di lì. Da ogni parte, dovunque gettassero lo sguardo, si innalzava una schiera maestosa di montagne, mentre dinnanzi a loro, al di sopra dell'osteria del cipresso solitario, scendeva rapida l'ombra del crepuscolo, che sembrava restringere ancora di più la valle tortuosa della ciornaia, facendo apparire più alti i monti. Il silenzio era rotto soltanto dal gorgoglio del fiume e dal frinire delle instancabili cicale. «È un posto incantevole», disse Maria Costantinovna. «Bimbi, guardate quanto è bello questo luogo! E che silenzio!» «Sì, è veramente bello», confermò Laievski, a cui il paesaggio era piaciuto. Ma lo rese triste, senza che egli se ne rendesse conto del perché, il lieve nastro di fumo azzurro che usciva dal cammino dell'osteria e si spandeva sopra lo sfondo del cielo. «Sì, è bello», ripetè. «Ivan Andrievich, descrivete questo paesaggio», disse con voce piagnucolosa Maria Costantinovna. «E perché dovrai descriverlo?», chiese Lievski. «L'impressione che si riceve è superiore a qualsiasi descrizione. La ricchezza dei colori e dei suoni della natura percepita dai nostri sensi viene menomata ed impoverita dagli scrittori». «Ma davvero?», osservò freddamente Von Koren, mentre stava arrampicandosi sopra una grossa pietra presso il fiume per sedersi. «Davvero?», ripetì guardando fisso Lajewski. «E Romeo e Giulietta? E, per esempio, la notte ucraina di Pushkin? La natura dovrebbe venire a mettersi in ginocchio innanzi a queste magistrali descrizioni». Forse, accondiscese Lajewski, che non aveva eccessiva voglia di pensare intorno all'argomento e di discutere. Del resto, aggiunse dopo una piccola pausa, che cosa sono in sostanza Romeo e Giulietta? «Questo amore bello, poetico e santo è come le rose sotto le quali si cerca di nascondere il marcio. Romeo non è che un uomo, pieno di bestialità e di umanità. Un uomo tutto, di qualunque cosa ci voglia parlare con voi, cercate di condurre l'argomento verso...» Von Koren si interruppe guardando Katia. «Verso che cosa?» domandò Lajewski. «Vi si dice, per esempio, com'è bello questo grappolo d'uva e voi osservate immancabilmente già. Ma com'è brutto quando lo si mastica e lo si digerisce nello stomaco? Perché parlate così? Non è originale e, in genere, è uno strano atteggiamento». Lajewski sapeva che Von Koren non aveva simpatia per lui e lo temeva, provando in genere, in sua presenza, un senso strano di oppressione. Egli non rispose, si appartò rimpiangendo di essere venuto. «Signori, andate a raccogliere delle flasche secche per far fuoco», comandò Samoilenko. Tutti si sparpagliarono e rimasero vicino alle carrozze solo Kirilin, Acimianov e Nikodem Aleksandrovich. Kerbalai portò le sedie, distese per terra un tappeto e vi mise accanto alcune bottiglie di vino. Il commissario Kirilin osservava i movimenti del tartaro. Kirilin era un uomo alto e tante, portava in tutte le stagioni il suo mantello. Aveva un aspetto altero, una datura imponente e grave. Una voce un poco roca e nell'insieme assomigliava esattamente al tipo classico dei giovani capi di polizia in provincia. Mentre guardava, la sua espressione era triste ed asonnata, come se poco prima fosse stato svegliato contro il suo desiderio. Ma ad un tratto chiese a Kerbalai, scandendo ogni parola. «Che hai dunque portato, animale? Io ti avevo ordinato di darci del vino scelto e tu, muso di tartaro, che hai portato, eh? Che cosa? Ma noi abbiamo del nostro, caro Iegor Aleksandrovich», osservò timido e cortese Nikodemo Aleksandrovich. «E che vuol dire? Io desidero che ci sia anche del mio vino. Siccome partecipo alla merenda, suppongo di aver pieno diritto di portare la mia parte, suppongo!» «Porta dieci bottiglie del vino che voglio io», disse a Kerbalai. «Ma perché tante bottiglie?», osservò meravigliato Nikodemo Aleksandrovich, sapendo che Kirillin non aveva denari. «Venti bottiglie, anzi, trenta!» urlò Kirillin. «Lasciate fare», sussurrò Cimianov a Nikodemo Aleksandrovich. «Pagherò io». Nadiazna Fyodorovna era di umore allegro e birichino. Ella avrebbe voluto saltare, ridere, gridare e civettare. Con la sua veste a buon mercato di indiana a cerchietti azzurri, con gli scarpini rossi e col solito cappello di paglia, ne pareva di essere piccola, semplice, leggera e sottile come una farfalla. Ella attraversò correndo il primitivo ponte e per un attimo guardò la superficie dell'acqua per provare il senso di vertigine. Poi lanciò un grido e corse ridendo verso il piccolo granaio, mentre le sembrava che tutti gli uomini e perfino Kerbalai l'ammirassero. Quando, nelle tenebre che s'addensavano rapide, i monti, gli alberi, i cavalli e le vetture si confusero, perdendo i loro contorni, e dalle finestre dell'ostelia brillò un lume, Nadiazda Fyodorovna risalì il monte, attraverso un sentiero che serpeggiava tra le pietre e gli arbusti spinosi, per godersi il panorama dall'alto. In basso il fuoco era già acceso e intorno ad esso si muoveva il diacono, con le maniche rimboccate, seguito dalla sua ombra lunga e nera che si proiettava intorno. Egli aggiungeva le frasche al falò e con un cucchiaio legato ad un lungo bastone rimestava nella pentola. Amoelenco, col viso rosso, continuava ad affaccendarsi come se fosse stato nella cucina e gridava furioso «Dov'è dunque il sale! Signori, l'avete forse dimenticato? Che bella cosa, vi siete messi tutti a sedere come padroni ed io solo devo pensare a tutto!» Ajavski e Nikodem Aleksandrovich stavano seduti vicino all'albero abbattuto e guardavano pensierosi il fuoco. Maria Costantinovla e i suoi figli toglievano dalle ceste le tazze per il tè ed i piatti, mentre von Koren, con le braccia incrociate e con un piede appoggiato sopra la roccia, stava sulla riva, proprio vicino all'acqua, pensando a qualche cosa. Il fuoco spandeva tutto intorno vivide chiazze rosse che si mischiavano con le ombre degli uomini e che risalivano tremolando sulla montagna e sugli alberi, che apparivano sopra le travi del ponte e sulle pareti del granaio. L'altra riva del fiumicello era tutta illuminata e i suoi contorni frastagliati si specchiavano nell'acqua, mentre la corrente rapida e tumultuosa faceva tremolare l'immagine riflessa. Il diacono andò a prendere il pesce che Karbalaj stava ripulendo sulla riva, ma a mezza strada si fermò e si guardò intorno. «Dio mio, com'è bello qui!» pensò. «Com'è bello! Non si vedono che le pietre, le tenebre, il fuoco, un albero mostruoso e gli uomini. Ma tutto è bello!» Sull'altra riva presso il granaio comparvero alcuni sconosciuti. Il riflesso della luce oscillante e la spessa cortina di fumo distesa dal vento verso la parte del granaio non permettevano di distinguere nettamente i nuovi venuti. Apparivano soltanto a tratti. Ora un berretto peloso ed una barba lunga e grigia. Ora una camicia azzurra. Ora un pugnale alla cintura sopra il ventre. Ora un giovane viso abbronzato dalle sopracciglia nere così folte e nette come se fossero state disegnate col carbone. Cinque degli sconosciuti si sedettero a terra in circolo. Gli altri cinque salirono sul granaio. Uno rimase sulla porta, voltando la schiena verso il fuoco e incrociando le mani dietro. Cominciò a raccontare qualche cosa che doveva essere molto interessante, perché quando Samoilenko aggiunse della legna al fuoco che guizzò più intensamente, settando tutto intorno una pioggia di scintilla e illuminando l'interno del granaio, si poterono vedere due facce calme, esprimenti una profonda attenzione. Anche gli uomini che stavano prima seduti presso il granaio si erano voltati e si erano messi ad ascoltare il racconto. Qualche attimo dopo, gli uomini rimasti in basso si misero a cantare un canto lento, melodico e simile a quelli che la liturgia ortodossa prescrive per la grande quaresima. Sentendo questo canto, il liacono si vede ad un tratto trasportato dalla fantasia. Egli si figurava di ritorno dalla spedizione scientifica, della quale gli aveva parlato von Koren, un giovane missionario e monaco, celebre autore del passato magnifico. Lo consacravano Archimandrita e poi Vescovo. Stava ufficiando in una cattedrale sontuosa ed usciva con la mitra d'oro e con l'insegna episcopale sul petto per salire sopra il gradino dinnanzi all'iconostasi e benedire la massa del popolo con i sacri candelabri a tre e a due bracci. Poi intonava «Guarda dai cieli, oh Dio, e vedi, e visita questa vigna, e piantala con la tua mano». E i bimbi rispondevano cantando con voce in reliche «E Dio santo! Diacono, e il pesce dov'è?» tonò la voce di Samoilenco. L'incanto si ruppe e il diacono ritornò verso il fuoco, ma la fantasia accesa una volta non l'abbandonò e continuava a fantasticare, immaginando una processione che andava attraverso una strada polverosa di campagna in una calda giornata di luglio. Innanzi al corteo i contadini portavano i sacri stendardi e le donne insieme con le ragazze reggevano delle icone. Dietro a loro camminavano i ragazzi cantori ed il sagristano con la guancia bendata e con i fini di paglia fra i capelli. Poi seguiva lui, il diacono, ed infine il pope con la calotta e la croce. Dietro a loro sollevava la polvere una folla di contadini e in mezzo alla folla si vedevano la moglie del pope e la diaconessa. I cantori cantavano, i bimbi strillavano ed una lodola faceva sentire la sua voce. Ecco, si fermavano per aspergere con l'acqua benedetta un armento. Poi proseguivano e con frequenti genuflessioni implorevano la pioggia. E poi venivano gli spuntini, le conversazioni ed anche questo è bello, pensò il diacono. Kirillin e Acimianov incominciarono a risalire il monte attraverso il viottolo. Acimianov rimase indietro mentre Kirillin raggiungeva Nadiezda Fiodorovna. Buonasera, le disse salutando militarmente. Buonasera. Sì, mormorò Kirillin guardando il cielo e riflettendo. Perché sì? chiese Nadiezda Fiodorovna dopo un attimo di silenzio durante il quale si accorse che Acimianov la stava osservando. E così devo concludere, disse lentamente il commissario, che il nostro amore si è appassito ancora prima di fiorire. Che cosa pensate voi? Spiegatemi per favore se devo considerare tutto questo come una civetteria da parte vostra. Permettetemi di dire che sarebbe una civetteria ben strana. Oppure devo ritenere che voi mi considerate come un lazzarone col quale potete comportarvi come vi accomoda. Un errore. Lasciatemi, rispose recisamente Nadiezda Fiodorovna, guardandolo con paura e chiedendosi nel contempo con meraviglia. Ma è possibile che ci sia stato un solo minuto in cui quest'uomo mi sia piaciuto e in cui io gli abbia accordato un'intimità. Ah, è così, disse Kirillin. Rimase un poco in silenzio. Riflettei e aggiunse. Che farci? Aspetterò che siate meglio disposta. Ma per intanto oso assicurarvi che sono un uomo onesto e di questa mia qualità nessuno deve dubitare. Non si può prendersi il luogo di me. Adieu. Di nuovo la salutò militarmente e si allontanò inoltrandosi tra i cespugli. Poco dopo si avvicinò indeciso a Cimianov. Com'è bella la sera, disse con pronuncia tipicamente armena. Il figlio del mercante non era brutto. Si vestiva alla moda e si comportava secondo i precetti della buona educazione. Ma Nadiezda Fiodorovna non aveva alcuna simpatia per lui, perché doveva a suo padre 300 rubli ed anzi era seccata che avessero invitato alla merenda un mercante. E ne era sgradevole la vicinanza di lui, proprio in quella sera in cui ella sentiva la sua anima eccezionalmente pura. In complesso la gita è piacevole, disse egli dopo un attimo di silenzio. Si, confermò lei, e come se si fosse ricordata in quel momento del suo debito, aggiunse con negligenza. Dite a vostro padre che fra giorni verrà Ivan Andreevich e pagherai 300 e non so quanti rubli. Io sarei pronto a darvene ancora 300, a patto che non ricordasti ogni giorno questo debito. Ma perché questa prosa? Nadiezda Fiodorovna rise e venne in mente un'idea ridicola. Ecco, se fosse stata meno onesta e avesse voluto, avrebbe potuto in un solo attimo liberarsi del suo debito. E nella rapida successione dei pensieri, la donna si soffermò per un attimo sulla possibilità di far girare la testa a quel ragazzo giovane e bello, ma stupidino. La prima ne parve che una simile azione sarebbe stata ridicola, assurda e bizzarra, ma poi, improvvisamente, ebbe la tentazione di farlo innamorare, di sfruttarlo e di piantarlo, per vedere poi quello che sarebbe accaduto. Permettetemi di darvi un consiglio, disse timidamente a Cimianoff. Vi prego, guardatevi da Kirillin e gli osa raccontare di voi delle cose terribili. Non mi interessa di sapere quello che può raccontare di me un qualsiasi imbecille, disse freddamente Nadezda Fiodorovna, ma nel contempo si impossessò di lei un'inquietudine strana, che tolse di colpo ogni attrattiva al pensiero di prendersi gioco del giovane e grazioso a Cimianoff. Bisogna raggiungere gli altri, aggiunse. Non sentite che chiamano? Sul praticello la comitiva era già radunata intorno alla pentola, nella quale era pronto il caciucco. Lo distribuivano sui piatti e lo mangiavano con quella strana solennità che caratterizza la sciolvere in piena campagna, quando tutto quello che si mangia pare così gustoso e così saporito. Come mai può parere una vivanda consumata in casa propria? Infatti tutti erano entusiasti del caciucco ed affermavano di non averne mangiato mai uno così buono. Come succede sempre durante le gite in campagna, dove ci si perde nella massa dei cartocci e dei cartoccini, delle carte unte ed inutili strascicate dal vento, nessuno distingueva più il suo bicchiere e il suo pane. I commensali versavano il vino sul tappeto e sulle proprie ginocchia, rovesciavano il sale. Le tenebre si addensavano perché il fuoco non ardeva più come prima e ciascuno dei presenti, invaso da una dolce pigrizia, non pensava ad alzarsi per aggiungere delle frasche al falò. Tutti bevevano e persino Katia e Costia ebbero un mezzo bicchiere di vino a testa. Anche Nadiazda Piotrovna ne beve un bicchiere colmo, poi un altro e nell'ebbrezza dimenticò l'episodio di Chirilin. Splendida gita, incantevole cena, disse Sarajevski, reso allegro dal vino. Ma io preferirei a tutto questo il nostro buon inverno, come dice il poeta. Una polvere gelata, sinergente al suo bavero di martora. Ciascuno ha il suo gusto, osservò von Koren. Dajewski si sentì a disagio. Alla schiena egli sentiva il calore che si irradiava dal falò, mentre l'odio che si sprigionava dalle parole e dagli sguardi di von Koren pareva colpirlo nel petto come un'ondata di vento gelido e questo odio di un uomo, che egli stesso considerava come onesto e intelligente, non poteva essere privo di un motivo fondamentale e lo umiliava e lo indeboliva. Non avendo la forza di affrontare questo odio, disse con un tono conciliante, io amo appassionatamente la natura e rimpiango di non essere un naturalista. Vi invidio. Ed io non rimpiango e non invidio, disse Nadiazda Piotrovna. Non ho mai potuto comprendere come ci si possa dedicare seriamente allo studio degli scarabei e delle coccinelle quando il popolo soffre. Ajewski condivideva la sua opinione, perché egli, digiuno di scienze naturali, si sentiva sempre urtato dal tono catedrattico e dall'aria sapiente e seria degli uomini che si occupano dei baffetti delle formiche e delle zampe degli scaravaggi e gli seccava che essi, in base a tali studi, riferendosi a un non meglio per lui definito protoplasma, egli chissà perché se lo figurava sotto forma di un'ostrica, si assumessero il compito di risolvere problemi concernenti l'origine e l'esistenza dell'uomo. Però, sentendo la menzogna nelle parole di Nadiazda Piotrovna, disse soltanto per contraddirla, la questione non sta nelle coccinelle, ma in quello che se ne deduce. Era già tardi, quasi le undici, e la comitiva incominciò a disporsi nelle carrozze per il ritorno. Tutti erano già a posto, mancava solo Nadiazda Piotrovna e Acimianov e si rincorrevano ridendo sull'altra riva del fiume. «Signori, fate presto!» gridò Samoilenko. «Non si dovrebbe dare il vino alle signore!» disse sottovoce von Koren. Lajewski, spossato dalla gita e turbato dall'odio dello zoologo e dai suoi pensieri, si incamminò e incontra Nadiazda Piotrovna. E mentre ella, gioiosa e spensierata, sentendosi leggera come una piuma, ansando e ridendo, lo afferrava per le mani e gli appoggiava la testa sul petto, egli si scostò e disse con tono severo. «Ti comporti come una cocotte ed acque». Ma nello stesso tempo comprese la brutalità della sua espressione e sentì compassione di lei. Nadiazda Piotrovna lesse sul volto di lui, stanco e adirato, l'odio, la compassione e il risentimento contro se stesso, e ad un tratto si sentì scoraggiata, comprendendo di avere esagerato, di essersi comportata con poco ritegno. Ed afflitta, sentendosi pesante, grassa, volgare e debbra, sedette nella prima carrozza che le capitò insieme con Nacimianov. Lajewski si accomodò accanto al commissario Kirillin, lo zoologo con Samoilenko, il diacono con Maria Costantinovna e i figli, e il corteo si mise in moto. «Ma pensa che razza di macacchi», cominciò a dire von Koren, avvolgendosi il mantello e chiudendo gli occhi. «Hai sentito, lei non vorrebbe occuparsi degli scarabèi e delle cocinelle perché il popolo soffre. Così, questi macacchi giudicano noi altri scienziati. È una razza di schiavi, servile e astuta, abbruttiti da almeno dieci generazioni con la frusta e con il pugno», continuò a sfogarsi lo zoologo. «Essa non sa che tremare, umiliarsi e incensare la violenza. Ma se provi a lasciare un uomo di questa razza in uno spazio libero, dove nessuno lo possa prendere per il bavero, allora esso ti rivelerà e ti farà conoscere tutte le qualità essenziali della massa dei macacchi. Guarda, per esempio, come si comportano quegli esemplari di questa razza nelle esposizioni di quadri, nei musei e nei teatri. Diventano arditi, si gonfiano, insultano e criticano a dismisura. Allo stesso modo si comportano quando giudicano la scienza. Del resto non possono che criticare, perché questa è la caratteristica della loro razza. Puoi osservare infine con quale compiacenza si scagliano contro gli intellettuali, mentre quasi risparmiano i furfanti. Credimi, la società si compone per tre quarti di schiavi, ossia di macacchi, come la Jevski e la sua Nadiesda Piotalovna. E non succede mai che uno di quelli lì tenda la mano e ti ringrazi perché tu lavori». «Non so proprio dove vuoi arrivare», rispose Samoilenko sbadigliando. «Lai, poverina, con tutta la sua semplicità, desiderava parlare con te di cose sagge e tu ne vuoi cavare delle conclusioni complicate. La Jevski ti è antipatico. Tu sei adirato con lui per una ragione che io non conosco e ti adiri con lei perché è la sua compagna. Nadiesda Piotalovna, invece, è una bella e buona signora». «Basta, basta! Vuoi che te lo dica? È una volgare mantenuta, banale e depravata». «Senti, Aleksandro Davidovich, quando tu incontri una donna del popolo che non convive col marito e che passa le sue giornate a far niente oltre i soliti oh oh e ah ah? Che cosa le dici? Battene a lavorare, non è giusto? E allora perché sei timido e non vuoi dire la verità quando si parla di Nadiesda Piotalovna? Forse perché lei è mantenuta non di un semplice marinaio, ma di un impiegato?» «E che pretendi da me?» disse risentito Samoilenko. «Vuoi che la batta? Non adulare il vizio. Vedi, noi abbiamo il coraggio di condannare il vizio solo nella quiete delle quattro pareti della nostra stanza. Ma questo è simile all'azione di un superstizioso che fa le corna tenendo le mani in tasca, perché si vergogna di farla in pubblico. Io sono zoologo e sociologo, il che è in sostanza lo stesso. Tu sei medico e siccome la società ci crede e dà fiducia in noi, abbiamo il dovere di indicare il tremendo danno che minaccia le presenti e le future generazioni l'hanno causato dall'esistenza di donne della specie di questa Nadiesda Ivanovna.» «Fiodorovna», corresse Samoilenko, «secondo te che cosa dovrebbe fare la società?» «La società. Questo è affar suo. Io, per conto mio, penso che il rimedio più efficace e più sicuro sia la violenza. Bisognerebbe spedirla a mano militari da suo marito e, se lui la rifiutasse, mandarla tranquillamente ai lavori forzati, oppure in una casa di correzione.» Ospirò Samoilenko e, dopo un momento di riflessione, chiese sottovoce «Qualche giorno fa tu mi dicesti che gli uomini, come Lajewski, bisogna sopprimerli inesorabilmente. Dimmi ora se, per esempio, mettiamo, lo Stato oppure la società decidessero di affidarti l'incarico di sopprimerlo. Tu, saresti in grado di farlo? La mia mano non tremerebbe.» Tornati a casa dopo l'incanto di quella sera, Lajewski e Nadiesda Fiodorovna ritrovarono le loro camere sempre scure, affose e piene di noia. Lajewski, tacendo, accese una candela e Fiodorovna sedette e, senza togliersi il cappello, alzò su di lui i suoi occhi malinconici e pieni della comprensione della sua colpa. Lajewski intuì che la donna attendeva una spiegazione, ma spiegarsi non era facile, anzi era noioso, inutile e inconclusivo. D'altra parte sentiva un peso nell'anima, per non aver saputo dominarsi e per averle detto una volgarità. Toccandoci per caso una tasca, sentì sotto le dita la lettera che avrebbe dovuto farle leggere già da tempo e pensò che se gliela avesse mostrata in quel momento, essa non avrebbe più pensato alle spiegazioni. «È tempo di chiarire le nostre relazioni», pensò. «Gliela farò vedere e succeda quel che deve succedere». Si trasse dalla tasca la lettera e, porzendogliela, disse «Leggi, ti riguarda». Poi si ritirò nel suo studio e si coricò sul divano, senza accendere la luce. Nadiesta Fiodorovna lesse la lettera ed un tratto le sembrò come se il soffitto si fosse abbassato e le pareti avvicinate l'una all'altra e tutto parve stretto, buio e terribile. Ella si segnò rapidamente tre volte e mormorò «Pace a lui, oh signore! Pace a lui, oh signore!» e pianse, poi chiamò «Vania! Ivan Andreevich!». Non ebbe nessuna risposta. Credendo che Lajewski fosse entrato e stesse vicino a lei, dietro la sedia, ella si inghiozzava come un bambino e diceva «Perché non me l'hai detto prima che egli è morto? Non sarai andata con gli altri, non avrai riso così smodatamente! Non avrai dovuto ascoltare delle proposte volgari dagli uomini! Ho commesso un peccato, un peccato! E che peccato! Salvami, Vania, salvami! Io impazzisco, sono perduta!» Lajewski udiva i suoi singhiozzi disperati, che provocavano in lui una strana oppressione e gli facevano martellare il cuore. Nell'angoscia egli si alzò e stette per un attimo immobile in mezzo alla camera, poi trovò a tastoni una sedia accanto alla tavola e si sedette. «È una prigione», pensava. «Bisogna uscirne, io non posso!» Era già tardi per andare a giocare alle carte, mentre la cittadina non offriva alcun'altra possibilità di svago. Per questa ragione Lajewski si colicò nuovamente, turandosi gli orecchi per non sentire i singhiozzi. D'un tratto si ricordò che poteva andare da Samoilenko. Per non farsi vedere da Nadiesta a Fiodorovna, egli scelse la via della finestra, scivolò nel giardinetto, scavalcò lo steccato ed uscì sulla strada immersa nel buio. Poco prima era giunto nel porto un vapore che, a giudicare dai lumi, doveva essere un grande piroscafo da passeggeri. Si udiva ancora il cigolio della catena dell'ancora. Dalla riva in direzione del vapore correva rapidamente una fiammella rossa. Era il canotto della dogana. «Come dorme beata quella gente nelle cabine», pensò Lajewski invidiando la quiete altrui. Le finestre della casa di Samoilenko erano spalancate, ma le stanze erano buie e immerse nel silenzio. Lajewski, dopo aver guardato nell'interno, chiamò «Alessandro Davidovich! Dormi?» «Alessandro Davidovich!» In risposta gli giunse prima un rumore inquieto, poi si sentì un colpo di tosse ed infine un brontolio. «Chi è là? Che diavolo? Sono io, Alessandro Davidovich! Scusami!» Poco dopo si aprì la porta di una stanza, poi apparve nella debole luce di una candela l'enorme corpo di Samoilenko vestito di bianco e col berretto da notte sul capo. «Che hai?» chiese respirando affannosamente e grattandosi. «Aspetta, ti apro subito. Non ti scomodare. Entrerò dalla finestra». Lajewski si arrampicò sulla finestra ed entrando nell'interno si avvicinò a Samoilenko prendendolo per una mano. «Alessandro Davidovich!» disse «Ti supplico. Comprendimi!» «La mia situazione è tremenda. È un martirio. Se essa dovrà durare ancora un giorno o due, io mi strozzerò come si strozza un cucciolo». «Aspetta, ma di che vuoi parlare?» «Accendi un'altra candela». «Oh!» sospirò pesantemente Samoilenko accendendo la candela. «Dio mio! Ma sono ormai le due, fratello caro!» «Scusami, ma io non riesco a rimanere a casa mia», disse Lajewski, sentendosi sollevato dalla presenza di Samoilenko e dal brillio della luce. «Tu, Alessandro Davidovich, sei il mio unico e il mio migliore amico. Non spero che in te. Che tu voglia o no, devi aiutarmi, per amore di Dio. Io devo partire di qui a qualunque costo! Prestami del denaro!» «Oh mio Dio!» sospirò Samoilenko grattandosi la testa. «Stavo per addormentarmi ed eccoti un fischio ed arriva il piroscafo. Poi anche tu! Quanto ti occorre?» «Almeno trecento rubli. Cento rubli occorrono per lei e duecento mi serviranno per il viaggio. Te ne devo di già quasi quattrocento, ma ti restituirò tutto. Tutto!» Samoilenko riunì con una mano le due fedine, allargò le gambe e rimase pensieroso. «Così, mormorò esitante, tu vuoi trecento rubli. Sì, ma io non dispongo di una simile somma e dovrò ricorrere a qualcuno. Prendili in prestito, per carità di Dio!» disse Lajewski, comprendendo dal volto di Samoilenko che egli era disposto a dagli del denaro e che senza fallo glielo avrebbe dato. «Prendili in prestito ed io senza indugio ti restituirò tutto. Ti manderò la somma intera non appena arrivato a Pietroburgo. Di questo non dubitare. Senti, Sasha», aggiunse poi animandosi, «e se bevissimo un bicchierino? Bene, possiamo anche bere?» Passarono nella stanza da pranzo e mentre Samoilenko metteva sulla tavola tre bottiglie di vino ed un piatto colmo di pesche, seguitarono a tacere. Poi Samoilenko chiese «Ena diesta Fiodorovna? Hai deciso di lasciarla qui?» «Accomoderà tutto, vedrai, come accomoderà tutto!» rispose Lajewski, sentendo un improvviso afflusso di gioia. «Le manderò dei soldi e lei potrà raggiungermi. Là, a Pietroburgo, potremo chiarire meglio le nostre relazioni. Ed ora, alla tua salute, amico!» «Aspetta», disse Samoilenko, «prima di tutto devi bere questo qui. È il mio. Invece questa bottiglia è di Navariz e quell'altra è di Achatulov. Devi provare tutte e tre le qualità e dopo mi dirai francamente il tuo parere. Pare che il mio abbia un poco di acido. Non ti sembra?» «Sì, tu mi hai consolato, Aleksandro Davidovich. Grazie, amico. Mi sembra di essere rinato. Ma dimmi, non ti sembra che abbia un poco di acido. Non sa il diavolo. Che vuoi che lo sappia? Tu sei un uomo magnifico, un uomo d'oro!» Guardando il suo volto pallido, buono ed eccitato, Samoilenko ricordò ad un tratto l'affermazione di von Koren, secondo la quale simili individui dovrebbero essere soppressi. E Lajewski gli parve un bambino debole e abbandonato, esposto alle angherie di tutti e indifeso. «Però, quando sarai a Pietroburgo, riconciliati con tua madre», disse egli. «Non sta bene rimanere adirati». «Ma sì, senza dubbio!» Tacquero per un attimo, ma dopo la prima bottiglia Samoilenko disse «Ti dovresti riconciliare anche con von Koren. Tutti e due siete uomini intelligentissimi ed eccellenti e vi state a guardare come lupi affamati». «Sì, è un uomo intelligentissimo, eccellente», convenne Lajewski, pronto ormai a rodare e a perdonare tutti. «Non dico di no, anzi, è un uomo straordinario, ma per me è impossibile giungere all'accordo con lui. Le nostre mentalità sono troppo differenti. Io ho un carattere fiacco, debole, sottomesso, e chissà, forse in un momento buono, sarei capace di tendergli la mano, ma lui mi volterebbe le spalle con disprezzo». Tacque per un attimo, beve del vino e passeggiando da un angolo all'altro oppure soffermandosi in mezzo alla stanza, continuò. «Io comprendo benissimo l'eccellente von Koren. Egli ha un carattere forte, duro e dispotico. Tu hai inteso. Egli parla sempre della sua spedizione e le sue non sono delle parole vuote. Ha bisogno del deserto, di una notte di luna. Ti farò in poche parole un quadro del carattere di von Koren. Ecco, tutto intorno, stanchi e sfiniti, dormono sotto le tende dall'aperto i cosacchi, malati ed affamati, consunti dalle marce faticose, le guida, i portatori, il dottore, il cappellano, e soltanto lui non dorme. E, come Stanley seduto su una piccola piegavole sedia sotto la sua tenda, si sente re del deserto e padrone di quegli uomini. Egli è un camminatore instancabile, precede sempre la sua spedizione e cammina, cammina senza che si sappia dove vada. Cammina e cammina, mentre i suoi uomini periscono ad uno ad uno, ma continua a camminare finché non muore anche lui per rimanere tuttavia despota e re del deserto, perché la croce sulla sua tomba domina la distesa e indica la strada alle carovane a distanza di trenta o quaranta miglia. Peccato che quel uomo non si sia dato alla vita militare. Sarebbe un eccellente e geniale condottiero. Egli saprebbe far annegare nei fiumi la sua cavalleria per fare con cadaveri dei ponti e una simile audacia in guerra è più indispensabile di ogni tattica e di ogni fortificazione. Sì, io lo comprendo benissimo. Ma dimmi, perché sta vegetando qui? Che cerca? Studia la fauna del mare. No, fratello, no, disse decisamente Leievski. Io ho incontrato uno studioso a bordo di un piloscafo e ho sentito dire che il Mar Nero è povero di fauna, perché nelle sue profondità, in seguito all'abbondanza dell'idrogeno solforoso, ogni vita organica è impossibile. Infatti tutti i professori di zoologia lavorano nelle stazioni biologiche di Napoli o di Villa Franche, ma von Koren è ostinato ed è venuto qui, perché nessuno degli studiosi si dedica al Mar Nero. Egli ha rotto le sue relazioni con l'università. Egli non vuol mantenere i rapporti con i compagni e conoscere gli altri studiosi, perché egli prima di tutto è un despota e poi un zoologo. Vedrai che cosa succederà di lui. Figurati che fin da ora sogna il suo ritorno trionfale dalla spedizione per scacciare dalle nostre università l'intrigo e la mediocrità e per dimostrare ai cosiddetti scienziati la loro miseria intellettuale. Il dispotismo nella scienza è forte ed ha lo stesso valore che in guerra. Ti dico che egli vive da due anni in questa puzzolente cittadina solo perché è meglio essere primo in un villaggio che secondo in una grande città. Egli è qui come un re e come un'aquila. Tiene tutti gli abitanti tra le sue sgrinfie e li opprime con la sua autorità. Egli si mischia negli affari di tutti. Di tutto ha bisogno e tutti hanno paura di lui. E siccome io solo cerco di sfuggire al suo predominio, egli lo sente e mi odia. Non ti ha dato a intendere che bisognerebbe uccidermi o mandarmi ai lavori forzati? Sì, affermò ridendo a Samuilenko. Anche Leievski rise e poi vuotò il bicchiere. Anche i suoi ideali sono dispotici, aggiunse continuando a ridere ed addentando una pesca. Tutti i semplici mortali, se lavorano per l'umanità, tengono conto del loro prossimo, di me, di te, insomma dell'uomo. Invece per von Koren gli uomini non sono che cuccioli e nullità, perciò troppo meschini per essere lo scopo della sua vita. Egli lavora, condurrà la sua spedizione, si romperà il collo persino. Però non in nome dell'amore per il prossimo, ma in nome delle concezioni astratte, mi comprendi, delle generazioni future, della specie umana ideale, eccetera. Von Koren si dà un gran da fare per il miglioramento della specie umana e dal suo punto di vista noi non siamo che degli schiavi, carne da cannone, oppure bestie da soma. Egli sopprimerebbe gli uni, relegherebbe all'ergastolo gli altri e sottoporrebbe i rimanenti ad una disciplina feroce, come Rakseyev. Sì, signore, colicarsi ed alzarsi al suono del tamburo, mettere gli eunuchi per sorvegliare la nostra castità e la nostra moralità. Sparare contro chiunque esca dal cerchio della nostra ristretta morale conservatrice. Ecco il miglior metodo per raggiungere il miglioramento della specie umana, secondo Von Koren. E che cos'è questa specie umana? Un'illusione, un miraggio. I despoti sono sempre stati degli illusionisti. Sì, caro, io lo comprendo benissimo, lo apprezzo e non nego la sua importanza, perché l'esistenza del mondo poggia sugli uomini come Von Koren e se il mondo fosse dato a noi soli, con tutta la nostra bontà e con le nostre buone intenzioni, noi ne faremmo quel che le mosche hanno fatto con questo quadro. Sì. Najewski si sedette accanto a Samuilenko e continuò a dire con sincerità. Io sono un uomo vuoto, meschino e inutile. L'aria che respiro è pregna di vino e di amore. Insomma, fino ad ora ho comprato la mia vita a prezzo di menzogna, di odio e di godardia. Fino ad oggi ho ingannato gli uomini e me stesso, pur soffrendo per questa ragione. Ma le mie sofferenze sono state meschini e vili. E poiché io stesso qualche volta mi odio e mi disprezzo, piego timidamente la schiena dinnanzi all'odio di Von Koren. Dicendo questo, Najewski si alzò e di nuovo cominciò a misurare la stanza, con passi concitati, da un angolo all'altro, poi aggiunse. Sono felice di poter vedere chiaramente i miei difetti e le mie lacune e di averne coscienza. Questo mi aiuterà a risorgere ed a diventare un altro uomo. Caro mio, se tu sapessi con quale passione e con quale angoscia io attendo quel mio rinnovamento, te lo giuro. Sarò un uomo anch'io, lo sarò. Non riesco a capire se è il vino che parla attraverso la mia bocca oppure se è la realtà che si è determinata in me. Però mi pare di non aver vissuta da molto tempo dei momenti così radiosi e così puri come questi vissuti ora presso di te. Ha tempo di coricarsi, caro mio, osservò Samuilenko. Sì, sì, scusami, subito. Najewski incominciò a cercare il suo berretto sopra i mobili e presso la finestra. Grazie, mormorò sospirando. Grazie, una carezza e una buona parola valgono più di un'elemosina. Tu mi hai rianimato. Trovò finalmente il suo berretto e si fermò a guardare Samuilenko con uno sguardo indeciso. Alessandro Davidovich soggiunse con voce supplichevole. Che cosa? Permettimi, caro, di rimanere qui a dormire. Ma accomodati pura, perché no? Najewski si distese sul divano e ancora a lungo conversò con il dottore. Tre giorni dopo la gita, Maria Costantinovna capitò improvvisamente da Nadiezda Fiodolovna e senza salutare né levarsi il cappello, l'afferrò per le mani, se la strinse al petto e disse fortemente commossa. Carissima mia, io sono veramente commossa, sono meravigliata. Il nostro buon simpaticone Samuilenko ieri sera informò il mio Nicodemo Aleksandrovich della morte di vostro marito. Dite, cara, dite, è la verità. Sì, è vero, è morto. È doloroso, è tremendo, cara, ma non c'è male senza bene. Vostro marito sarà stato senza alcun dubbio un santo uomo, ma di tali uomini è più bisognoso il cielo che la terra. Tutti i tratti del volto di Maria Costantinovna si contrassero come se sotto la pelle si muovessero minuscoli aghi. Sorrisse alla mandorla e disse con entusiasmo a Sando, è così, cara, siete ora libera. Potete ora tenere alta la fronte e guardare i pettegolezzi con fierezza. Da ora i Dio e gli uomini benedicono la vostra unione con Ivan Andreevich. Questo è delizioso e io tremo tutta dalla gioia, non riesco a trovare parole. Cara, io sarò la vostra, come vuol dirsi, la vostra madrina del matrimonio. Io e Nicodemo Aleksandrovich vi abbiamo voluto sempre e vi vogliamo molto bene. Voi ci permetterete di benedire la vostra legittima unione, santa unione. E quando, quando dunque pensate di sposarvi? Ma io non ho pensato a questo, rispose Nadiesta Fiodolovna liberando le mani. Come? Non avete pensato? Ma è impossibile. Ci avete pensato. Ma sì, com'è vero Dio? Non ci ho pensato. Risse Nadiesta Fiodolovna. Del resto perché dovremmo sposarci? Io non vedo alcuna necessità. Vivremo in seguito come abbiamo vissuto fino ad ora. Che dite? Osservò spaventata Maria Costantinovna. Per amor di Dio, che dite? Pensate, lo sposalizio potrà migliorare le cose. No, al contrario, le potrà peggiorare perché, perdendo la nostra libertà. Ma cara, che dite? Esclamò Maria Costantinovna indietreggiando ed agitando le braccia. Dite delle stravaganze. Rientrate in voi, calmatevi. E come sarebbe a dire calmatevi? Io non ho vissuto ancora e voi mi dite calmatevi. Nadiesta Fiodolovna ricorda ad un tratto che realmente non aveva ancora vissuto. Aveva finito gli studi nel collegio. Si era sposata con un uomo che non amava, poi si era unita a Lajevski ed aveva sempre vissuto su quella noiosa deserta spiaggia in attesa di qualche cosa di meglio. Tutto questo non poteva essere la vita. Eppure bisognerebbe sposarsi, pensò. Ma si ricordò di Kirillin e di Acimianov. Arrossì e disse. Non è possibile. Se anche Ivan Andreevich mi pregasse in ginocchio, rifiuterai. Maria Costantinovna rimase un minuto in silenzio sedendosi sul divano e divenendo triste e pensierosa. Poi, dopo aver guardato fissa in un punto, si alzò e disse freddamente. Addio, cara. Scusate se vi ho disturbata. E per quanto possa essermi doloroso quel che sto per dirvi, mi sento obbligata a farvi sapere che da oggi in poi le nostre relazioni sono nettamente troncate. E nonostante la mia profonda stima per Ivan Andreevich, la porta della mia casa è chiusa per voi. Essa disse queste parole con grande solennità e rimase colpita dal suo tono solenne. Poi il suo volto tremò nuovamente, assunse un'espressione piena di tenerezza e con il solito sorriso Maria Costantinovna tese le mani alla spaurita e confusa Nadiesda Fiodorovna ed aggiunse con voce supplichevole. Carissima, voi dovete permettermi, sia pure per un attimo solo, di essere come vostra madre oppure come vostra sorella maggiore. Voglio essere sincera con voi, come una madre. Nadiesda Fiodorovna sentì d'un tratto un flusso di tenerezza, di gioia e di compassione verso se stessa, come se improvvisamente fosse risuscitata sua madre e le stesse d'innanzi. Ella abbracciò fortemente e con slancio Maria Costantinovna ed appoggiò il volto alla sua spalla. Si misero a piangere e dopo essersi sedute sopra il divano si inghiozzarono per alcuni minuti senza guardarsi e senza pronunciare una sola parola. Cara bimba mia, incominciò Maria Costantinovna, io vi dirò delle dure verità senza risparmiarvi. Per amor di Dio, per amor di Dio, fidatevi di me, cara. Dovete ricordarvi che fra tutte le signore qui residenti io sola vi ho ricevuto a casa mia. Mi avete fatta inorridire sin dal primo momento in cui vi vidi ma non ho avuto la forza di trattarvi con disprezzo come tutti gli altri ed ho sofferto per il buono e caro Ivan Andajevich come una madre soffre per un figlio. Mi tormentava il pensiero di questo giovane, inesperto, privo di madre e costretto a vivere in un paese straniero. Mio marito era contrario a fare conoscenza con lui ma io l'ho convinto e noi cominciammo a riceverlo in casa nostra e con lui naturalmente anche voi, altrimenti lo avremmo offeso. Io ho una figlia e un figlio, voi comprenderete? Si tratta di una grande responsabilità, perché la tenera anima infantile ed il cuore puro sono esposti a tutte le tentazioni. Ma guai a chi vuol pervertire gli innocenti. Vi ricevevo tremando per i miei figli e voi comprenderete questi timori quando sarete madre. Tutti si meravigliavano che io vi ricevessi. Scusate l'espressione, come una donna per bene. Facevano delle allusioni, naturalmente non erano che pettegolezzi meschini. Però nel fondo della mia anima anch'io vi biasimavo. Ma voi eravate infelice e degna di compassione e tutto questo mi faceva soffrire. Ma perché? Perché? chiese Nadiesda Fiodorovna, scossa da un tremito. A chi ho fatto qualche cosa? Siete una grande peccatrice. Avete violato il giuramento fatto a vostro marito davanti all'altare. Voi avete sviato un'eccellente giovane che avrebbe potuto trovarsi una degna sposa, legittima, in una buona famiglia del suo ceto e sarebbe stato ora, come tutti, ottimo padre e sposo. E invece voi avete rovinato la sua giovinezza. Non parlate, non parlate, cara. Io non crederò che gli uomini siano colpevoli dei nostri peccati. Le colpevoli sono sempre le donne. Pensate anche voi. Gli uomini, nella vita casalinga, sono superficiali, vivono col cervello e non col cuore e non capiscono molto. Ma la donna capisce tutto. Tutto dipende da lei e le è stato dato molto, perché molto le si richiede. Pensate, cara, che se la donna in questo caso fosse stata più sciocca o più debole dell'uomo, il Dio non le avrebbe affidato l'educazione dei figli. E poi, cara, avete prescelto la via del peccato, dimenticando ogni pudore. Un'altra al vostro posto si sarebbe nascosta dinanzi agli uomini. Sarebbe rimasta chiusa in casa e si sarebbe fatta vedere soltanto in chiesa, pallida, vestita di nero e pentita. Ognuno allora avrebbe detto con sincera compassione, Dio, questo è un angelo che ha peccato e torna di nuovo da te. Invece voi, cara, avete dimenticato ogni ritegno. Avete vissuto come se vi vantaste del vostro peccato. ridevate e vi divertivate ed io guardandovi tremavo dallo spavento e temevo che il fulmine celeste dovesse colpire la nostra casa mentre voi entravate da noi. Cara, non m'interrompete, non parlate, disse Maria Costantinovna accorgendosi che Nadiesda voleva parlare. Fidatevi di me. Io non vi vennerò e non nasconderò all'anima vostra nessuna verità. Ascoltatemi dunque, cara, il Dio segna i grandi peccatori e voi eravate segnata. Ricordate, i vostri vestiti erano sempre orribili. Nadiesda Fiodorovna, che era persuasa del suo buon gusto ed aveva avuto sempre la migliore opinione intorno ai suoi abbigliamenti, cessò di piangere e cominciò a guardare Maria Costantinovna con meraviglia. Sì, proprio orribili, continuò quest'ultima. Bastava vedere la stravaganza e la vistosità dei vostri vestiti per poter giudicare la vostra condotta. E tutti, vedendovi, sogghignavano ed alzavano le spalle, mentre io soffrivo. Soffrivo. Scusatemi, mia cara, ma voi non siete pulita. Quando ci incontravamo al bagno voi mi facevate fremere. Non vi siete mai accorta che i vostri vestiti erano abbastanza puliti, ma la sottana di sotto, ma la camicia, cara, io arrossisco. E nessuno annoda la cravatta al povero Ivan Andrievich come si deve. Basta vedere la sua biancheria e gli stivali per capire che a casa nessuno si preoccupa di lui. Poi egli ha sempre fame e quando a casa nessuno si occupa del samovare, del caffè, naturalmente il 50% dello stipendio va a finire al padiglione. Non avete mai guardata per bene la vostra casa? Che orrore! In tutta la città non trovate una sola casa piena di mosche come la vostra. Non c'è scampo da esse. Tutti i piatti e le sottocoppe sono nere. Sui davanzali delle finestre, sulle tavole, guardate quanta polvere, mosche morte. E i bicchieri. Cosa fanno questi bicchieri? A quest'ora non è stata sparecchiata ancora la tavola. E poi entrare nella vostra camera da letto. Che vergogna! Trovate della biancheria buttata dappertutto. Alle pareti pendono certi vostri ammenicoli di gomma. E poi, poi certi recipienti. Cara mia, il marito non deve sapere nulla di nulla, capite? E la moglie deve comparire dinnanzi a lui sempre pulita, come un angioletto. Io non per vantarmi. Mi sveglio ogni giorno all'alba per lavarmi la faccia con l'acqua fresca, perché Nicodemo Aleksandrovich non si accorga che sono assonnata. Sono delle sciocchezze, singhiazzò Nadiesta Fiodorovna. Almeno fossi felice, ma sono così disgraziata. Sì, sì, siete veramente disgraziata, disse con un sospiro Maria Costantinovna, dominandosi per non piangere. E non sapete forse che vi attende in avvenire una grande sventura. La vecchiaia solitaria, le malattie e poi la comparsa all'estremo giudizio. È tremendo tutto questo. Ora la sorte stessa tende verso di voi la mano per sorreggervi, ma voi respingete l'aiuto nella vostra ostinata irragionevolezza. Sposatevi, cara, sposatevi al più presto. Sì, avete ragione, bisognerebbe. Ma ciò è impossibile. Perché? È impossibile, vi dico, se voi sapeste. Nadiesta Fiodorovna avrebbe voluto narrare di Kirillin, avrebbe voluto ripetere le parole scambiate con Cimianov, avrebbe voluto confessare la sua ridicola e folla idea di liberarsi dal debito di 300 rubli e dire che lo aveva incontrato la sera prima nel porto e che la cosa le era parsa molto ridicola e che non sapeva come tutto ciò fosse accaduto e che era ritornata a casa pentita sentendosi irrimediabilmente perduta e venale. Ma la vergogna e i singhiozzi le impedivano di parlare. Essa voleva giurare non di meno a Maria Costantinovla che avrebbe provveduto a pagare il suo debito e invece disse «Partirò. Ivan Andreevich potrà rimanere, ma io partirò. Per dove? Per la Russia. E di che cose vivrete lassù? Voi non avete niente. Farò delle traduzioni oppure aprirò una piccola biblioteca circolante». «Non fantasticate troppo, cara. Per aprire una biblioteca occorrono dei denari. Ora io vi lascio, ma domani venite da me un po' più allegra. Arrivedersi, angelo mio. Permettete che vi baci». Maria Costantinovla baciò Nadiesda Fiodorovna in fronte. La segnò ed uscì senza rumore. Il crepuscolo avanzava ed Olga in cucina aveva acceso il fuoco. Nadiesda Fiodorovna, piangendo, andò nella sua camera e si coricò. Quasi subito fu assalita da una forte febbre e stando nel letto si spogliò, gettò il vestito in disparte e si raggomitolò sotto la coperta. Aveva sete, ma non c'era nessuno a darle da bere. «Restituirò», disse a se stessa, mentre nel delirio della febbre le pareva di stare al capezzale di un'ammalata, nella quale riconosceva se stessa. «Restituirò. Sarebbe stupido pensare che io, per denaro, partirò e gli manderò il denaro da Pietroburgo. Prima cento, poi cento, poi ancora cento». A notte inoltrata venne Lajewski. «Prima cento, poi ancora cento», gli disse, delirando Nadiesda Fiodorovna. «Dorvesti prendere del chinino», le rispose pensando fra sé. «Domani mercoledì parte un vapore ed io non partirò, e allora dovrò vivere qui fino a sabato». Nadiesda Fiodorovna si mise in ginocchio sul letto e chiese, sorridendo, «Non ho detto nulla ora». «Nulla. Bisognerà mandare per il dottore domani mattina. Dormi». Egli prese un guanciale e si diresse verso la porta. Da quando aveva deciso di lasciare la donna e di partire, ella suscitava in lui compassione e gli risvegliava il senso della colpa. Egli provava alla sua presenza lo stesso sentimento che può essere provato di fronte a un cavallo malato o vecchio, condannato ad essere ucciso. Prima di uscire si fermò e voltandosi verso di lei disse «Ero molto irritato quel giorno della gita e ti disse una volgarità. Perdonami, per amor di Dio». Poi se ne andò nello studio, si colicò e stentò ad addormentarsi. La mattina del giorno dopo venne Samoilenko, vestito in grande uniforme, con tutte le decorazioni, poiché era un giorno di festa nazionale. Tastò il polso di Nadiesda Fiodorovna, guardò la lingua e uscendo dalla camera incontrò Lajewski, che stava sulla soglia avidamente attendendolo. «Ebbene, bene», gli chiese con trepidazione, mentre il suo volto esprimeva la paura, una grande inquietudine e la speranza. «Sta calmo, niente di grave. È il solito attacco della febbre». «Ma non parlo di questo», si impazientì corrugando la fronte Lajewski. «Voglio sapere se hai trovato i denari». «Anima mia», murmurò Samoilenko, confondendosi e voltandosi verso la porta. «Mi devi scusare. Nessuno ha del denaro liquido e fino ad ora sono riuscito a raccogliere a cinque da dieci rubli per volta, solo centodieci rubli in tutto. Oggi ancora devo parlare con qualcuno. Abbi pazienza». «Ma l'ultimo giorno è sabato», sussurò Lajewski, tremando di impazienza. «Per tutti i santi. Capisci? Sabato. Perché, se non posso partire sabato, non ho più bisogno di nulla, di nulla. Io non riesco a capire come un dottore si possa trovare senza denaro». «Ah, signore, sia fatta la tua volontà», murmura rapidamente Samoilenko. «Io sono rimasto spogliato di tutto. Mi devono sette mila rubli e io ho dei debiti in giro. È colpa mia, dunque? E così, per sabato li troverai? Cercherò. Ti scongiuro. Vorrei poter avere tutta la somma venerdì mattina». Samoilenko sedette. Prescrisse del chinino in soluzione. Calii bromati, una infusione di barbaro, tincture genziane, acque feniculi. Tutto questo in pozione con l'aggiunta di sciroppo di rose, per togliere alla medicina il sapore amaro. Ed uscì. «Ma che hai? Sembra che tu sia venuto per arrestarmi», disse von Koren, vedendo entrare in casa sua Samoilenko in alta uniforme. «Passavo qui vicino e ho pensato di entrare a fare una visita alla zoologia», rispose Samoilenko sedendosi vicino a una grande tavola, capolavoro dello stesso zoologo fatto con semplici assi. «Buongiorno, santo padre», aggiunse rivolgendosi verso il diacono che stava presso la finestra, ricopiando qualche cosa. «Mi fermo un minuto solo, perché devo correre a casa per dare gli ordini per il pranzo. L'ora si avvicina». «Non vi ho disturbati? Per nulla», rispose von Koren, stendendo sulla tavola dei foglietti ricoperti di una scrittura minuta. «Stiamo ricopiando». «Oh, sì, Dio mio, Dio mio», sospirò Samoilenko, tirando con attenzione un libro polveroso su cui giaceva una scolopendra dissecata, e disse «Però, figurati, che spavento deve provare un piccolo scarabeo verdolino qualunque, se andando per i suoi affari incontra sulla sua strada un simile accidente». «Me lo immagino». «Sì, probabilmente. Questo accidente è fornito di veleno per difendersi dai nemici, per difendersi ed anche per attaccare». «Sì, sì, sì, cari miei, tutto nella natura ha uno scopo ed una spiegazione», osservò Samoilenko. «C'è una cosa sola che non riesco a capire, e tu, uomo di grande ingegno, degnati di spiegarmela». «Te la dirò subito, ecco. Ci sono delle bestioline non più grandi di un topo, e tu lo sai, sono graziosissime all'aspetto, ma ti dirò che mi sembrano quanto di più immorale e di più vile abbia la natura. Per esempio, una di queste bestioline passeggia attraverso un bosco, vede un uccellino, lo acchiappa e se lo mangia, poi prosegue e scorge nell'erba un piccolo nido con le uova. E sazia, la fame non la tormenta, eppure si mette a rompere un uovo con i denti e butta via le altre dal nido con le zampe. Incontra poi una rana e la tormenta fino a farla morire e seguita ad andare avanti lisciandosi i baffi. E incontra uno scarabeo e lo schiaccia con la zampa. Così rovina e distrugge tutto nel suo cammino. Penetra nelle tane altrui, scompiglia senza alcuna ragione i formicai e rompe con i denti le chiocciole. E se incontra un topo si batte con lui, e se vede un serpentello o un sorcetto non sta bene finché non li ha strangolati. In questo modo passa la sua giornata. Ecco, io vorrei sapere a chi è necessaria simile bestiolina. E perché fu creata? Io non so di quale bestiola tu parli, disse von Koren, probabilmente di qualche insettivoro. Ma che vuoi fare? Si può spiegare tutto? Ecco, l'uccello si è lasciato prendere, perché era imprudente. Il nido con le uova è stato distrutto perché l'uccello in etto non ha saputo ben mascherarlo. Anche la rana probabilmente aveva qualche macchia di speciale colore, perché altrimenti non sarebbe stata veduta e così via. La tua bestiola sopprime solo i deboli, gli inetti e gli imprudenti. In una parola, coloro che essendo imperfetti non devono, secondo la legge della natura, trasmettere le loro tare ai loro discendenti. Rimangono vivi solo i più capaci, i più furbi, i più sviluppati e i più forti. In tal modo la tua bestiola, anche senza saperlo, serve agli alti fini del progresso della natura. Sì, sì, a proposito, fratello, disse disinvolto Samoilenco. Mi puoi prestare cento rubli? Va bene. Guarda che fra gli insettivori ci sono dei soggetti molto interessanti, per esempio la talpa. Secondo la voce comune, questa bestiolina è molto utile perché distrugge gli insetti nocivi. Si racconta che un tedesco mandò all'imperatore Guglielmo I una pelliccia di pelle di talpa e che l'imperatore, invece di ringraziarlo, ordinò di rimproverarlo perché aveva distrutto una così grande quantità di bestioline utili. Ma in verità la talpa non cede in nulla al tuo esempio in quanto alla ferocia, ed è anche molto nociva perché danneggia terribilmente i prati. Von Koren aprì una cassetta e ne trasse una banconota da cento rubli. Ti dirò di più. La talpa ha una cassa toracica come quella dei pipistrelli, continuò chiudendo la cassetta, e ha le ossa e i muscoli enormemente sviluppati, oltre ad uno straordinario armamento di mascelle. Se la talpa potesse avere le dimensioni dell'elefante, distruggerebbe tutto e sarebbe realmente invincibile. Figurati che quando due talpe si incontrano sotto terra, esse prima di tutto, come se si fossero accordate, incominciano a preparare una piattaforma che è necessaria per lottare comodamente. Solo quando la piattaforma è ultimata, esse cominciano a lottare e lottano fino a che la più debole non rimane uccisa. «Eccoti cento rubli», disse Von Koren abbassando la voce. «Ma a patto che non siano per Lajewski». «E se fossero per lui?» rispose Samoilenko irritato. «Che te ne importa? Per Lajewski non te li posso dare. Lo so che tu volentieri concedi dei prestiti e daresti dei soldi anche al brigante Kerim, se te ne chiedesse. Ma scusami, aiutarti per fare una cosa simile non posso». «Io invece te li ho chiesti proprio per Lajewski», disse Samoilenko, alzandosi ed agitando la mano destra. «Sì, per Lajewski. E nessun diavolo, suo prossimo parente, ha il diritto di insegnarmi che cosa devo fare con i miei denari. Non ti fa comodo darmeli?» «No», il diacono si mise a ridere. «Non ti riscaldare, ragiona un poco», osservò lo zoologo. «Senti, secondo me aiutare il signor Lajewski è altrettanto stupido come annaffiare la malerba o nutrire le cavallette. Invece, secondo me, abbiamo l'obbligo di aiutare il nostro prossimo», gridò Samoilenko. «Se la pensi così, devi aiutare piuttosto quel turco affamato che giaccia sotto la finestra. Egli è un operaio e quindi è più utile e più necessario del tuo Lajewski. Da a lui questi cento rubli, oppure sottoscrivi cento rubli per la mia spedizione. Me li vuoi dare oppure no? Dimmi francamente, per quale scopo egli ti ha chiesto del denaro?» «Non è un segreto. Deve partire sabato per Pietroburgo». «È così», rispose scandendo lentamente Von Koren. «Ora capisco. E lei parte con lui o no? Lei per ora rimarrà qui. Lajewski metterà a posto i suoi affari e le manderà i soldi, perché possa raggiungerlo». «Furbo, è l'amico Lajewski», rispose lo zoologo ridendo con un riso breve e sonoro. «Ha preparato bene il suo piano». Si avvicinò rapidamente a Samoilenko e messosi davanti a lui faccia a faccia, guardandolo negli occhi domandò. «Dimmi sinceramente. Egli non l'ama più? Ma parla dunque. Non l'ama più?» «Sì», rispose Samoilenko sudando freddo. «Com'è antipatico tutto questo?» disse Von Koren e il suo volto prese l'espressione di disgusto. «Delle due luna, Alessandro Davidovich. O tu te la intendi con lei, oppure, scusa la parola, sei un babbeo. Ma non capisci che Lajewski ti mena per il naso nel modo più sleale, come se tu fossi un ragazzino. È chiaro come la luce del sole che gli vuole allontanarsi da lei e piantarla qui. Così ella rimarrà sulle tue spalle, ed è altrettanto chiaro come la luce del sole che ti toccherà dispedirla a Pietroburgo a tue spese. Ma è mai possibile che questo tuo eccellente amico ti abbia accecato con i suoi pregi, fino a tal punto da non lasciarti vedere neanche le cose più semplici?» «Queste sono le tue ipotesi», disse Samoilenko sedendosi. «Ipotesi? E perché allora se ne vuole andare solo e non assieme con lei? Domandogli un pochino se non potrebbe andare prima lei e poi lui. Che volpone!» Samoilenko, oppresso ad un tratto da dubbi e da sospetti nei riguardi del suo amico, si scoraggiò e si sentì meno sicuro. «Ma è impossibile», disse, ricordandosi di quella notte che Lajewski aveva passato da lui. «Egli soffre tanto!» «E che cosa significa questo? Anche i ladri e gli incendiari soffrono!» «Ammettiamo che tu abbia ragione», rispose Samoilenko riflettendo. «Ammettiamolo! Ma egli è giovane, si trova in un paese straniero, è studente. Anche noi siamo della sua casta e all'infuori di noi nessuno può aiutarlo qui». «Ma è semplicemente assurdo quel che stai dicendo? Tu vuoi aiutarlo a fare delle cose infami solo perché tu e lui, in epoche diverse, siete stati all'università e là avete concluso niente, tutti e due!» «Aspetta, ragioniamo un poco freddamente. Forse, come credo, si potrebbe combinare così». Samoilenko tacque per qualche istante, riflettendo e muovendo le dita. «Io, capisci, gli presterò il denaro necessario per il viaggio, ma gli chiederò in cambio la parola d'onore che lo impegni a mandare entro una settimana i soldi per il viaggio a Nadiesda Fiodorovna. Ed egli ti darà la sua parola d'onore, piangerà dalla commozione e magari crederà lui stesso di mantenerla. Ma quale valore può avere la sua parola? Egli non la manterrà e quando tu tra un anno o due lo incontrerai per le strade di Pietroburgo, a braccetto con un nuovo amore, egli ti spiegherà la sua condotta, affermando che è stato minorato dalla civiltà. Lascialo per carità. Allontanati da quel fango e non metterci tutte e due le mani!» Samoilenko riflettò un istante e disse risolutamente «Eppure io gli darò i denari. Tu pensa quel che vuoi. Io non posso rifiutare il mio aiuto ad un uomo, solo basandomi su delle semplici supposizioni. E va bene, non ti manca che stringerlo al cuore. Allora dammi questi cento rubli. No!» Ci fu un attimo di silenzio. Samoilenko rimase confuso e scoraggiato ed il suo volto assunse un'espressione di vergogna, quasi egli fosse colpevole. Ed era strano di vedere quest'uomo, enorme, con le spalline luccicanti, con le decorazioni e con un viso infantilmente preoccupato. Il diacono interruppe quel silenzio penoso, mise a posto la penna e disse «Il nostro vescovo fa le sue visite pastorali non in carrozza, ma a cavallo. È proprio commovente vederlo cavalcare. La sua semplicità e la sua modestia sono degne della grandezza biblica. È un bravo uomo?» chiese von Koren, lieto di poter cambiare il discorso. «E come no? Se non fosse un uomo eccellente, non l'avrebbero consacrato vescovo. Fra i vescovi si incontrano degli uomini d'ingegno e anche buoni. Però è peccato che diversi fra essi abbiano la debolezza di credersi uomini di stato. Uno vuol russificare la gente, un altro critica le scienze. E questo, secondo me, non è cosa che li riguarda. Farebbero meglio accurare più attentamente gli affari del concistoro. Un laico non può giudicare i vescovi. Ma voi, diacono, credete che un vescovo non sia un uomo come me? Come voi, ma non del tutto come voi, ribatte il diacono riprendendo la penna. Se voi foste un uomo uguale al vescovo, sareste consagrato vescovo, ma siccome non lo siete, non potete essere uguale. Non dire sciocchezze, diacono, osservò Samoilenco con tristezza. Poi, rivolgendosi a Foncoren, aggiunse, ascolta, invece di darmi questi cento rubli in prestito, siccome prima dell'inverno verrai da me a mangiare per tre mesi, pagami anticipatamente la tua pensione. No, caro. Samoilenco batte le palpebre da Rossi, poi macchinalmente trasse a sé il libro con la scolopendra. Lo guardò, quindi, alzandosi, prese il suo berretto. Foncoren ebbe compassione di lui, ma si dominò e scaraventò col piede in un angolo un mucchio di carte. Poi disse con indignazione. Ecco cosa vuol dire vivere ed avere a che fare con gente simile. Ma non capisci dunque che questo non è bontà né amore verso il prossimo, ma viltà, corruzione e veleno. Quello che costruisce la ragione deve essere sempre distrutto dai vostri cuori sentimentali, deboli e buoni a nulla. Guarda, quando io era al ginnasio mi ammalai di tifo addominale ed una mia zia per compassione mi rimpinzò di funghi marinati, naturalmente gli ostetti per morire. E tu sei come quella mia zia e non puoi comprendere che l'amore per il prossimo non deve nascere nel cuore o mettiamo putacaso nella bocca dello stomaco o nelle reni. Ma qui! E Foncoren si botte in fronte. Poi buttandogli la banconota da cento rubli disse. Prendi. Ti inquieti senza ragione, colia, osservò dolcemente Samuilenco piegando il biglietto di banca. Io ti comprendo benissimo, ma devi metterti un poco i miei panni. Sai che cosa sei tu? Una vecchia nonna, capisci? Il diacono scoppiò a ridere. Ascolta Alessandro Davidovich, ti faccio un'ultima preghiera, disse Foncoren accalorandosi. Quando darai denari a quel miserabile, mettigli una condizione, quella cioè di partire insieme con la sua donna, oppure di mandarla avanti, altrimenti cerca di non darglieli. Con lui non bisogna avere dei riguardi. Devi dirglielo semplicemente, senza ritegni. E se non lo farai, ti do la mia parola d'onore che andrò da lui e lo butterò giù dalle scale. Quanto a te, non ti conoscerà più. Ricordatelo. Ma che dici? Se lui partirà con lei oppure la manderà prima, questo non può essere lì che di sollievo e sarà ben contento di farlo, disse Samuilenco. Addio. Egli si accommiatò affettuosamente ed uscì. Ma prima di chiudere la porta, si voltò verso Foncoren. Fece una faccia terribile e disse. Sono i tedeschi, fratello, che ti hanno guastato. Sì, i tedeschi. Il giorno dopo, giovedì, Maria Costantinovna festeggiava il compleanno del suo Costia. Tutti erano stati invitati per il mezzogiorno a mangiare la torta e per la sera a prendere la cioccolata. A sera Foncoren, trovandosi là, vide entrare Lajevski e Nadiezda Fiodorovna e si rivolse a Samuilenco, chiedendogli. Hai parlato a Lajevski? Non ancora. Ricordati di parlare senza ritegni. Va bene, rispose il dottore. Non capisco l'impudenza di questi signori. E si conoscono benissimo l'opinione di questa famiglia nei riguardi della loro unione, eppure non tralasciano alcuna occasione per venire qui. Se si dovesse prendere in considerazione ciascun pregiudizio, non si potrebbe andare in nessun posto, osservò Samuilenco. Allora, tu credi che l'avversione della massa verso l'unione illegittima e la depravazione sia un semplice pregiudizio? Certamente. È un pregiudizio. Guarda i soldati. Quando essi vedono una ragazza di faceri costumi, ridono e fischiano. E domanda un pochino a loro chi sono essi stessi. Non per nulla fischiano, caro amico. Dunque sarebbe soltanto un pregiudizio il fatto che le ragazze strangolino i loro bimbi illegittimi e vadano ai lavori forzati, oppure il fatto che Anna Karenina si sia gettata sotto il treno e che nei villaggi le porte vengano dipinte col catrame. Perché a me e da te, senza saperne la precisa ragione, piace la purezza di Katia e perché ognuno sente vagamente il bisogno di un amore puro, ben sapendo che tale amore non esiste. Secondo te tutto questo è un pregiudizio? Oh caro, tu forse non ti rendi conto dell'importanza di questi fatti che rappresentano tutto ciò che si è salvato dalla selezione naturale e se questa forza misteriosa non esistesse per regolare i rapporti fra i due sessi, il signor Lajevski ti farebbe vedere dove svernano i gamberi e l'umanità degenererebbe in soli due anni. Lajevski dopo aver salutato tutti si avvicinò a Fonkoren e stringendogli la mano sorrise, poi scegliendo il momento propizio disse a Samuilenko, scusami Alessandro Davinovic, ho bisogno di dirti due parole. Samuilenko si alzò, lo prese per la vita e tutti e due entrarono nello studio di Nicodemo Aleksandrovich. Domani è venerdì, disse Lajevski rosicchiandosi le unghie, hai trovato ciò che mi avevi promesso? Ho trovato solo 200 rubli, ma stai tranquillo e il resto spero di averlo fra oggi e domani. Dio sia lodato, sospirò Lajevski e le mani gli tremarono dalla gioia. Tu mi salvi Alessandro Davidovic e io ti giuro in nome di Dio, della mia felicità e di quel che vuoi, che ti restituirò subito questi denari e ti pagherò anche il mio vecchio debito non appena sarò arrivato a Pietroburgo. Senti Vania, disse Samuilenko prendendolo per un bottone ed arrossendo, scusami se sono indiscreto immischiandomi nelle tue cose di famiglia, ma perché non parti insieme a Nadiazda Fiodolovna? Ma sei pazzo, ti par possibile? Uno dei due deve assolutamente rimanere, altrimenti tutti i creditori faranno una cagnara. Io devo ai diversi fornitori circa 700 rubli, se non di più, e capisci, tra qualche tempo potrò soddisfare i miei obblighi, chiudere loro la bocca e da allora Nadiazda Fiodolovna partirà di qui. Sì, ma perché per esempio non la fai partire prima di te? Dio mio, non è possibile, è una donna, che cosa farà lassù, sola? Che può capire lei? Sarebbe una perdita di tempo ed una spesa inutile. Samuilenko riconobbe giuste queste ragioni, ma ricordando la sua conversazione con von Koren abbassò la testa e disse arcigno, non posso essere d'accordo con te. Ho partita insieme oppure lei parte prima di te, altrimenti, altrimenti non ti darò i denari. E la mia ultima parola, poi indietreggiando, aprì la porta con la schiena e ritornò nel salotto rosso in viso e profondamente turbato. Venerdì, venerdì, pensava Laievski passando nel salotto. Gli servirono una tazza di cioccolata. Egli si scottò le labbra e la lingua bevendola, mentre continuava a pensare. Venerdì, venerdì. La parola venerdì, chissà per quale ragione, non gli usciva dalla testa ed egli non pensava ad altro che a quel giorno ed era inconsciamente convinto che non sarebbe potuto partire sabato mattina. Di fronte a lui stava Nicodem Aleksandrovich, ben pettinato, e gli diceva, mangiate, ve ne prego umilmente. Maria Costantinovra dimostrava agli ospiti invece i voti di Katia e diceva strascicando le parole, se sapeste come è difficile studiare ora, sono tanto esigenti i professori. Mamma, gemmeva Katia, non sapendo dove nascondersi per la vergogna e per le lodi. Anche Laievski guardò i voti e la lodò. Dei cinque e dei quattro riportati nelle varie materie passarono in una sarabanda dinnanzi ai suoi occhi, insieme all'ossessionante pensiero del venerdì, ai capelli ben lisciati di Nicodem Aleksandrovich e alle guance rosse di Katia. E tutto questo lo riempì di tale incontenibile e invincibile noia, rapidamente tramutatasi in disperazione, che ha malapena poter dominarsi per non gridare la sua sofferenza a tutti. Egli si chiese, è possibile, è possibile che non parta. Nel frattempo furono preparati due tavolini da gioco ed alcuni degli invitati si sedettero per giocare. Anche Laievski rese parte al gioco. Venerdì, venerdì, pensava sorridendo e cavando di tasca la matita. Venerdì. Egli avrebbe voluto riflettere sulla sua posizione e temeva di pensarvi. Gli era doloroso riconoscere che il dottore avesse indovinato l'inganno che egli per lungo tempo e con molta cura aveva cercato di nascondere anche a se stesso, non lasciando libero il corso al suo pensiero nei riguardi del suo avvenire. Egli frapponeva un limite alle sue riflessioni sul futuro. Pensava di mettersi nel treno e di partire e si illudeva di risolvere così il problema della vita. Qualche volta soltanto, come un lumicino lontano e fioco in piena campagna, gli balenava in mente il pensiero che egli sarebbe stato obbligato in un lontano avvenire, per potersi separare dalla diesna Fiodolovna e per pagare i debiti, a ricorrere ad un'altra piccola menzogna recandosi in una viuzza di Pietroburgo. Avrebbe mentito ancora una volta sola, dopodiché sarebbe avvenuto il rinnovamento completo. Gli sembrava un'opera buona acquistare, a prezzo di una piccola menzogna, una grande verità. Ora invece, dopo che il dottore con il suo rifiuto aveva chiaramente alluso al suo inganno, Lajewski comprendeva che la menzogna non solo gli sarebbe stata necessaria in un avvenire lontano, ma anche oggi, domani, tra un mese e forse fino all'ultimo giorno della sua vita. Infatti, per partire, avrebbe dovuto ingannare Nadiesda Fiodolovna. I creditori e i superiori, per procacciarsi del denaro a Pietroburgo, avrebbe dovuto ingannare la madre, dicendole che si era già separato da Nadiesda Fiodolovna. L'altra parte, sua madre non gli avrebbe dato più di 500 rubli e gli aveva dunque già ingannato il dottore, perché non sarebbe stato in grado di restituirgli in breve tempo i denari. In seguito poi, quando fosse arrivata a Pietroburgo Nadiesda Fiodolovna, avrebbe dovuto ricorrere a un'infinità di piccole e grandi menzogne per separarsi da lei, e di nuovo ci sarebbero state le consuete lacrime, la noia, la vita uggiosa, il pentimento. Non solo il rinnovamento sognato non avrebbe avuto luogo, ma soprattutto si sarebbe risolto in un inganno. Lajewski vide nella sua fantasia un cumulo di menzogne, e per scavalcarlo tutto ad un tratto, e per non essere costretto a mentire senza tregua e a tutti, pensò che avrebbe dovuto prendere una risoluzione brusca e subitanea, cioè alzarsi, prendere il berretto e partire senza indugi, senza denari e senza dire una sola parola. Ma egli sentiva che ciò gli era impossibile. Venerdì, venerdì, pensava. Venerdì. Il gioco della posto occupava tutti. Scrivevano dei bigliettini, li piegavano in due e li mettevano nel vecchio cilindro di Nicodemo Aleksandrovich. Quando tutti avevano scritto, Costia, che figurava di essere il portalettere, andava intorno alla tavola e li distribuiva. Che ricevevano dei bigliettini ridicoli e ne scrivevano dei più ridicoli, si divertivano enormemente. «Dobbiamo parlare», lesse nel bigliettino ricevuto Nadiazda Fiodorovna e scambiò uno sguardo con Maria Costantinovna. Questa sorrisse amabilmente le fece un segno col capo. «Di che dunque dobbiamo parlare?» pensò. «Quando non si può dire tutto, non c'è scopo di parlare». Prima di uscire di casa Nadiazda Fiodorovna aveva annodato la cravatta a Lavieschi e questo atto aveva riempito la sua anima di tenerezza e di malinconia, perché aveva compreso che loro due, ancora per poco tempo, avrebbero vissuto insieme. Essa lo deduceva dall'inquietudine del volto di lui, dai suoi sguardi distratti, dal pallore e dall'incomprensibile mutamento che si era operato in lui negli ultimi tempi, dal fatto che essa nascondeva quel suo ripugnante e terribile segreto che le faceva tremare le mani. Mentre annodava la cravatta a Ivan Andreevich, essa lo guardava come si guardava un'icona, con paura e con pentimento, e pensava «perdonami». Alla tavola le sedeva di fronte il giovane Akimianov che non distoglieva da lei il suo sguardo di innamorato. Era tormentata dai desideri e si vergognava di sé stessa, avendo paura che perfino l'angoscia e la tristezza non l'avrebbero trattenuta dall'impura passione che l'avrebbe travolta oggi o domani senza che essa, come un ubriacone inveterato, avesse la forza di fermarsi. Per non continuare questa vita vergognosa per lei e oltreggiosa per Leievski, essa decise di partire. Si immaginò di doverlo supplicare, piangendo di lasciarla partire, e se egli si fosse opposto, decise di partire di nascosto, senza raccontargli quello che era avvenuto, perché potesse conservare di lei un ricordo puro. «Amo, amo, amo!» L'esse in un nuovo bigliettino e pensò «Questo è Alcimianov». Intanto la sua fantasia lavorava. Essa sarebbe partita per scomparire in qualche luogo sperduto. Avrebbe lavorato e mandato a Leievski da parte di un ignoto dei denari, delle camicie ricamate, del tabacco, e sarebbe tornata a lui solo in vecchiaia, oppure nel caso che fosse stato gravemente ammalato ed avesse avuto bisogno di un'infermiera. Quando già vecchio egli fosse venuto a sapere per quali motivi si era rifiutata di essere sua moglie e lo aveva abbandonata, avrebbe certamente apprezzato il suo sacrificio e l'avrebbe perdonata. «Avete il naso lungo», disse in un altro bigliettino che doveva essere del diacono di Costia. Continuava a fantasticare e si immaginava di essere già nel momento di dare l'addio a Leievski. Lo avrebbe abbracciato fortemente, gli avrebbe baciato le mani e gli avrebbe giurato di amarlo per tutta la vita. Poi, vivendo lontana, in mezzo alla gente estranea, avrebbe pensato ogni giorno che pur essendo sola sulla terra, aveva tuttavia un amico, un uomo amato, generoso, nobile, puro, che conservava di lei un ricordo non insozzato dal fango della vita. «Se oggi non mi fisserete un appuntamento, io prenderò le mie misure», ve ne dò la parola d'onore. «Non si agisce così con la gente per bene, questo lo dovete comprendere». Lesse in un nuovo bigliettino, che era certamente di Kirilin. Leievski ricevette due bigliettini, in uno di essi lesse «Non partite, anima mia». «Chi ha scritto queste parole?», pensò. «Naturalmente non Samuilenko e nemmeno il diacono perché non sa che voglio partire». «Forse von Koren, lo zoologo dopo essersi e chinato sopra la tavola, stava disegnando una piramide. Leievski guardandolo ebbe l'impressione che i suoi occhi ridessero. Probabilmente Samuilenko deve aver chiacchierato», pensò. Nell'altro bigliettino con la medesima scrittura alterata da svolazze era scritto «Qualcuno non partirà sabato». «Che stupido scherzo», pensò Leievski. «Venerdì, venerdì». E ad un tratto sentì qualche cosa nella gola, si aggiustò il colletto e si provò a tossire, ma invece di un colpo di tosse gli sfuggì una risata. Sghignazzò e cercò di dominarsi, ma il riso lo sopraffaceva. Continuava a ridere, pensando fra sé, mentre rideva «Come è stupido, però! Forse sono impazzito». Le riso aumentava sempre più, buttandosi in una specie di guaito di cane maltese. Leievski avrebbe voluto alzarsi, ma le sue gambe si rifiutavano di obbedire e la sua mano destra involontariamente rimbalzava sulla tavola, afferrava i bigliettini e gli sgualciva. Egli si accorse della meraviglia e dello sgomento di tutti, vide il viso serio e spaventato di Samoilenco e lo sguardo dello zoologo pieno di scherno e di disgusto e capì di avere un attacco di nervi. «Che vergogna! Che figura ho fatto!» pensava sentendo sul volto il tepore delle lacrime. «Ah, che onta! Non mi era mai accaduto un fatto simile!» Intanto l'avevano preso sotto le ascelle e, sostenendogli il capo, lo avevano condotto in un altro ambiente che lui non riconosceva. Poi vede un bicchiere brillargli davanti agli occhi, lo sentì cozzare contro i denti e l'acqua si versò sul suo petto. Poi si accorse di trovarsi in una piccola camera con due letti, uno accanto all'altro, con delle coperte bianche come la neve. Egli si abbatté sopra un letto e si mise a singhiozzare. «Non è niente, non è niente!» diceva Samoilenko. «Sono cose che capitano!» La diesta fiodorofana, impietrita dalla paura, scossa da un tremito e presentendo qualche cosa di grave, stava in piedi presso il letto e domandava «Che hai? Che hai? Per l'amor di Dio, parla!» e intanto pensava «Forse Kirillin gli ha scritto qualche cosa!» «Nulla!» rispose Lajewski ridendo e piangendo. «Va di là, cara!» Il suo volto non esprimeva né odio né disgusto. Egli non sapeva dunque nulla e la diesta fiodorofna ritornò nel salotto più calma. «Non agitatevi, cara!» le disse Maria Costantinovna, sedendosi accanto a lei e prendendola per mano. «Questo passerà! I uomini sono altrettanto deboli, come noi peccatrici! Voi due state attraversando una crisi! È così naturale!» «Ebbene, cara, io aspetto una risposta! Vuolete che parliamo?» «No, non parliamo!» disse una diesta fiodorofna ascoltando i singhiozzi di Lajewski. «Ho un'angoscia! Permettete che me ne vada!» «Ma chiedite, cara!» osservò con spavento Maria Costantinovna. «Come potete pensare che io vi lascio andare senza cena? Mangiamo prima e poi potrete andare!» «Provo un senso di angoscia!» sussurrò una diesta fiodorofna, sostenendosi con le mani alla poltrona per non cadere. «Alle convulsioni infantili!» disse allegramente Von Koren, apparendo nel salotto. Ma dopo aver visto una diesta fiodorofna si confuse ed uscì. Quando cessò l'attacco isterico, Lajewski seduto sul letto pensava. «Che vergogna! Ho strillato come una femminuccia! Dovevo essere ben ridicolo, ripugnante. Sarà meglio per me che me ne vada dalla porta di servizio. Ma questo significherebbe che io do troppa importanza al mio attacco di nervi. Bisognerebbe far finire la cosa in uno scherzo». Si guardò nello specchio, sette un po' seduto e rientrò nel salotto. «Eccomi qua!» disse sorridendo, mentre provava un senso di vergogna e sentiva che anche gli altri si vergognavano davanti a lui. Poi aggiunge mettendosi a sedere. «Ma che bella storia! Stavo seduto ed un tratto, sapete, ho provato un irresistibile dolore in un fianco. I nervi non hanno resistito ed è accaduta quella stupida commedia. È colpa del nostro secolo nervoso. Che volete fare?» A cena beve del vino, parlò e di tanto in tanto, sospirando, si passava la mano sul fianco, come se volesse far vedere che il dolore continuava ancora. Poi egli si accorgeva che nessuno all'infuori di Nadiazda Fiodorovna gli credeva. Verso le dieci uscirono a passeggiare sul corso. Nadiazda Fiodorovna si teneva ostinatamente vicino a Maria Costantinovna e ai suoi ragazzi per impedire a Kirillin la possibilità di accostarla. Essa era battuta dalla paura e dall'angoscia e sentendo i primi sintomi dell'attacco di febbre muoveva appena le gambe ma non osava tornare a casa perché era convinta che sarebbe stata seguita da Kirillin e da Cimianov oppure da tutti e due insieme. Kirillin camminava dietro a loro a fianco di Nicodem Aleksandrovich e canticchiava a mezza voce. Non permetterò che mi si prenda in giro, non permetterò. Dal corso voltarono verso il padiglione, raggiunsero la spiaggia e guardarono a lungo il mare fosforescente mentre von Koren spiegava le ragioni di quel fenomeno. Però io devo andare a giocare al Vint. Mi aspettano, disse Laievski. Vi saluto, signori. Aspettami, vengo con te, disse Nadia Zdafiodorovna prendendolo a braccetto. Lasciarono la compagnia e si allontanarono ma anche Kirillin, con la scusa di fare la stessa strada, si avviò con loro dopo aver salutato gli altri. Succeda quel che deve succedere, pensò Nadia Zdafiodorovna, se deve essere sia. Le sembrava che tutti i suoi brutti ricordi della vita avessero preso corpo e la accompagnassero nelle tenebre, respirando affannosamente e le pareva di essere come una mosca caduta nell'inchiostro. Si trascinava per forza attraverso la strada e non riusciva a convincersi che non sporcava di nero la mano ed il fianco di Laievski. Io sola sarò colpevole se Kirillin farà qualche cosa di male, pensava. Eppure poteva ricordarsi di un tempo non lontano, in cui un uomo non avrebbe osato parlare come Kirillin, ma quel tempo ella lo aveva spezzato, come si spezza un tenue filo. Chi dunque era il colpevole? Stordita completamente dalle sue brame, essa aveva adescato un uomo del tutto sconosciuto, senza provare alcun sentimento, forse solo perché era alto e ben fatto, ma dopo due appuntamenti le era venuto a noia e lo aveva piantato. Per questa ragione, pensava ora, egli ha il diritto di trattarmi come meglio gli piace. Qui cara ti devo lasciare, disse Laievski fermandosi, ti accompagnerà Ilia Mikhailovich. Egli si inchinò dinanzi a Kirillin, proseguì per il corso, poi attraversò la strada di fronte alla casa di Szeskowski, che si distingueva dalle altre per le finestre illuminate e poco dopo si sentì il rumore della porta che si chiudeva. Permettete che io mi spieghi con voi, cominciò Kirillin. Non sono un ragazzo, neppure un qualunque Chikasov o la Chikasov, come dir si voglia. Chiedo che mi si ascolti seriamente. Nadiesda Piodorovna sentì accelerare i battiti del suo cuore, ma non rispose nulla. Dapprima ho spiegato con la civetteria il vostro brusco cambiamento nei miei riguardi, ma ora mi accorgo che voi non sapete trattare con la gente per bene. Volevate prendervi giuoco di me, allo stesso modo come fate con quel ragazzino armeno, ma io sono una persona per bene ed esigo che mi si tratti come tale, ed ora sono ai vostri servizi. Provo un senso di angoscia, disse Nadiesda Piodorovna, e cominciò a piangere, ma per nascondere le sue lacrime si voltò. Anch'io ho un'angoscia, ma che vuol dire? Kirillin tacque un poco, e poi disse nettamente scandendo le parole. Ripeto, signora, se oggi stesso non mi darete un appuntamento, farò uno scandalo. Lasciatemi in pace per oggi, disse Nadiesda Piodorovna, meravigliandosi del tono lamentoso e debole della sua voce. Devo darvi una lezione. Scusate la mia brutalità, ma è necessario che vi dia una lezione. Sì, signora, con rincrescimento devo darvela. Io vi chiedo due appuntamenti per oggi e per domani. Poi sarete completamente libera nei miei riguardi, e potrete agire come vi piacerà meglio. Ricordatevi, oggi e domani. Nadiesda Piodorovna si avvicinò alla porta di casa e si fermò. Lasciatemi, disse balbettando a scossa da un tremito, e non vedendo nulla davanti a sé nelle tenebre, all'infuori di una tunica bianca. Voi avete ragione, io sono una donna orribile, sono colpevole, ma lasciatemi. Io vi prego, mi rattoccò la mano di lui e rabbrivedì al contatto, ve ne supplico. Ahimè, sospirò Kirillin, ahimè. Non è nel mio programma lasciarvi andare. Io voglio darvi una lezione, farvi capire il vostro stesso contegno nei miei riguardi, ed infine vi devo dire, madame, che credo poco alle donne. Ma io sono angosciata. Nadiesda Piodorovna sentì il ritmico rumore del mare, guardò il cielo cosparso di stelle e bramò improvvisamente di finire tutto, di separarsi dalla maledetta sensazione della vita col suo mare, le stelle, gli uomini e la febbre. Va bene, soltanto non a casa mia, disse con freddezza. Portatemi in qualche luogo. Andiamo da Midiurov, sarà la miglior cosa. Dove si trova? Dalla parte del vecchio bastione. Ella si incamminò a passi rapidi per la strada e poi svoltò in una viuzza che conduceva verso la montagna. Era buio, ma qua e là le finestre illuminate delle case gettavano sulla strada delle pallide chiazze di luce e a Nadiesda Piodorovna sembrava, come prima, di essere una mosca caduta nell'inchiostro che riusciva a trascinarsi di tratto in tratto alla luce. Kirilin camminava dietro a lei. A un certo punto egli inciampò, ma non cadde, e questo lo fece ridere. È ubriaco, pensò Nadiesda Piodorovna. Fa lo stesso, fa lo stesso, sia quel che sia. Anche Cimianov si era presto congedato dalla compagnia e si era incamminato verso la casa di Laievski per trovare Nadiesda Piodorovna e condurla a fare una passeggiata in barca. Arrivò alla casa di lei e guardò attraverso il recinto. Le finestre erano spalancate ma buie. «Nadiesda Piodorovna!» chiamò. Attesi per un minuto e rinnovò la chiamata. «Chi è?» chiese la cuoca Olga. «Nadiesda Piodorovna, è in casa?» «Non c'è, non è ancora tornata.» «Strano, assai strano», pensò Cimianov, cominciando a sentire una forte inquietudine. Eppure lo vista incamminarsi verso casa. Egli tornò indietro per il corso e raggiunse la casa Szereskovski. Guardò ed attraverso la finestra vide Laievski, senza giubba, seduto alla tavola intento a guardare attentamente le carte. «Strano, strano», continuò a ripetere fra sé e ricordandosi la crisi isterica di Laievski, provò un senso di disgusto. «Ma se non è a casa, dove sarà andata?» Si avviò di nuovo verso l'abitazione di Nadiesda Piodorovna e rivide le finestre buie. È un inganno. Un inganno, pensava ricordandosi che ella stessa incontrandolo a mezzogiorno nella casa di Bitugov gli aveva promesso di fare insieme a lui una passeggiata in barca. Le finestre della casa dove abitava Kirilin erano pure buie e presso il portone su una panca stava dormendo una guardia civica. A Cimianov, dopo aver guardato le finestre e il guardiano, un tratto comprese tutto. Egli decise di incamminarsi verso casa e si avvicinò, ma senza saper come, si trovò di nuovo vicino all'abitazione di Nadiesda Piodorovna. Allora, sentendo che la testa gli bruciava per la gelosia e per l'offesa, si sedette su una panchina e si tolse il cappello. L'orologio della chiesa cittadina suonava solo due volte nelle ventiquattro ore, a mezzogiorno e a mezzanotte, e poco dopo l'annunzio della mezzanotte Acimianov udì dei passi affrettati. «Domani sera, di nuovo, da Midiurov», sentì e riconobbe la voce di Kirilin. «Alle otto, arrivederci». Nadiesda Piodorovna comparve intanto presso il recinto e senza accorgersi della presenza di Acimianov gli passò accanto come un'ombra. Aprì la porticina, la lasciò aperta ed entrò in casa. Giunta nella sua camera, accese una candela. Si spogliò presto, ma non andò a letto. Si lasciò cadere invece in ginocchio, pressa una sedia, distendendovi le braccia e appoggiandovi la fronte. Lajewski tornò a casa verso le tre. All'indomani verso le due, Lajewski persuaso ormai di non poter mentire una volta sola e deciso a mentire giorno per giorno, si recò da Samoilenco per chiedergli i denari che gli dovevano servire per la partenza, immancabilmente fissata per sabato. Egli non poteva più tollerare l'idea di rimanere in città dopo la crisi di nervi della sera avanti, che aveva aggiunto allo stato penoso della sua anima un acutissimo senso di vergogna. Intanto pensava che se Samoilenco avesse insistito sulle sue condizioni, egli poteva accettarle senz'altro e prendere i denari e il giorno dopo, proprio all'ora della partenza, avrebbe potuto dire che Nadiesda Fyodorovna si era rifiutata di partire, avendo tutto il tempo necessario durante la serata per persuaderla che egli agiva così per il suo bene. Se invece Samoilenco, che era evidentemente influenzato da von Koren, gli avesse rifiutato il prestito opposto a qualche nuova condizione, egli, Lajewski, sarebbe partito subito su un vapore da carico o magari su un veliero diretto a Novdiafon o da Novrosisk, da dove avrebbe potuto inviare alla madre un telegramma umile e impressionante e dove avrebbe potuto attendere che gli giungessero i soldi necessari per il viaggio. Arrivò da Samoilenco e trovò nel salotto von Koren, che era appena rientrato per pranzare e, secondo la sua abitudine, guardava l'album pieno di ritratti di uomini in cilindro e di signore con la cuffietta. «Che contrattempo!» pensò Lajewski vedendo lo zoologo. «Mi può guastare ogni cosa!» Poi disse «Buongiorno!» «Buongiorno!» rispose von Koren senza guardarlo. «Alessandro Davidovich, è in casa?» «Sì, è in cucina!» Lajewski si diresse verso la cucina, ma, vedendo Samoilenco occupato a preparare l'insalata, rientrò nel salotto e si mise a sedere. In presenza dello zoologo, egli si sentiva sempre a disagio ed ora temeva che dovesse parlare della crisi isterica della vigilia. Dopo qualche istante di silenzio, von Koren, alzando gli occhi su Lajewski, chiese «Come vi sentite dopo la crisi di ieri?» Lajewski arrossì e rispose «Benissimo! In fondo non è stato nulla di grave!» «Fino a ieri ho sempre pensato che le crisi isteriche fossero una specialità del Signore e per questo ho creduto dapprima che aveste il ballo di San Vito!» Lajewski sorrise indecisamente, pensando «Com'è indelicato da parte sua! Egli sa benissimo in quale situazione mi trovo!» Ma disse, continuando a sorridere, «È stata una cosa ridicola! Stamani ne ho riso proprio di cuore! Il lato curioso dei casi come è il mio di ieri sta in questo! Si sa che tutto ciò è assurdo e se ne ride nell'anima, ma non si può fare a meno di singhiozzare nello stesso tempo! Il nostro secolo ci ha fatto schiavi dai nostri nervi! Essi sono i nostri padroni e fanno di noi quel che vogliono! La civiltà, in questo senso, ci ha reso un pessimo servizio!» Egli parlava, ma si accorgeva con dispiacere che von Koren lo ascoltava serio e attento e lo guardava fisso senza batter ciglio, come se lo studiasse. Ed era anche stizzito contro se stesso, perché nonostante la sua avversione verso lo zoologo, non poteva in nessun modo costringersi a non sorridere con compiacenza. «Bisogna dire però che la crisi aveva delle cause dirette ed abbastanza fondate!» Continuò Laievski. «Negli ultimi tempi la mia salute è stata molto scossa. Aggiungete a questo la noia, la continua mancanza di denaro, la solitudine e la inesistenza di comuni interessi. Una situazione quanto mai pessima!» «Sì, la vostra situazione è senza uscita», rispose von Koren. Questa calma constatazione, pronunciata con tono freddo, racchiudeva in sé qualche cosa fra lo scherno e la profezia non richiesta. Ed offese Laievski. Gli banenò in mente lo sguardo pieno di disgusto e di disprezzo che lo zoologo gli aveva rivolto la sera innanzi. Tacque un momento e domandò senza più sorridere. «Scusate, e come sapete voi qual è la mia situazione?» «Voi stesso me ne avete parlato proprio in questo momento e poi i vostri amici prendono una parte così viva ai vostri casi che tutto il giorno non si sente parlare d'altro». «Quali amici?» «Samuelenko, forse. Sì, anche lui. Vorrei pregare Alessandro Davidovich e tutti i miei amici di occuparsi un po' meno di me. Ecco, Samuelenko viene. Pregatelo dunque che si occupi meno di voi». «Io non capisco il vostro tono», murmurò Laievski, e provò una sensazione strana, come se soltanto in quel momento avesse compreso che lo zoologo l'odiava e lo disprezzava e si faceva beffe di lui, essendo il suo peggiore ed implacabile nemico. «Riservate questo tono per qualcun altro», disse egli piano, non avendo la forza di parlare ad alta voce, perché l'odio gli serrava il petto e la gola, allo stesso modo come gli era successo alla vigilia per l'incontenibile desiderio di ridere. Samuelenko entrò senza giubba, grondante di sudore e paonazzo per il calore della cucina. «Ah, sei qui», disse. «Buongiorno, caro. Hai pranzato? Non far complimenti. Parla. Hai pranzato?» «Alessandro Davidovich», disse Laievski alzandosi, «se io mi sono rivolto a te, con qualche preghiera confidenziale, questo non significa che tu non abbia l'obbligo di essere discreto e di conservare i segreti altrui». «Che cosa?» «Se non hai denari», continuò Laievski alzando la voce e non potendo star fermo per l'agitazione che sarà impadronita di lui, non darmeli, negameli, ma non dire ai quattroventi che la mia situazione è senza uscita ed altre simili cose. Io non sono uso a sopportare i favori degli amichevoli servizi quando essi valgono un centesimo e ti valutano per un rublo. Tu puoi vantarti degli aiuti che dai agli amici, quanto ti piace, ma nessuno ti ha dato il diritto di divulgare i miei segreti». «Ma quali segreti?» chiese Samuelenko sconcertato cominciando ad irritarsi. «Se hai voglia di litigare vattene, tornerai più tardi». Dicendo queste parole egli si ricordò della massima. «Quando stai per addirarti contro il prossimo comincia a contare mentalmente fino a cento e ti calmerai» e incominciò a contare in fretta. «Vi prego di non occuparvi di me», continuò Laievski. «Non badate più a me, tu e i tuoi amici. E a chi può importare di me e del mio modo di vivere?» «Sì, voglio partire. Sì, io faccio dei debiti. Bevo, vivo con la moglie di un altro. Ho delle crisi di nervi. Sono volgare, meno colto di tanti altri. Ma a chi può interessare tutto questo?» «Dovete rispettare la mia individualità». «Scusami, fratello», interruppe Samuelenko che intanto aveva contato fino a 35. «Ma rispettate la mia individualità». «Rispettate la mia individualità», ripete Laievski. «Queste continue conversazioni sul conto degli altri. Questi, oh e ah, questo continuo spiare, questo rigliare, questi compatimenti amichevoli. Tutto questo va dal diavolo. Mi offrono del denaro in prestito e mi pongono delle condizioni come se io fossi un ragazzino. Mi trattano, il diavolo sa come. Non voglio nulla», gridò barcollando nell'agitazione e temendo che gli venisse di nuovo un attacco isterico. «Sabato non potrò partire», ribalenò in mente, ma soggiunse ad alta voce. «Non desidero nulla. Chiedo soltanto per favore di essere liberato dalla tutela. Non sono né un ragazzino, né un pazzo, e desidero che mi si tolga di dosso questa sorveglianza». Il diacono, il quale stava entrando proprio in quel momento, scorse Laievski agitatissimo, mentre rivolgeva le sue strane parole al ritratto del principe Foronzof, e rimase di stucco, fermandosi presso la soglia della stanza. «Questo incessante scrutare nella mia anima», continuò Laievski, «offende la mia dignità, ed io prego i miei segugi volontari di cessare il loro spionaggio. Ora basta!» «Che hai? Che avete detto?», domandò Samoylenko, che aveva finito di contare fino a cento, arrossendo e avvicinandosi a Laievski. «Basta!», ripete Laievski, con voce soffocata, prendendo il berretto. «Io sono un medico militare russo, nobile consigliere di Stato», disse Samoylenko scandendo le parole. «Non ho mai fatto lo spione, e non permetterò a nessuno di insultarmi», gridò con voce fremente, calcando l'ultima parola. «Tacete!». Il diacono, che non aveva mai veduto il dottore così imponente, così rosso e pieno della propria dignità, e così terribile, strinse i denti e scappò nell'anticamera per potersi sbellicare dalle risa liberamente. Laievski, invece, come se guardasse attraverso la nebbia, vide von Koren alzarsi, mettersi le mani nelle tasche dei pantaloni e fermarsi in mezzo alla stanza come se attendesse il seguito di tutta questa storia. Questo contegno del tutto corretto e tranquillo sembrò a Laievski oltremodo insolente e offensivo. «Ritirate le vostre parole!», gridò Samoylenko. Laievski, che si era già scordato di quel che aveva detto prima, rispose «Lasciatemi in pace! Io non desidero nulla! Anzi, desidero soltanto che voi e i tedeschi oriundi ebrei mi lasciano in pace! Altrimenti prenderò delle misure! Mi batterò!» Ora tutto chiaro, disse von Koren uscendo di dietro alla tavola. «Il signor Laievski desidera divertirsi prima di partire e vuoi duellare! Io posso offrirgli questo piacere! Signor Laievski, io accetto la vostra sfida!» «Sfida!» «Sfida!» murmurò sottovoce Laievski avvicinandosi allo zoologo e guardando con odio incontenibile la sua fronte e i suoi capelli crespi. «La sfida? Se volete, io vi odio! Vi odio!» «Soddisfattissimo e felice!» rispose von Koren. «Quindi ci troveremo domattina, presto, presso Kerbalai, a condizioni secondo il vostro piacimento. Ed ora levatevi di qui!» «Vi odio!» continuò a dire Laievski sottovoce, respirando affannosamente. «Da tanto tempo vi odio!» «Il duello? Sì!» «Fallo andar via! Aleksandro Davidovich! Altrimenti me ne vado!» disse von Koren. «Egli mi morderà!» Il tono calmo di von Koren ebbe un'influenza immediata su Samoilenko, il quale parve rientrare in se stesso. Si fece ragionevole, prese con le due mani Laievski per la vita e, allontanandolo dallo zoologo, gli disse sottovoce affettuosamente, tremando di emozione. «Amici miei, ottimi, eccellenti! Vi siete accalorati, ma ora basta, basta! Amici miei!» Soltanto al suono di questa voce tenera e amichevole, Laievski comprese che proprio di anzi era accaduto nella sua vita qualche cosa di insolito e di mostruoso, come se fosse sfuggito al pericolo di rimanere schiacciato da un treno. Si dominò per non piangere, fece un gesto col braccio e uscì di corsa. Sentire su di sé il peso dell'odio altrui e mostrarsi all'essere che ci odia sotto l'aspetto miserando, spregevole e degno di pietà. «È proprio penoso», pensava egli poco dopo, mentre si era rifugiato nel padiglione e mentre lo tormentava una sensazione strana, come se avesse tutto il corpo coperto da una specie di ruggine prodotta dall'odio altrui, manifestatosi durante la scenata di poco prima. «Come è penoso tutto questo, Dio mio!» Beve l'acqua fresca col cognac e si sentì rianimato. Ora, dinanzi alla sua mente, si manifestavano con chiarezza eccezionale il volto calmo ed altero di Foncoren e il suo sguardo della sera innanzi, la camicia simile a un tappeto, la sua voce e le sue mani bianche, e tutto questo generò nella sua anima un odio pesante, passionale ed avido di sfogo. Nella sua fantasia egli si immaginava di aver abbattuto Foncoren e di poterlo calpestare coi piedi, mentre continuava a ricordare sin nei più minuti particolari tutto l'accaduto e si meravigliava di aver potuto sorridere con compiacenza ad un uomo meschino ed in generale di aver voluto dare una qualsiasi importanza all'opinione di piccoli omuncoli sconosciuti, relegati in quella meschina ed insignificante città, che non aveva nemmeno l'onore di essere segnata sulla carta geografica e di essere conosciuta da un qualsiasi uomo per bene residente a Pietroburgo. Tanto è vero che se quella cittadina fosse improvvisamente crollata o distrutta da un incendio, tutti i cittadini della Russia avrebbero appreso la notizia con la stessa noia con la quale avrebbero accolto l'annunzio di una vendita di mobili usati. Uccidere all'indomani Foncoren o lasciarlo tra i vivi era perfettamente uguale e nello stesso modo inutile e poco interessante. Dajewski continuava a riflettere intorno al duello. In fondo, per lui, sparare contro l'avversario, mirando alla gamba o alla mano ed eriderlo dopo, era come togliere ad un insetto una gamba e lasciarlo sparire in mezzo all'erba. Anzi, avrebbe provato un piacere al pensiero che costui, con la sua sorda sofferenza, avesse dovuto perdersi tra la folla dei suoi simili, ugualmente insignificanti. Poi si recolta Sheskovski, gli raccontò l'accaduto e lo pregò di fargli da padrino e tutti e due insieme andarono dal capo ufficio delle poste e telegrafi per pregarlo di essere il secondo padrino e rimasero a pranzo da lui. Mentre mangiavano, scherzavano e risero molto. Dajewski si burlava di se stesso, confessando di non saper tenere una pistola in mano e si denominava tiratore reale e novello Guglielmo Tell. Bisogna dare una lezione a questo signore, diceva. Dopo pranzo si misero a giocare le carte. Dajewski giocava e beveva, pensando che il duello in generale è una cosa stupida ed assurda, perché invece di risolvere la situazione la complica, ma nello stesso tempo sentiva che talvolta è indispensabile. Per esempio, nel caso attuale non si poteva mica citare von Koren dinnanzi al giudice conciliatore, e poi il duello imminente aveva per lui un lato favorevole, poiché comunque andasse egli non avrebbe potuto più rimanere in città. Così pensando si ubriacò, si distrasse con le carte e si sentì perfettamente bene, ma quando il sole tramontò e discesero le tenebre si sentì invaso da una strana inquietudine. Non era una vera e propria sensazione di paura dinnanzi alla morte. Piuttosto, durante tutto il tempo precedente, aveva provato chissà perché una precisa sensazione di sicurezza, convinto come era che il duello sarebbe finito in nulla. Ma era la paura di qualche cosa di ignoto che doveva accadergli il mattino dopo, per la prima volta nella sua vita, e quindi la paura della notte che si avvicinava. Egli sapeva che la notte sarebbe stata lunga e insonne, e che avrebbe dovuto pensare non solo a von Koren e al suo odio, ma anche alla formidabile montagna di menzogne che era sul punto di affrontare, e che non aveva forza né abilità di scansare. E come se all'improvviso si fosse sentito male, perdete ogni interesse per le carte e per gli uomini. Cominciò ad agitarsi e chiese che lo lasciassero andare a casa. Desiderava andare a letto presto, rimanere tranquillo e prepararsi per i pensieri di quella notte. Szeskovski e il funzionario delle poste lo accompagnarono a casa e poi si recarono da von Koren per stabilire i particolari del duello. Lajewski, presso la sua abitazione, incontrò Acimianov, trafelato ed eccitato. Vi cercavo Ivan Adrievich. Ve ne prego, andiamo presto, disse il giovane. Dove? Un signore a voi sconosciuto, che ha da comunicarvi un affare molto importante, desidera vedervi e vi prega caldamente di andare da lui per un momento. Vi deve parlare di qualche cosa. È per lui una questione di vita o di morte. Acimianov disse tutto questo con grande agitazione, facendo sentire più del consueto la sua caratteristica pronunzia armena. Ma chi è? domandò Lajewski. Mi ha pregato di non dire il suo nome. Ditegli che io sono occupato. Domani, se vuole. Domani, rispose Acimianov spaventato. Ma non è possibile. Questo signore vi deve comunicare qualche cosa di molto importante, qualche cosa che vi interessa da vicino. Se non volete andare, accadrà una disgrazia. Strano, mormorò Lajewski, non riuscendo a comprendere l'eccitazione del giovane armeno e non potendo indovinare quali misteri potessero avere luogo in una cittaduzza così noiosa. Strano, ripete esitante. Del resto possiamo andare. Tanto è lo stesso. Acimianov andò avanti, a passi svelti, e Lajewski lo seguì per una strada e poi per un vicolo. Che storia noiosa, disse Lajewski. Subito, subito, è vicino. Accanto al vecchio bastione si incamminarono per un vicolo stretto, incassato fra due terreni cinti da stecconati, raggiunsero un esteso cortile e si diressero verso una piccola casetta. Questa è la casa di Miriudov, se non sbaglio, disse Lajewski. Sì, ma perché mi avete condotto da questa parte, se si poteva passare per la strada? Sarebbe stato assai più vicino. Non importa. Lajewski trovò stranissimo il fatto che Acimianov stesse entrando dalla porta di servizio e gli facesse dei cenni come per obbligarlo a camminare senza rumore e da tacere. Di qua, di qua, disse Acimianov, aprendo cautamente una porta ed entrando nel corridoio in punta di piedi. Fate piano, vi prego, possono sentire. E gli tese l'orecchio, respirò fannosamente e sussurrò. Aprite questa porta ed entrate, non abbiate timore. Lajewski meravigliato aprì la porta ed entrò in una stanza scarsamente illuminata da una candela che stava su una tavola, col soffitto basso e con le tendine alla finestra. Chi cercate? domandò qualcuno dalla stanza attigua. Sai tu, Miriudka? Lajewski fece qualche passo in direzione della voce e vede Kirilin vicino a Nadiesda Fiatolovna. Non sentì ciò che gli dissero. Arretrò e si trovò nella strada senza accorgersene. Tutto il suo odio per Fonkoren e tutta la sua inquietudine gli erano scomparsi dall'anima. Camminando verso casa, egli muoveva goffamente la mano destra, mentre guardava attentamente la strada per non inciampare. Giunto nel suo studio, Lajewski, fregandosi macchinalmente le mani e muovendo le spalle ed il collo come se la giubba e la camicia lo stringessero, camminò su e giù da un angolo all'altro, poi accese una candela e si sedette a tavola. Le scienze morali delle quali parlate potranno soddisfare il pensiero umano soltanto quando, nella loro evoluzione, si incontreranno con le scienze positive per incamminarsi insieme di pari passo. Io non so se questo incontro potrà avere luogo sotto un microscopio o nei monologhi di un nuovo amleto, oppure in una nuova religione, ma penso che la terra sarà coperta da una crosta di ghiaccio prima che questo possa accadere. La dottrina di Cristo è certamente la più salda e la più vitale di tutte le affermazioni morali, ma voi stesso potete constatare che anche essa è diversamente compresa. Gli uni insegnano che noi dobbiamo amare il nostro prossimo ad eccezione dei soldati, dei delinquenti e dei pazzi. I primi, secondo questo insegnamento, si possono uccidere in guerra, si possono isolare o giustiziare i secondi e dai terzi si proibisce di unirsi in matrimonio. Altri invece insegnano ad amare il prossimo senza alcuna eccezione. Secondo questa dottrina, se un tisico, un assassino o di un epilettico chiede in esposa a vostra figlia, voi non dovete rifiutargliela e se i cretini muovono in guerra contro i sani di corpo e di spirito, questi ultimi devono chinare la testa. Se questa propaganda dell'amore per l'amore, come quella dell'arte per l'arte potesse estendersi ed avere una forza considerevole, essa condurrebbe infine alla completa estinzione dell'umanità e quindi si compirebbe il più grandioso dei delitti che siano mai stati commessi sulla terra. Le interpretazioni sono molte, ma pur essendo molte, nessuna di esse può soddisfare comunque il pensiero serio che a quella massa di varie interpretazioni si affretta ad aggiungerne una propria. Per questa ragione non dovete mai porre un problema sul terreno filosofico oppure su quello cosiddetto cristiano come voi fate, perché in tal modo vi allontanate soltanto dalla sua soluzione. Il diacono ascoltò con attenzione questi chiarimenti di von Koren. Riflettè e domandò, la legge morale, che è propria a ciascun uomo, è stata inventata dai filosofi oppure l'ha creata il Dio insieme al nostro corpo? Non lo so, ma questa legge deve essere considerata come organicamente legata all'uomo, poiché è comune a tutti i popoli e a tutti i tempi. Essa non è frutto di calcoli, ma esiste ed esisterà sempre. Io non posso dirvi che si potrà vederla un giorno sotto il microscopio, ma il suo legame organico è già dimostrato dall'evidenza, perché ogni seria malattia del cervello e tutte le cosiddette malattie mentali si manifestano prima di tutto, per quanto io sappia, con il pervertimento della legge morale. Benissimo, dunque questo significa che il sentimento morale vuole che noi amiamo il nostro prossimo allo stesso modo come lo stomaco desidera il cibo. È così? Ma la nostra stessa natura, per amor proprio, è contraria alla voce della coscienza e della ragione e per questo motivo sorgono dei problemi apparentemente insolubili. A chi dunque dobbiamo rivolgersi per risolvere questi problemi, se voi non permettete di porli sul terreno filosofico? Rivolgetevi in tal caso alle poche nozioni esatte che abbiamo ed abbiate fiducia nell'evidenza e nella logica dei fatti. In verità, devo riconoscere che questo è poco, ma in ogni modo la filosofia è assai più fluttuante e vaga. La legge morale, ammettiamo, esige che si amino gli uomini? Ebbene, l'amore così compreso deve esistere nell'allontanamento di tutto ciò che comunque possa nuocere al prossimo e lo minaccio di pericoli nel presente e nel futuro. Le nostre nozioni e la evidenza ci dimostrano che gli individui fisicamente e moralmente anormali sono un vero e proprio pericolo per l'umanità. Se ciò è vero, dobbiamo lottare contro gli anormali, non avendo la forza per ricondurli alla normalità. Abbiamo tuttavia la forza e la capacità di renderli inoffensivi, cioè di annientarli. Questo significa che l'amore sta nel fatto della vittoria di un forte sopra un debole? Certamente, ma se i forti hanno crocifisso il nostro Signore Gesù Cristo, disse accalorandosi il diacono. La questione sta nel fatto che egli è stato crocifisso non dai forti, ma dai deboli. La cultura umana ha indebolito e tende a portare all'abolizione la lotta per l'esistenza e quella selettiva. Da questo deriva il rapido moltiplicarsi dei deboli e il loro predominio sui forti. Potete immaginarvi che cosa avrebbe se si potessero ispirare alle api delle idee umane, mantenendo le loro forme di vita rudimentali e non evolute. I fuchi che vengono uccisi naturalmente rimarrebbero vivi, mangerebbero il miele, corromperebbero ed espellerebbero le api e quindi si avrebbe, come risultato finale, il predominio dei deboli sui forti e la degenerazione di questi ultimi. Questa stessa cosa succede ora con l'umanità. I deboli opprimono i forti. Presso i selvaggi, non ancora mutati dalla civiltà, il più forte ed il più saggio, cioè il più morale, marcia in testa, riconosciuto come Duce e Signore. Noi uomini civili invece abbiamo crocifisso Cristo e continuiamo a crocifiggerlo. Questo significa che a noi manca qualche cosa, ed è proprio questo, qualche cosa che occorre ripristinare in noi, altrimenti non avranno fine gli equivoci. Ma grazie a quale criterio potete distinguere i forti dai deboli? Il sapere e l'evidenza ci portano a riconoscere i pazzi e gli immorali dai loro atti, allo stesso modo come possiamo riconoscere i tisici e gli scrofolosi dai sintomi delle loro malattie. Sono possibili degli errori, certamente, però chi può temere di bagnarsi i piedi quando minaccia un diluvio. Questa sarebbe filosofia, osservò ridendo il diacono. No, Signore, voi siete talmente guastato dalla filosofia di seminario da non vedere altro che la nebbia dappertutto. Le scienze astratte, con le quali hanno imbottito la vostra giovane testa, si chiamano per l'appunto così perché astraggono la ragione dall'evidenza. Bisogna guardare dritto negli occhi di un diavolo e chiamarlo per nome, se è tale, senza ricorrere accanto oppure a Hegel per avere dei chiarimenti. Lo zoologo tacque e poi riprese il suo ragionamento. Due volte due fanno quattro, una pietra è una pietra. Ecco, domani abbiamo un duello. Voi ed io possiamo dire che questo è assurdo ed è stupido, che il duello rappresenta una sopravvivenza, che questa forma aristocratica non ha in nulla differente, in sostanza da una comune rissa di ubriachi in una bettola. Ma tuttavia andremo a batterci. Esiste dunque una forza che domina i nostri ragionamenti. Noi gridiamo che la guerra è un atto brigantesco, una barbarie, un orrore, un fratricidio e senza cadere in deliquio non siamo capaci di vedere scorrere il sangue. Ma dove se ne va tutto questo? Se per esempio i francesi o i tedeschi ci offendono. Allora noi sentiamo uno spirito nuovo, gridiamo esemplarmente urrà e ci gettiamo sul nemico. Voi, come sacerdote, invocate per le nostre armi la benedizione di Dio e il nostro valore solleva un generale per giunta sincero entusiasmo. Dobbiamo di nuovo concludere dunque che esiste una forza, se non più alta, certo più potente di noi e della nostra filosofia. Noi non possiamo fermare questa forza allo stesso modo come non siamo capaci di fermare quella nube che si alza all'orizzonte. Ripeto, questa forza esiste ed è sovrana. Nulla vale dunque essere ipocriti nei riguardi di essa. Come nulla vale fare delle corna con le mani in tasca e gridare questo è stupido, questo è sorpassato, non va d'accordo col Vangelo. Bisogna invece riconoscere la sua legittimità saggia, guardarla senza sottintesi e quando essa vuol sopprimere una razza vile, malata, scrofolosa e corrotta, voi non dovete impedirglielo con le vostre ipocrite citazioni del Vangelo mal compreso. Vi ricordate il nostro scrittore Lieskov ha descritto il coscienzioso Danilo che trovò dietro la città un lebroso, gli diede da mangiare e lo confortò nel nome dell'amore di Cristo. Se questo Danilo avesse realmente amato gli uomini egli avrebbe trascinato quel lebroso il più possibilmente lontano dalla città per gettarlo in una fossa e per recarsi a servire i sani. Gesù Cristo, mi sembra, ci ha insegnato l'amore ragionevole, sensato ed utile. Ecco come siete, rispose il diacono ridendo, se non credete in Cristo perché lo ricordate così spesso? Io ci credo soltanto non a modo vostro ma a modo mio. Ah, diacono, diacono, disse ridendo lo zoologo, poi lo afferrò per la vita e continuando a ridere soggiunse. Allora domani mattina andremo a duellare. La mia veste non mi permette di venire, altrimenti verrei. Ma che significato ha la veste? Sono consacrato, la benedizione divina è su di me. Ah, diacono, diacono, ripeteva un cuore ridendo, mi piace parlare con voi. Voi dite che avete fede, disse il diacono. Ma qual è questa fede? Vedete, io ho uno zio Pope ed egli crede fino al punto che quando si reca nei campi per implorare l'accessazione della siccità non manca di prendere con sé l'ombrello e l'impermeabile di cuoio per non bagnarsi durante il ritorno. Ecco la vera fede, quando egli parla di Cristo dal suo volto emana tale una radiosità che le donne e i contadini piangono a dirotto. Egli fermerebbe anche la vostra nuvola e metterebbe in fuga la forza di cui avete parlato. Sì, caro amico, la fede è capace di smuovere le montagne. Il diacono rise, batte la spalla di Foncoren e continuò. Così è. Pensate tuttavia, per esempio, voi studiate tutto, scandagliate gli abissi del mare, sapete distinguere i deboli e i forti, scrivete libri e vi battete in duello. Ma tutto rimane al suo posto e invece se un debole vecchio mormora una parola in nome dello Spirito Santo oppure balza a cavallo dell'Arabia, un nuovo maometto con la scimitarra, tutto va sottosopra e in tutta l'Europa non resta pietra su pietra. Sì, sì, caro diacono, ma questo non lo abbiamo ancora visto. La fede senza l'azione è cosa morta, ma l'azione senza fede è peggiore, è una perdita di tempo. Il datore comparve sulla spiaggia e, scorgendo il diacono e lo zoologo, si avvicinò loro dicendo «Tutto è pronto, a quanto pare. I padrini saranno Govorowski e Boico. Verranno domattina le cinque. Il tempo sta cambiandosi», soggiunse guardando il cielo. «Quante nuvole! Tra poco pioverà». «Io spero che tu vorrai venire con noi», chiese von Koren. «No, Dio mi salvi. Mi sono stancato abbastanza. Ho già parlato con Ustimovic. Verrà lui». Un lampo brillò lontano sopra il mare ed eccheggiarono i bruntolì sordi del tuono. «Che afa! Prima della burrasca», osservò von Koren, «vorrai scommettere che tu sei stato da Lajewski ed hai pianto sul suo petto. E perché dovrei essere andato?» rispose Samoilenko confuso. «Non ci mancherebbe che questo. Però in verità, prima del tramonto, egli aveva più volte attraversato il corso principale con la speranza di incontrare Lajewski. Sentiva un senso di vergogna per lo scatto di ieri ed anche per l'improvviso slancio di tenerezza che aveva seguito quello scatto. Voleva scusarsi presso Ivan Andreevich, mettendo tutto in scherzo, sgridarlo, calmarlo e dirgli che il duello è un avanzo della barbarie medievale. Ma che la provvidenza stessa aveva prescelto il duello per troncare la sorda inimicizia tra i suoi due migliori amici? Avrebbe potuto dirgli anche che all'indomani loro due, uomini eccellenti e di grandissimo ingegno, dopo essersi scambiati due colpi di pistola, avrebbero potuto scambiovolmente apprezzare la loro nobiltà e sarebbero divenuti ottimi amici. Ma Lajewski non si era fatto incontrare. «Perché dovrei andare da lui?» ripetesse Moilenko. «Non sono stato io ad offenderlo. Dimmi, per favore, per quale ragione egli mi ha assaltato in quel modo? Che cosa gli ho fatto di male? Ero appena entrato nel salotto e lui di punto in bianco mi getta in faccia la parola «spione». Dimmi, come avete cominciato? Che gli avevi detto? Gli avevo detto che la sua situazione era senza uscita, ed avevo ragione, perché soltanto i furfanti matricolati e le persone veramente oneste possono trovare una via di uscita da qualunque situazione. Ma chi vuole essere nel medesimo tempo furfante ed onesto si trova nella condizione di Lajewski. Però, signori, sono già le undici e domattina mi devo alzare per tempo. Proprio in quel momento una folata di vento innalzò la polvere sulla spiaggia, la fece turbinare, ruggì, coprendo il rumore del mare. «Ma che raffica!» disse il diacono. «Bisogna andare, ho già gli occhi pieni di polvere». Mentre si incamminavano, Samuilenko sospirò e disse tenendosi il berretto. «Forse stanotte non andrò a dormire». «Non t'agitare», disse ridendo allo zoologo. «Puoi stare tranquillo. Il duello finirà in nulla. Lajewski, secondo ogni probabilità, vorrà essere generoso e sparerà in aria. Egli non può fare diversamente, ed io forse non sparerò affatto. Dal resto, essere messi sotto giudizio per causa di Lajewski e dover perdere del tempo, caro mio. È un gioco che non vale la candela. A proposito, qual è la pena combinata per il duello? L'arresto, ed in caso di morte dell'avversario, fino a tre anni di reclusione in fortezza. In quella di San Pietro e Paolo? No, mi sembra in una fortezza militare. Eppure, bisognerebbe dare una lezioncina a quel tipo». Sul mare, dietro loro, brillò muovamente un lampo, che rischiarò per un attimo i tetti delle case e le montagne. Presso il corso, gli amici si salutarono, e quando il dottore era scomparso già nelle tenebre e il rumore dei suoi passi stava perdendosi, Fonkoren gli gridò. «Purché il tempo non impedisca l'incontro di domani». «Bene, bene, Dio lo voglio», rispose Samoilenko. «Buonanotte». «Che? Notte? Ma che dici?» Il rumore del vento e lo sbattere delle onde del mare, assieme al brontolio incessante dei tuoni, impedivano di sentire le parole. «Nulla!» gridò Fonkoren affrettandosi verso casa. «Nello spirito oppresso dall'angoscia, un cumulo di gravi pensieri s'affolla. Il ricordo che tace, dinanzi a me, il suo lungo rosario distende. Con disgusto leggendo la mia vita, fremo e scandaglio la maledizione. E mi dolgo, ed amare lacrime, verso. E non cancello le righe penose. Pushkin». Egli era ugualmente perduto, sia che lo uccidessero all'indomani mattina, sia che si prendessero gioco di lui lasciandogli la vita. Anche la sua donna era ugualmente perduta, sia che si uccidesse nell'orgasmo della disperazione e della vergogna, sia che continuasse a trascinare la sua misera esistenza. Così pensava Lajewski, stando seduto a tavola e continuando a fregarsi le mani. D'un tratto la finestra si aprì e sbatté. Una folata di vento turbinò nella stanza, gettando lo scompiglio tra le carte. Lajewski chiuse la finestra e si chinò per raccogliere le carte. Egli sentiva in sé qualcosa di nuovo, di insolito, una certa guffaggine che prima non esisteva e non riconosceva più i suoi stessi movimenti. Egli camminava timidamente, con i gomiti sporgenti e le spalle rialzate, e quando si rimise a sedere davanti alla tavola ricominciò a fregarsi le mani. Il suo corpo aveva perduto l'agilità. «Alla vigilia della morte si suole scrivere ai parenti», pensò Lajewski, poi prese la penna e scrisse con mano tremante. «Mammina!» Egli voleva scrivere alla madre per pregarle che, in nome di Dio misericordioso in cui ella credeva, desse asilo e coprisse di tenerezza l'infelice donna da lui disonorata. Ora sola, povera e debole, che dimenticasse e perdonasse tutto, 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 e col suo sacrificio riscattasse in parte l'orribile peccato del figlio». Ma in quello stesso momento egli ricordò come sua madre, una vecchia grassa e pesante, con una cuffietta di pizzo, passeggiasse ogni mattina nel giardino, seguita da una dama di compagnia con un cagnolino maltese, e come gridasse con tono imperioso al giardiniere ed alla servitù. Egli ballenò in mente il suo viso orgoglioso ed altero. Questo ricordo gli fece cancellare la parola che aveva scritto. Un lampo riempì di vivida luce le tre finestre buie, e subito eccheggiò, dapprima sordo, poi fragoroso e pieno di crepitì, un colpo di tuono assordante, rimbombante e così forte da far tremare i vetri. Lajewski si alzò, si avvicinò alla finestra ed appoggiò la fronte al vetro. Fuori imperversava in tutta la sua violenza e in tutta la sua bellezza l'uragano. All'orizzonte i lampi, come nastri lucenti e bianchi, univano la superficie del mare alle nuvole, gettando sprazzi di vive da luce sopra le inquiete onde nelastre. Lampeggiava dappertutto. E' una burrasca, mormorò Lajewski, e sentì in sé svegliarsi improvviso e incontenibile il desiderio di pregare qualcuno o qualcosa. Anche le nuvole e i lampi. Caro uragano, gli venne in mente come egli nell'infanzia, durante il temporale, corresse in giardino a capo scoperto, seguito da due bimbe dai capelli biondissimi e dagli occhi azzurri. Quando la pioggia le bagnava, esse ridevano soddisfatte e contente, ma quando rintronava il fragoroso colpo di tuono, esse si stringevano fiduciosamente a lui, che si segnava e che si affrettava a recitare «Santo, santo, santo!» Oh, dove erano fuggiti e in quale mare erano sprofondati gli inizi di una vita così bella e pura! Ormai non temeva l'uragano, non amava più la natura, non rispettava alcun dio, e le bimbe fiduciose, che egli conosceva da tempo, erano state ormai corrotte da lui o dai suoi coetanei. Nel giardino della casa Natia egli non aveva mai piantato un albero durante la sua vita, né coltivato una sola erba, e vivendo tra i vivi non aveva salvato una sola mosca, ma aveva solo distrutto, rovinato e mentito. Mentito! Che cosa non è vizio nel mio passato? Si chiedeva cercando di aggrapparsi a qualche ricordo luminoso, come colui che cadendo in un abisso cerca di afferrare gli arbusti. E venivano i ricordi del ginnasio, dell'università, ma tutto era una menzogna. Aveva studiato male ed aveva dimenticato ciò che gli era stato insegnato. Anche il servizio pubblico, assunto più tardi, non era che una menzogna, perché nelle ore d'ufficio egli non faceva nulla e percepiva lo stipendio senza offrire in cambio una sola particella della sua energia. Era in sostanza un furto allo Stato, peggiore degli altri furti perché nessuno si sognava di mandarlo in galera. La verità non gli era necessaria ed egli non la cercava. La sua coscienza, affascinata dalla menzogna e dal vizio, dormiva e taceva ed egli, come se fosse un estraneo, un essere caduto sulla terra da un altro pianeta, non partecipava alla vita di tutti. Era indifferente alle sofferenze degli uomini e con la stessa indifferenza considerava le loro idee, religioni, cognizioni, riserche, lotte. Egli non aveva mai detto agli uomini sia pure una sola buona parola. Non aveva mai scritto una sola riga utile e non volgare. Non aveva fatto insomma per il suo prossimo nulla che valesse qualche cosa. aveva solo mangiato il pane degli uomini, bevuto il loro vino, rapito le loro mogli, vissuto dei loro pensieri e per giustificare dinnanzi a loro e davanti a se stesso questa sua vita spregevole e parassitaria, cercava assiduamente di assumere una certa aria di superiorità per far capire che egli era migliore e diverso da tutti. Menzogna, menzogna e menzogna. Egli ricordò chiaramente la scena veduta alla vigilia nella casa di Miriudov e provò un senso di ripugnanza e di angoscia opprimente. Kirilin e Acimianov erano degli esseri spregevoli, ma essi in sostanza continuavano ciò che egli stesso aveva cominciato, diventando in tal modo i suoi complici e i suoi discepoli. Soltanto ora comprendeva chiaramente quel che aveva fatto e quel che non osava compiere. Aveva tolto il marito, la cerchia dei conoscenti e il suo paese natio ad una donna giovane e debole, che aveva fiducia in lui come in un fratello, per portarla in quel maledetto paese, in mezzo all'afa, alla febbre, alla noia. Di giorno in giorno essa aveva dovuto riflettere in sé, come in uno specchio, la sua oziocità, il suo vizio e la sua menzogna, e solo di queste cose si era riempito la debole, fiacca e meschina vita di lei. Dopo essersi saziato di quella donna, aveva incominciato ad odiarla e non avendo il coraggio di scacciarla, si era sforzato di avvolgerla sempre più intensamente nella menzogna, come in una ragnatela. Il resto lo avevano fatto Kirilin e Acimianov. Lajewski continuava ad essere agitato. Si sedeva alla tavola, correva alla finestra, spegneva la candela e la riaccendeva e, maledicendosi ad alta voce, piangeva, si lamentava, chiedeva perdono. Diverse volte, nello spasimo della sua disperazione, corse alla tavola e scrisse «Mammina». Non aveva nessun amico e nessun parente oltre la madre, ma anche essa come l'avrebbe potuto aiutare? E dov'era? Avrebbe voluto correre da Nadiesda Fiodorovna per gettarsi ai suoi ginocchi, per baciare le sue mani e i suoi piedi, per chiedere il suo perdono. Ma, poiché la sentiva sua vittima, aveva paura di lei, come se fosse morta. «La mia vita è perduta», mormorò fregandosi di nuovo le mani. «Perché sono ancora vivo? Deo mio!» Egli stesso aveva staccato dal firmamento la sua stella dalla luce offuscata e sarà caduta confondendosi con la tenebra notturna e non sarebbe ritornata mai più sul cielo, perché la vita vi è andata una sola volta e non si ripete. E se egli avesse avuto la potenza di ripeterla, avrebbe sostituito la verità alla menzogna che da essa traboccava, la fatica all'ozio, da gioia alla banalità. Egli avrebbe reso la purezza a tutti coloro ai quali l'aveva tolta, avrebbe ritrovato Dio e la giustizia. Ma tutto questo era impossibile, come era impossibile farvi accendere sul firmamento una stella tramontata. E la certezza di questa impossibilità generava in lui la disperazione. Quando finì il temporale, egli si mise dinanzi alla finestra aperta e con calma incominciò a pensare su quel che sarebbe stato di lui. Fonkoren, secondo ogni probabilità, lo avrebbe ucciso, perché la sua chiara e fredda concezione della vita gli permetteva la soppressione dei deboli e degli inetti. Nel resto, se anche nell'ultimo momento questa concezione non fosse bastata, il suo atto sarebbe stato determinato ugualmente dal sentimento dell'odio implacabile e dalla ripugnanza che egli provava per Lajewski. Ma che cosa sarebbe successo se avesse fallito il colpo, oppure se per burlarsi di un avversario odiato lo avesse soltanto ferito o avesse sparato in aria? Dove sarebbe andato in tale caso? A Pietroburgo? pensava. Ma questo significherebbe ricominciare la vecchia vita che io abborrisco. Chi cerca la salvezza nel mutare dei luoghi, come i giuccelli migratori, colui non troverà nulla, perché per lui tutti i luoghi della terra sono uguali. Cercare la salvezza negli uomini? E in chi? E come? Nella bontà e nella magnanimità di Samoilenko si trovano gli stessi elementi negativi, come nella chiassogita ridanciana del diacono, oppure nell'odio di von Koren. Bisogna cercare dunque la salvezza in se stesso e se non si può trovare non devo metter tempo ad uccidermi. Ecco la soluzione. Egli sentì il rumore di una carrozza che passò oltre. Girò poi e stridendo con le ruote sulla sabbia bagnata si fermò presso la casa. Albeggiava. Nella carrozza Lajewski scorse due uomini. Aspettatemi, vengo subito, disse rivolgendosi a loro. Io non dormo. Ma è già l'ora? Sì, sono le quattro. Prima che si arrivi, Lajewski si infilò il pastrano, prese il berretto e si mise in tasca delle sigarette e si fermò pensieroso. Mi sembrava di essersi scordato di fare qualche cosa. Sulla strada i suoi padrini parlavano sottovoce e i cavalli sbuffavano. Questi rumori strani e non consueti a quell'ora, mentre tutti dormivano ed il cielo si rischiarava appena, riempirono l'anima di Lajewski di un abbattimento simile a un cattivo presagio. Sostò ancora un poco, pensando, e poi si diresse verso la camera da letto. Una diesta Fiodorovna giaceva distesa, col capo avvolto in una coperta, senza muoversi, simile, specie nella parte superiore del corpo, ad una mummia egiziana. Lajewski, guardandola in silenzio, le chiese mentalmente perdono e pensò che se il cielo non era vuoto e c'era realmente il Dio, egli l'avrebbe protetta e se il Dio non c'era, poteva perire, perché ella non aveva ragione di vivere. La donna balzò ad un tratto a sedere sul letto ed alzando il suo volto pallido, guardò Lajewski con spavento e disse, sei tu? È passato il temporale? Sì, il ricordo della sera la oppresse, si strinse la testa tra le mani, tremando in tutto il corpo. Come mi è penoso, se tu sapessi come mi è penoso attendere, disse chiudendo gli occhi, mi aspettavo di essere uccisa oppure di essere cacciata di casa. Pioveva, c'era il temporale, e tu indugiavi, indugiavi. Lajewski l'abbracciò con uno slancio cordiale, le baciò affettuosamente le mani e le ginocchia e poi, mentre essa mormorava qualche cosa e tremava nell'afflusso dei ricordi, le accarezzò i capelli e, fissandola in volto, comprese che quella donna, disgraziata e viziata, era per lui l'unico prossimo, l'unico parente, insomma, una persona insostituibile. E quando egli, dopo essere uscito di casa, salì sulla carrozza, provò un forte desiderio di tornare vivo. Il diaco non si alzò, si vestì, prese il suo grosso e nodoso bastone e uscì di casa. Era buio ed egli avviandosi per la strada non riusciva a distinguere il suo bastone. Sul firmamento non c'erano le stelle e pareva che dovesse piovere ancora. L'aria odorava di sabbia bagnata e di mare. Speriamo che non mi assalgano quei predatori di Cecenzi, pensava ascoltando il rumore del bastone che picchiava sul selciato, rumore che si spandeva nel silenzio notturno e cheggiando sonoramente. Quando altro passò le ultime case della cittadina, incominciò a distinguere bene la strada. Sul cielo ancora nero comparvero qua e là delle macchie, incerte e poi rapidamente apparve una stella miccando timidamente. Il diacono camminava ora lungo la riva alta e rocciosa, senza vedere il mare che pareva addormentato in basso. Soltanto le sue onde invisibili sabbattevano pigramente sulla riva e parevano sospirare pesantemente. Esse si succedevano con una strana lentezza e il diacono attese il rumore di una di esse, infrantasi sugli scogli, per contare i passi, e ne aveva contati fino ad otto, quando ne sopraggiunse un'altra. Dopo altri sei passi sabbatte pesantemente una terza ondata. Tutto il resto era immerso ancora nelle tenebre, dalle quali proveniva ritmico, pigro e sonnolento, il rumore del mare, e al diacono parve di assistere all'attimo infinitamente lontano e quasi inimmaginabile in cui Dio si vibrava sopra il caos. Il diacono provò un senso di oppressione. Gli pesò che Dio avrebbe potuto punirlo, perché non solo frequentava assiduamente la compagnia dei miscredenti, ma persino andava per assistere ad un loro duello, che sarebbe stato magari incruento e ridicolo, una sciocchezza in sostanza, ma comunque era uno spettacolo pagano e un ecclesiastico non doveva assistervi. Egli si fermò e pensò al ritorno, ma la curiosità forte ed inquieta vinse i suoi dubbi ed egli si incamminò in avanti. È vero che essi sono dei miscredenti, ma sono uomini buoni e potranno salvarsi, pensava per calmare i suoi dubbi. Certamente si salveranno, concluse a voce alta accendendo una sigaretta. Con quale misura si dovevano misurare i meriti degli uomini per poter giudicare di essi secondo la giustizia? Questo problema sorse improvvisamente dinnanzi al pensiero del diacono ed egli si ricordò di un suo nemico, di quell'ispettore del seminario che credeva in Dio, che non si sarebbe mai battuto in duello e che viveva in castità, ma che gli aveva fatto mangiare il pane con la sabbia ed una volta per poco non gli aveva strappato un orecchio. Se la vita umana è ordinata in maniera così poco saggia, che questo crudele ispettore, che rubava la farina governativa e che era disonesto, non solo era stimato e riverito da tutti, ma nel seminario gli allievi pregavano persino per la sua salute e per la sua salvezza. Poteva essere giusto tenersi indisparse dagli uomini come von Koren e Laievski solo perché erano dei miscredenti. Senza risolvere il problema egli si ricordò della figura ridicola tronfia di Samoilenko durante la scena del giorno prima e questo ricordo interruppe il corso dei suoi pensieri. Quanto avrebbero riso all'indomani? Il diacono si immaginava raggomitolato presso un arbusto intento a guardare il duello e quando il giorno dopo a pranzo lo zoologo avesse cominciato a vantarsi, allora egli avrebbe raccontato ridendo tutti i particolari. Ma come sapete tutto questo? avrebbe chiesto immancabilmente von Koren. Eh sì, caro, stavo tranquillo a casa eppure su tutto. Poi il diacono pensò che sarebbe stato bene descrivere questo duello dal lato umoristico, procurando in tale maniera un grande godimento a suo suocero, che rinunziava volentieri al mangiare pur di sentire e di leggere qualche cosa di ridicolo. Innanzi a lui si aprì la vallata del fiume Zoltaia. La pioggia aveva ingrossato il torrente, che appariva ora assai più largo e furioso, non borbottava ma ruggiva. Incominciava ad alveggiare e si svegliava un mattino fosco e grigio, mentre sul cielo correvano rapide le nuvole verso l'occidente, come se volessero raggiungere le pesanti nubi del temporale che fuggiva nell'immensità dello spazio. Tutto questo insieme con le montagne ammantate di nebbia e gli alberi bagnati dalla pioggia notturna, pareva al diacono infinitamente brutto e fosco. Egli si lavò in un ruscello e recitò le preghiere mattutine. Un tratto si sentì assalito dal desiderio di tè e di quelle frittelle calde con la panna assaporate alla mattina nella casa del suocero. Poi ricordò la diaconessa e il pezzo suonato da lei al pianoforte intitolato Tempo che non ritorna. Quale donna poteva essere la diaconessa? Egli non la conosceva quasi. In una settimana gliele fecero conoscere, lo fidanzarono e poi lo sposarono. Poi dopo un mese dallo sposalizio lo avevano mandato nel Caucaso ed egli non aveva avuto il tempo necessario per comprendere che tipo fosse. Tuttavia stare senza direi gli era noioso. Bisogna scriverle una lettera, pensava. La bandiera dell'osteria del tartaro Kerbalai, frustata dalla pioggia nella notte, pendeva giù come uno straccio bagnato e tutto l'edificio, con quel suo tetto lucido dall'acqua, sembrava più basso e più scuro di prima. Presso la porta stava fermo un caratteristico carro caucasico, mentre Kerbalai, due giovani indigeni ed una donna tartara in pantaloni larghi, portavano fuori dall'interno dell'osteria dei sacchi, pieni di chissà cosa, per metterli sul carro in mezzo alle foglie del Gran Turco rosicchiate da una coppia di asini, legata a fianco del carro stesso. Caricati i sacchi, la tartara, probabilmente la moglie o la figlia dell'oste, insieme con due giovani, si mise a coprirli con le foglie, mentre Kerbalai s'accinse ad attaccare frettolosamente gli asini. «Sarà il contrabbando», pensò il diacono camminando. Egli scorse ad un tratto l'albero abbattuto e la macchia nera del falò in mezzo alla radura. Tutti i particolari della gita, il fuoco, i canti, i dolci, sogni ad occhi aperti sul vescovado e sulla processione, gli ritornarono in mente. Anche la ciornaia si era ingrossata con la pioggia e pareva più nera del consueto. Il diacono cautamente attraversò il malfermo ponticello lambito a tratti dai salti delle onde torbide e salì sulla scaletta che conduceva al granaio solitario. «È una testa quadra», pensò, stendendosi comodamente sulla paglia e ricordandoci di Von Koren. «Una testa buona, che Dio lo assista. Soltanto è troppo crudele quell'uomo. Per quale ragione esisteva quell'odio tra Lajewski e Von Koren? Per quale ragione si sarebbero battuti in duello?» Il diacono pensava intensamente e concludeva che, se essi come lui fin dall'infanzia fossero vissuti nella più squallida miseria, se fossero stati allevati tra la gente povera, dura di cuore, avida di guadagno, rozza ed incolta, capace di rinfacciare un boccone di pane, abituata a sputare sul pavimento, e a ruttare durante il pranzo e durante la preghiera. Insomma, se essi non fossero stati viziati dall'agiatezza e non avessero vissuto in mezzo alla gente per bene, si sarebbero sostenuti perdonando i loro reciproci difetti e avrebbero saputo apprezzare ciò che c'era in ciascuno di loro. Infine, degli uomini per bene, sia pure solo esternamente, ce ne sono assai pochi nel mondo. Certo, Leievski era un essere strano, sregolato, corrotto, ma però non rubava, non sputava rumorosamente sul pavimento, non rinfacciava alla moglie, sbafare, sbafi, ma lavorare non vuoi, non picchiava i bambini con le redini e non nutriva i suoi servi con il lardo puzzolente. Tutto questo doveva bastare per trattarlo con indulgenza. Infine, Leievski stesso, per primo, soffriva dei suoi difetti, allo stesso modo come un malato soffre per le sue ferite. Essi, uomini per bene, spinti dalla noia o da qualche malinteso, cercavano l'uno nell'altro la degenerazione, la decadenza, l'ereditarietà e tante altre cose. Mentre sarebbe stato meglio se essi fossero discesi più in basso, per dirigere il loro odio e la loro collera là, dove la crassa ignoranza, l'avidità, la sporcizia, le bestemmie e le strida delle femmine si percotevano nelle vie intiere con un gemito atroce. Si sentì il rumore di una vettura ed il diacono guardando fuori dalla porta vide una carrozza con Leievski, Shevskoski e il capo dell'ufficio postale. Ferma, disse Shevskoski. Essi scesero guardandosi scambievolmente. Non sono ancora arrivati, osservò Shevskoski scuotendosi accuratamente gli schizzi di fango. Che facciamo? Nell'attesa possiamo cercare un posticino più adatto. Qui non ci si rigira. Tutti e tre risalirono lungo il fiume e presto scomparvero alla vista del diacono. Il cocchiere tartaro risagi sulla carrozza, piegò il capo su una spalla e si addormentò. Dopo aver atteso circa dieci minuti, il diacono abbandonò il granaio e dopo essersi tolto il cappello nero, perché non si accorgessero di lui, Curvo e Guardingo cominciò ad inoltrarsi tra i cespugli e le piante di Glenturco, che crescevano lungo la riva, sotto una pioggia di grosse gocce d'acqua che gli cadevano addosso dagli alberi e dagli arbusti. Di porcheria, brontolò il diacono, rialzando le falde della sua veste infangate e bagnate. Se avessi saputo che mi sarei ridotto così, avrei rinunziato a venire. Nello stesso tempo udì delle voci e vide Lajewski mentre, con le mani infilate nelle maniche, Curvo camminava rapidamente da un lato all'altro di una piccola radura. I suoi padrini stavano sulla riva e arrotolavano delle sigarette. Strano, pensò il diacono, non riconoscendo l'andatura degli Lajewski. Sembra un vecchio. Ma è una cosa sconveniente da parte loro, osservò il capo dell'ufficio postale guardando l'orologio. Forse per gli scienziati è giusto far tardi, ma per me è una porcheria. Szeskovski, un uomo grasso dalla barba nera, tese l'orecchio e disse, vengono. Per la prima volta in vita mia vedo un simile spettacolo. Quanto è bello, disse von Koren, apparendo sulla radura e tendendo le braccia verso l'oriente. Guardate i raggi verdi. Infatti dietro la maestosa gobba della montagna s'allungavano due raggi verdi. Sorgeva il sole e la natura offriva uno spettacolo indimenticabile. Buongiorno signori, soggiunse lo zoologo salutando con un cenno di capo i padrini di Lajewski. Sono forse in ritardo? Dietro a lui comparvero i suoi padrini, due giovanissimi ufficiali di uguale statura, Boiko e Govorowski, ambe due in tuniche bianche. A fianco di loro camminava lo spilungone e misantropo Ustimovic, pronto ad entrare nelle sue funzioni professionali di medico. Egli portava in una mano un pacco e teneva l'altra dietro la schiena, dove secondo la sua abitudine si drizzava la canna da passeggio e poi, dopo aver deposto il pacco per terra, senza rivolgere un solo saluto ai presenti, mise anche l'altra mano dietro la schiena e cominciò a camminare attraverso la radura. Lajewski provava il senso di stanchezza e soprattutto il disagio naturale a un uomo che a momenti può perdere la vita e quindi attira l'attenzione generale. Voleva che tutto finisse al più presto, che lo uccidessero subito oppure lo ricondicessero a casa, senza alcun indugio. Per la prima volta nella sua vita egli vedeva il levar del sole. Quel mattino i raggi verdi, l'umidità e gli uomini con gli stivali bagnati, insomma tutto gli pareva perfettamente inutile e superfluo e lo primeva soltanto. Non avendo alcun vincolo palese con la notte vissuta, con i suoi pensieri, con la profonda sensazione della sua colpevolezza, è per questa ragione egli avrebbe abbandonato volentieri quel luogo e quegli uomini, senza attendere il duello. Foncora invisibilmente eccitato cercava di nascondere la sua agitazione dimostrando che più di tutto lo interessavano i raggi verdi. I padrini erano turbati e si guardavano scambievolmente, come se volessero chiedersi perché fossero là e che cosa precisamente dovessero fare. Io suppongo, signori, che sarebbe inutile cercare un altro posto. Qui si sta bene, disse Szeskovski. Sì, siamo perfettamente d'accordo, rispose acconsentendo Foncoren. Seguì un attimo di silenzio imbarazzante, rotto solo da Ustimovic, il quale continuando a camminare, si rivolse verso Lajewski e disse a mezza voce, respirandogli in viso. Secondo ogni probabilità, non hanno avuto il tempo per comunicarvi le mie condizioni. Ciascuna delle parti mi pagherà quindici rubli e nel caso di morte di uno di voi due, il superstite dovrà pagare anche per il morto. Lajewski conosceva già da prima quest'uomo, ma soltanto allora vide distintamente i suoi occhi torbidi, i suoi baffi duri e il collo magro, simile a quello di un tisico e concluse mentalmente. Questo uomo è un usuraio, non un medico. L'alito di Ustimovic aveva un odore sgradevole, di carne bovina macellata. Che gente si può incontrare nel mondo, pensò Lajewski e rispose, va bene. Il medico fece un cenno col capo e riprese la sua passeggiata. Si poteva capire che egli non avesse alcun bisogno del denaro, ma che insistesse solo spinto dall'odio. Tutti sentivano che era tempo ormai di incominciare, oppure di finire ciò che era stato iniziato. E non cominciavano, non finivano, ma camminavano, si fermavano e fumavano. I giovani ufficiali che assistevano per la prima volta, nella loro vita, ad un duello e davano pochissima importanza a questo inutile scontro tra borghesi, guardavano attentamente le loro tuniche e passavano le dita sopra le maniche. Szeskovski si avvicinò a loro e disse piano, signori, siamo obbligati ad usare tutti i nostri sforzi affinché questo duello non abbia luogo. Bisogna arrivare alla riconciliazione. E gli arrossi e soggiunse, ieri venne da me Kirilin e si lamentò che Lajewski lo aveva sorpreso il giorno prima con Adiesta Fiodorovna e via dicendo. Lo sappiamo anche noi, rispose Boico. Tanto meglio, vedete dunque. A Lajewski tremano le mani e via dicendo. Egli non potrà alzare la pistola. Battersi con lui equivale a battersi con un ubriaco o con un tifoso. Sarebbe inumano. Se la riconciliazione non potrà aver luogo, bisognerebbe, cari miei signori, sospendere e differire lo scontro. Non è vero? È una tale diavoleria che è meglio non vedere. Parlate di tutto questo con von Koren. Io non conosco le leggi che regolano i duelli. Che il diavolo se le porti? E non le voglio conoscere. Forse egli crederà che Lajewski abbia paura e sia ricorso a me perché impedisca il duello. Del resto, pensi quel che vuole. Meglio parlargli. Saskowski, titubante, zoppicando leggermente come se avesse una gamba intorpidita, si diresse verso von Koren e mentre camminava ed emetteva piccoli colpetti di tosse, tutta la sua figura dava la sensazione della pigrizia. Ecco ciò che io mi sento in dovere di dirvi, signor mio. Cominciò osservando con attenzione la camicia a fiorami dello zoologo. È una cosa confidenziale. Io non conosco le leggi del duello. Il diavolo se le porti e non desidero conoscerle. Perciò non parlo come un padrino e via dicendo, ma soltanto come uomo. Sì, e con questo, quando i padrini propongono la riconciliazione, gli avversari, secondo la tradizione, non li ascoltano, considerando le loro esortazioni come una semplice formalità imposta dalla legge. Ma io vi prego umilmente di mettere a parte ogni amor proprio e di guardare con attenzione il vostro avversario. Egli oggi non si trova in condizioni normali, per così dire, e fa pietà. Ha avuto una disgrazia. Non posso soffrire, i pettegolezzi, vi galantisco. Saskowski arrossì e si guardò tutto intorno. Ma di fronte al duello mi sembra necessario di dirvi tutto. Ecco, ieri sera in casa di Miriudov, leiavski ha sorpreso la sua dama con un signore. Che porcheria, mormorò lo zoologo. Impallidì e sputò rumorosamente. Il suo labbro inferiore incominciò a tremare ed egli si scostò da Saskowski, come se volesse far capire che non intendeva ascoltar altro. Poi, come se distrattamente avesse assaggiato qualche cosa di amaro, sputò di nuovo con rumore e guardò per la prima volta in quella mattina il suo avversario con uno sguardo pieno di odio. Quindi il suo imbarazzo e la sua agitazione disparvero e raddrizzando la testa disse a voce alta. Signori, che attendiamo ancora? Perché non cominciamo? Saskowski, stringendosi nelle spalle, scambiò uno sguardo con gli ufficiali. Poi disse forte senza rivolgersi ad alcuno. Signori, noi vi proponiamo di riconciliarvi. Ma finiamo presto con tutte queste formalità, disse von Koren. Avete già parlato della riconciliazione. Quante altre raccomandazioni avete ancora? Ditele tutte insieme e fate presto, perché il tempo passa. Ma noi, nonostante tutto, insistiamo sulla riconciliazione, disse Saskowski con voce imbarazzata, come un uomo costretto ad occuparsi contro voglia degli affari altrui. Arrossi portò la mano al cuore e continuò. Signori, noi non vediamo con esattezza non solo le cause, ma anche il legame fra l'offesa e il duello. Tra l'offesa, che talvolta per mancanza di un sufficiente controllo su noi stessi ci scagliamo reciprocamente, e il duello non esiste nulla di comune. Voi, che avete la istruzione universitaria e che siete uomini colti, naturalmente non potete vedere nel duello che è una sorpassata e vuota formalità e via dicendo. Anche noi lo consideriamo così, altrimenti non saremmo venuti. Perché la nostra coscienza non può permettere che due uomini, noi presenti, si sparino l'uno contro l'altro e così via. Asciugandosi il sudore sul volto, egli soggiunse, signori, ponete fine dunque al vostro malinteso, datevi la mano e andiamo a casa per bere un bicchierino, in onore della vostra riconciliazione. Così sarà bene, vi do la mia parola, signori. Fonkoren taceva, Lajewski, accorgendosi che lo guardavano, disse, io non ho nulla contro Nicola Vasilievich, se egli trova che io sono colpevole, sono pronto a presentargli le mie scuse. Fonkoren si offese e disse, da tutto questo, signori, io devo concludere che vi farebbe comodo che il signor Lajewski tornasse a casa da perfetto cavaliere, ma io non intendo procurare a voi e a lui un simile piacere. Ditemi, vi prego, era proprio necessario alzarsi così presto, correre per dieci miglia fuori dalla città, soltanto per bere alla riconciliazione, fare uno spuntino e spiegarmi che il duello è una formalità sorpassata. Il duello è quello che è, e non bisogna renderlo più stupido e più falso, come fate voi. Io desidero battermi. Successe un silenzio generale. L'ufficiale Boico trasse da una cassetta due pistole, una di esse fu passata a Fonkoren e l'altra a Lajewski, e solo allora l'inesperienza di tutti i presenti, causò un attimo di confusione che rese di buon umore lo zoologo e i padrini. Siccome nessuno di loro aveva mai partecipato ad un duello, non ce n'era uno che sapesse esattamente dove dovessero collocarsi gli avversari e cosa dovessero dire e fare i padrini. Infine Boico se ne ricordò e sorridendo incominciò a spiegare. Signori, chi ricorda i particolari del duello descritto da Lermotov? Chiese ridendo Fonkoren. Anche Turgenev parla di un duello fatto da Bazarov. Ma che volete ricordare? Disse con impazienza Ustimovic, fermandosi. La questione sta nel misurare il terreno, ecco tutto. E fece tre passi in avanti, quasi per mostrare come bisognava misurare. Boico contò i passi del suo compagno, sguainò la sciabola e segnò il limite ai due punti estremi. I due avversari occuparono i loro posti nel silenzio generale. Ecco le talpe, pensò il diacono, stando tra i cespugli e ricordando la conversazione avvenuta con Fonkoren. Saskowski disse qualche cosa, poi di nuovo intervenne Boico con le sue spiegazioni, ma Lajewski non sentiva o piuttosto non riusciva a capire quel che dicevano. Al momento opportuno armò il cane ed alzò la pesante e fredda pistola con la canna in alto. Si era dimenticato di sbottonare il pastrano e si sentiva stringere forte alle spalle e sotto le ascelle, mentre il suo braccio si alzava goffamente come se la manica fosse di latta. Poi si ricordò di quel suo scatto di odio avuto alla vigilia e pensò che persino sotto la spinta immediata dell'ira e dell'odio non avrebbe potuto sparare contro un uomo. Continuava a sollevare la pistola sempre più in alto, temendo che la palla impensatamente potesse colpire il suo avversario, ma nello stesso tempo si rendeva conto che la sua generosità, troppo palese, non era delicata e cavalleresca, pur non potendo né sapendo agire diversamente. Guardava il volto pallido, illuminato da un sorriso beffardo dell'avversario, evidentemente sicuro di non correre alcun pericolo e persuaso che egli, Lajewski, avrebbe sparato in aria. Era quasi contento perché grazie a Dio tutto doveva finire presto ormai. Bastava solo premere un pochino il grilletto. Sentì d'un tratto un forte rinculo alla spalla. Rintronò un colpo e dai monti l'eco rispose imitando lo sparo. Anche von Koren armò il cane e guardò verso Ustimovic che continuava a passeggiare con le mani di dietro e senza prestare attenzione a quel che avveniva. Dottore, disse lo zoologo, abbiate la bontà di fermarvi. Non fate il pendolo perché mi fate venire le traveggole. Ustimovic si fermò e von Koren prese di mira l'avversario. È finita, pensò Lajewski. La pistola puntata direttamente sul suo volto, l'espressione di odio e di disprezzo che si manifestava nella posa e in tutta la figura di von Koren, il possibile omicidio che stava per commettere in pieno giorno, un uomo per bene in presenza di altri uomini ugualmente onesti, il silenzio religioso del luogo e la stessa forza ignota che costrinseva Lajewski a rimanere fermo invece di fuggire, tutto questo era stranamente misterioso, incomprensibile e terribile. Egli stava fermo e rifletteva. Il tempo necessario a von Koren per mirare parve a Lajewski più lungo della notte ultimamente vissuta. Egli rivolse uno sguardo supplichevole ai padrini, ma questi stavano immobili ed erano mortalmente pallidi. Ma spara, spara in fretta, pensò Lajewski, sentendo nello stesso tempo che il suo volto pallido, tremante e pietoso doveva ispirare a von Koren un odio ancora più forte. Ora lo ucciderò, pensava lo zoologo mirando alla fronte dell'avversario e tastando già con il dito il grilletto. Sì, certamente, lo ucciderò. Egli lo ucciderà, si udì d'un tratto un grido disperato nelle vicinanze. E quasi a conferma di queste parole rimbombò paurosamente uno sparo. Vedendo che Lajewski continuava a stare dritto, tutti si volsero dalla parte donde proveniva il grido e scorsero il diacono, mentre stava in mezzo al gran turco, sull'altra riva, pallido, coi capelli bagnati, incollati alla fronte e alle guance, fradicio e infangato. Egli sorrideva stranamente ed accitava il suo cappello zuppo di acqua. Saskowski rise di gioia, poi si mise a piangere e si appartò. Poco tempo dopo Foncoren e il diacono si incontrarono presso il ponticello. Il diacono era agitatissimo, respirava con difficoltà e manifestamente sfuggiva l'occasione di guardare dritto negli occhi. Si vergognava della sua paura e della sua veste infangata e zuppa d'acqua. «Mi è sembrato che abbiate avuto l'intenzione di ucciderlo», mormorò. «Come ciò è contrario alla natura umana? E come ripugna? E voi? Come mai siete qua? Non chiedetemelo», rispose il diacono facendo un cenno con la mano. «Deve essere stato il demonio a sussurrarmi sempre. Va, va! E così sono venuto, e mancava poco che morissi di paura fra il gran turco. Ma ora Dio sia lodato, Dio sia lodato. Sono molto contento di voi. E anche il nonno Tarantola, il nostro buon Samoilenco, sarà contento. Che ridere, che ridere! Soltanto fatemi un favore. Non dite nulla a nessuno della mia presenza qui, se no mi capiterà qualche guaio da parte dei miei superiori, e sono capace di dire che ho fatto da padrino ad un duello». «Signori», gridò von Koren, «il diacono vi prega di tacere circa la sua presenza qui, se volete evitargli delle seccature». «Come ripugna un simile atto alla natura umana», ripete il diacono. «Dovete essere generose e perdonarmi, ma vi devo dire che vedendo il vostro volto io non ho avuto alcun dubbio che l'avreste ucciso. Ho avuto una fenomenale tentazione di uccidere quel lazzarone, ma voi avete gridato proprio mentre stavo per sparare, e ho sbagliato la mira. Tutta questa procedura però è effettivamente ripugnante, perché non ci siamo battuti, e mi sento sfinito, mi sento terribilmente stanco. Andiamocene». «No, caro, mi dovete permettere di andare a piedi. Ho bisogno di asciugarmi, sono fradicio e intirizzito». «Fate come volete», rispose lo zoologo, salendo in carrozza e chiudendo gli occhi. «Come volete». Il tartaro Kerbalai non si scostava dalla vettura, e tenendosi il ventre con le mani, faceva degli inchini profondi e mostrava i denti nel sorriso ai signori che si preparavano per partire. Egli aveva creduto che tutta quella gente fosse venuta per ammirare la natura e per bere il tè, e non capiva perché mai si accingessero al ritorno senza ricorrere ai suoi servizi. Il corteo si mosse tra il silenzio generale. Solo il diacono rimase presso l'osteria. «Venire a osteria, bere tè», disse il diacono a Kerbalai. «Ma volere mangiare». Kerbalai capiva bene il russo, ma il diacono era persuaso che il tartaro l'avrebbe capito meglio, se egli gli avesse parlato allo stesso modo come la maggioranza dei tartari si esprime in russo. «Cuocere frittata, dare formaggio». «Vieni, vieni, Pope», rispose Kerbalai salutando. «Ti darò tutto. Ho formaggio, vino. Mangerai quel che vorrai». «Com'è in tartaro la parola Dio», chiese il diacono nell'osteria. «Il tuo Dio e il mio Dio sono la stessa cosa», rispose Kerbalai, non avendo compreso la domanda. «Dio è uno per tutti e soltanto gli uomini sono diversi. Alcuni sono russi, altri turchi, altri ancora inglesi. Ci sono molti uomini di ogni razza, ma il Dio è unico». «Bene, e allora perché voi, musulmani, considerate i cristiani come vostri secolari nemici, se tutti i popoli adorano un solo Dio?» «Perché ti arrabbi», chiese Kerbalai, prendendosi il ventre fra le mani. «Tu sei un Pope, io un musulmano. Tu dici voglio mangiare, io te ne do. Soltanto i ricchi distinguono qual è il tuo Dio e qual è il mio. Per i poveri tutto è uguale. Mangia, ti prego». Mentre nell'osteria aveva luogo questa conversazione teologica, Lajewski ritornava a casa ricordando come gli fosse stato penoso fare quella strada all'alba, quando tutto intorno le rocce e le montagne erano fosche e bagnate dalla pioggia notturna, quando il futuro ignoto gli si presentava terribile, come un abisso di cui non si veda il fondo. Ora invece le gocce di pioggia sospese agli steli d'erba e sulle rocce brillavano al sole come diamanti. Tutta la natura pareva sorridere di gioia e il fosco futuro era diventato irrimediabilmente un passato. Lajewski osservava il viso tetro e piangente di Szeskovski, le due vetture che correvano davanti a lui portando von Koren, i suoi padrini e il dottore, e gli sembrava come se tutti loro tornassero da un cimitero, dove poco prima avessero sepolto un uomo uggioso e insopportabile che impediva a tutti di vivere. «Tutto è finito ormai», pensava a proposito del suo passato, accarezzandosi con cautela il collo, dove sul lato destro presso il colletto gli si era formato un piccolo gonfiore della lunghezza e grossezza di un dito mignolo, ed egli sentiva una sensazione di dolore simile a quella prodotta dalla scottatura di un ferro per stirare. Era rimasto contuso dal proiettile. Giunto a casa cominciò per lui una giornata lunga, strana, dolce e nebulosa, come l'oblio. Lajewski, come se fosse stato liberato da una prigione o da un ospedale, esaminava gli oggetti a lui noti da tanto tempo, e si meravigliava che tutti quegli oggetti svegliassero in lui la gioia infantile che da molti, moltissimi anni, non aveva provato. La diesda Piodorovna, col suo pallore, che la faceva parere fortemente dimagrita, non capiva la sua voce mite e la sua strana andatura. Ella si affrettò a raccontargli tutto ciò che le era successo, e mentre stava parlando, le sembrava che Lajewski non l'ascoltasse attentamente, e quindi non la potesse comprendere, perché se avesse compreso, l'avrebbe dovuta maledire ed uccidere. Invece egli l'ascoltava, accarezzava il suo volto e i suoi capelli, la guardava negli occhi e diceva, non ho che te. Poi stettero seduti per molto tempo nel giardino, vicini l'uno all'altro, tacendo oppure sognando ad alta voce intorno alla loro futura vita felice. Parlavano con frasi brevi e rotte, ed Lajewski parve di non aver mai parlato prima così a lungo, e di non aver mai detto delle cose così belle. Passarono più di tre mesi. Giunse il giorno fissato da Von Koren per la partenza. Sin dalla mattina presto cadevano le gocce di pioggia grosse e fredde, ed il vento fortissimo che soffiava dal nord-est sollevava sul mare alte ondate. Si diceva che con quel tempo il piloscafo non avrebbe potuto entrare nella rada. Secondo l'orario, avrebbe dovuto arrivare alle dieci del mattino. Ma a mezzogiorno ed anche dopo pranzo, Von Koren, che scrutava il mare col binocolo, non riuscì a vedere altro che le grossissime onde grigie e la spessa cortina di pioggia che velava l'orizzonte. Soltanto verso sera la pioggia cessò, e il vento cominciò a tacersi. Von Koren si era già rassegnato all'idea di non poter partire in quel giorno, e stava giocando a scacchi con Samoilenko, quando all'imbrunire l'attendente del dottore annunciò che sul mare erano apparsi dei fuochi e si era veduto un razzo. Von Koren fu preso dalla febbre dei partenti, si mise la bisaccia a tracolla, basò Samoilenko e il diacono, senza sapere perché, girò tutte le stanze, salutò l'attendente e la cuoca, ed uscì con l'impressione di aver dimenticato qualche cosa dal dottore, oppure proprio alloggio. Sulla strada egli camminava a fianco di Samoilenko, gli seguiva il diacono con una cassetta, e dietro a lui si trascinava l'attendente con due valigie. Soltanto il dottore e l'attendente riuscivano a distinguere sul mare delle piccole luci, mentre gli altri non potevano vedere nulla fra le tenebre. Il piroscopo aveva gettato l'ancora assai lontano dalla riva. «Caminiamo più presto», diceva frettandosi Von Koren, «ho paura che parta subito». Passando vicino ad una piccola casetta tra finestre, dove Lajewski si era trasferito dopo il duello, Von Koren non seppe trattenersi e gettò un'occhiata nell'interno. Il suo avversario stava seduto alla tavola, volgendo la schiena alla finestra, e scriveva. «Io mi meraviglio», disse dolcemente lo zoologo. «Come si è cambiato quest'uomo?» «Sì, è degno di ogni ammirazione», confermò Samoilenko. «Egli sta così dalla mattina alla sera, sta sempre seduto e lavora. Vuol pagare tutti i suoi debiti e vive peggio di un mendicante». Passò un attimo di silenzio, durante il quale lo zoologo e il dottore ed il diacono si fermarono presso la finestra per guardare Lajewski. «E così non è partito di qua, poveraccio», disse Samoilenko. «Ti ricordi come si affannava?» «Sì, è cambiato molto», ripete Von Koren. «Il suo sposalizio, questo lavoro da galeotto per un tozzo di pane, questa sua nuova espressione del volto e persino la sua andatura sono per me, fino a tal punto straordinari, che io non riesco a me ne conto». Lo zoologo prese Samoilenko per le mani e continuò con voce commossa. «Fammi questo favore, riferisci a lui e a sua moglie, che prima di partire ho ammirato la loro vita e ho augurato a loro ogni bene, e pregano, se gli sarà possibile, di non serbare un cattivo ricordo di me. Egli mi conosce e sa che se io avessi potuto prevedere allora il suo cambiamento avrei potuto essere il suo miglior amico. «Va da lui e salutalo», disse il dottore. «No, non mi pare opportuno. Perché? Dio solo sa se vi rivedrete mai più». Von Koren riflette e disse «è vero». Samoilenko bussò leggermente alla finestra. Laievski trassalì e si volse. «Tania, Nicola Vasilievich desidera salutarti», disse Samoilenko. «Egli parte fra pochi minuti». Laievski si alzò ed andò ad aprire la porta. Samoilenko, Von Koren e il diacolo entrarono in casa. «Mi trattengo un minuto solo», cominciò a dire lo zoologo, mentre si toglieva le soprascarpe nel corridoio, rimpiangendo già di aver ceduto ad un impulso sentimentale e di essere entrato senza invito e pensando che questo atto poteva essere interpretato in un senso stupido. «Scusate se vi disturbo», soggiunse seguendo Laievski, che era entrato nella sua stanza. «Ma io parto ora e qualche cosa mi ha condotto qui da voi. Dio sa se ci vedremo ancora». «Sono lieto. Prego umilmente di accomodarvi», disse Laievski, porzendo agli ospiti le sedie, come se desiderasse sbarrare loro la strada e rimanendo in mezzo alla stanza. «Ho fatto male a non entrare solo», pensò Von Koren e disse «non ricordatemi male, Ivan Andrievich. Dimenticate il passato. Certo è impossibile, esso è troppo triste ed io non sono venuto qui per scusarmi oppure per dimostrarvi che non sono colpevole. Ho agito sinceramente e finora non ho cambiato le mie convinzioni. In verità devo riconoscere d'essermi sbagliato nei vostri riguardi e ciò constato con grande mia gioia, ma è destino degli uomini, inciampare anche su una strada liscia. Se si può non sbagliare nella sostanza, si sbaglia nei particolari. Nessuno conosce la verità vera». «Sì, nessuno conosce la verità», ripete Laievski. «Ed ora vi saluto. Che Dio vi dia ogni bene». Von Koren tese la mano a Laievski, che la strinse inchinandosi. «Non serbate di me un cattivo ricordo», soggiunse lo zoologo. «Salutatemi vostra moglie e ditele che sono spiacentissimo di non averla potuta vedere. Essa è in casa». Così dicendo, Laievski si avvicinò alla porta e chiamò «Nadia, Nicola Vasilievich, desidera salutarti». Nadiesta Fiodorovna entrò e si fermò verso la porta guardando timidamente gli ospiti. Essa aveva l'aspetto di una scolara del ginnasio, al momento in cui riceve una sgridata, e il suo volto prese un'espressione di colpa e di spavento. «Parto subito, Nadiesta Fiodorovna, e sono venuto per dirvi addio». Ella gli tese la mano con esitazione e Laievski si inchinò. «Però come fanno pena tutti e due», pensò Von Koren. «Deve essere gran sacrificio per loro questa vita». Poi chiese «Non avete bisogno che vi mandi qualche cosa da Mosca o da Pietroburgo?» «Che cosa?» disse Nadiesta Fiodorovna e allarmata scambiò uno sguardo col marito. «Nulla, mi pare». «Sì, nulla», confermò Laievski fregandosi le mani. «Salutate tutti». Von Koren non sapeva che cosa potesse e dovesse ancora dire, mentre prima, nell'attimo di entrare, era convinto di poter dire molte cose buone, cordiali e importanti. Strinse la mano a Laievski e a Nadiesta Fiodorovna, senza dire una parola, ed uscì da quella casa con un senso di pena nell'anima. «Che gente!» diceva il diacono a mezza voce camminando dietro a Von Koren. «Dio mio, che gente! In verità è la mano di Dio che ha piantato questa vigna. Signore, signore! Uno ne vinse mille e l'altro turbe intiere!» Nicola Vasilievich disse solennemente «Sappiate che oggi avete vinto il più grande nemico degli uomini, l'orgoglio!» «Basta, diacono, che vincitori siamo io e lui! I vincitori guardano come le aquile, mentre egli fa compassione. È timido, abbattuto e saluta come una figurina cinese. Ed io, io sono triste!» Sentirono dei passi dietro loro. Era Laievski che li raggiungeva per accompagnare Von Koren. All'embarcadero trovarono l'attendente con le valigie e quattro rematori che stavano ad una certa distanza. «Però, tira vento! Brrr!» disse Samoilenco. «In alto mare deve esserci la tempesta. Secondo me fai male a partire con questo tempo, Colia! Io non soffro il mal di mare!» «Ma non parlo di questo! Non vorrei che questi imbecilli ti lascessero andare a fondo! Avresti dovuto partire con la scialuppa della gente!» «Dov'è la scialuppa della gente?» gridò ai balcaiuoli. «È partita, eccellenza! E quella della dogana? È partita anche quella!» «Perché non ci avete avvertiti, pezzi di tangheri?» disse con rabbia Samoilenco. «Non ti adirare! Fa lo stesso!» disse Von Koren. «Addio! E che Dio vi conservi!» Samoilenco abbracciò Von Koren e lo segnò per tre volte. «Non ci dimenticate, Colia! Scrivi! Ti attenderemo a primavera!» «Addio, diacono!» disse Von Koren stringendogli la mano. «Grazie per la vostra compagnia e per le buone conversazioni. Quanto alla spedizione, pensateci!» «Sì, anche in capo al mondo!» disse ridendo il diacono. «Io non sono mai stato contrario!» Von Koren riconobbe nelle tenebre la Jebski ed in silenzio gli tese la mano. I rematori erano già scesi nella barca e la trattenevano a stento perché non sbattesse contro la parafitta, benché il molo proteggesse la rada dalle grosse ondate. Von Koren scese la scala, saltò nella barca e si accomodò al timone. «Scrivi!» gli gridò Samoilenco. «Abbi cura della tua salute!» «Nessuno sa la verità vera», pensava la Jebski, alzando il bavero del suo pastrano ed infilando le mani nelle maniche. La barca doppiò decisamente l'imbarcadero e si diresse a largo, scomparendo tra le onde, ma poi ad un tratto risalì su un'alta cresta, così che si potevano distinguere nettamente gli uomini e persino i remi. Essa proseguivano avanti e le onde la rigettavano indietro. La forza degli uomini lottava contro l'elemento. «Scrivi!» ripetesse Samoilenco. «Il demonio ti ha consigliato di partire con un tempo simile!» «Sì, nessuno conosce la verità», pensava ancora la Jebski, guardando con angoscia il mare, immerso nelle tenebre ed agitato. «La barca viene riportata indietro», pensava. «Fa due passi avanti e l'onda la riporta un passo indietro. Ma i rematori sono tenaci, muovono i remi senza stancarsi e non temono le alte onde. La barca avanza sempre, già non la si scorge più. Prima di mezz'ora i rematori vedranno chiaramente i fuochi del piroscafo e fra un'ora la barca s'accosterà alla gigantesca mole. Così avviene anche nella vita. Nella ricerca della verità, gli uomini fanno due passi in avanti ed uno indietro. Le sofferenze, gli errori e la noia della vita, li gettano indietro. Ma la sete di verità e la tenace volontà li spingono in avanti, in avanti. E chissà, forse riusciranno a raggiungere la verità vera. «Addio!» gridò di nuovo Samuilenko. «Non si vedono più. Non possono sentire», disse il diacono. «Buon viaggio!» La pioggia riprese lentamente.